Ah, Federico non voleva si sapesse che il suo compleanno era ieri! 3, 2, 1... Hello! Ciao amici, buongiorno! Quanta gente c'è oggi in questa... E come al solito l'unico a fuoco è Emiliano, guardalo lì! Questa camera è molto particolare con le messe a fuoco, perciò dovremmo anche capire un attimino come regolarci. Allora, intanto metto delle luci dietro un pochino più carucce, che sono le seguenti, alzo un attimino quale luci... E comunque è a fuoco Emiliano, va bene! Capisco, 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 videocamera. Cosa sbadigli tu? Vieni un po' più avanti, così forse... No, forse è fuoco chiara. Ciao amici, buongiorno! No, vieni un po' più qua se sei dietro la chat. È che abbiamo le siti da gamer che sono enormi, quindi... Oggi tu, Cristina ed Emiliano, mi hai detto di un bacettone da partire tutta Torino. Questa Cristina! Dovete sapere che abbiamo pranzato al sushi e quando io pranzo è festa nazionale, quando io non pranzo salta per aria Torino. Sta con secuzio di cose! È white, perché white è di Torino e quindi esplode lei e tutta Torino è in panico. La vostra sopravvivenza torinese dipende da me. Torino salva anche oggi. Sono di Torino, confermo il bacettone. Oggi abbiamo un sacco di cose da fare e da vedere, faremo un piccolo elenco. Ma prima dell'elenco, una presentazione, se c'è qualcuno di nuovo qui che non ha mai conosciuto queste dolci persone. Siamo tanti! Questa sedia! Scusa, scusa, scusa! Con il tuo piede! Con il tuo piede! Pensa al piede! Siamo tanti! Siamo boni! Allora, in ordine di lettura, alla mia destra, alla vostra sinistra, lei è Chiara Pupa! Yeah! Sui social trovate come chia.rar e se schiacciate in chat c'è un comando. Il comando è Chiara esiste e noi cichi beprei, ovviamente. No, che carini! Però dovrebbe esserci anche punto esclamativo Cristina, dovrebbe partire lo stesso identico. Sì! Eccolo lì, eccolo lì, punto esclamativo Cristina. E c'è anche Sabaku. Quando abbiamo fatto la live insieme, in chat mi hanno detto, Michele lo sai che c'è un comando su di te? E io ero tipo, no raga, che comando c'era su Michele? E' una gran figura di merda perché... BTS che scopano! Sono sette? Sono sette! Che meraviglia! Ci schiacci J-Taz e invece J-Taz che scopa. Fa molto ridere, fa molto ridere. E invece fra le due fanciulle c'è il caster di League of Legends, nonché partecipante, come Chiara, del video che vedremo, nonché grande fan di Elder Ring più che di Nintendo. Nintendo è mera curiosità anche da parte mia. Emiliano! Moonboy! Che anche lui ha un comando perché ogni volta che spunta in questa camera si vede... Lui fa sempre questo. Di solito entra e fa, è la stupetta accesa? E io gli dico, sì, la puoi spegnere? Va bene, grazie. Fa così e poi va via. E di solito è per Yusam il punto, il dito medio. Chiara, per chi mi hai preso è ovvio che ne ho messo i sette che scopano. Bravissimo. Bravissimo Yusam! Chi è qui per Emiliano? Chi è qui per Chiara? Facciamo i team. E' Diddy. Orbulon! Ciao Diddy! E' Diddy! Era Diddy perché è di Roma! Dai! Ho scoperto ora? No, l'ho già scoperto. Sicuramente me lo avevano già dimenticato in tutte queste situazioni di tante persone nella mia live e nella mia chat. Oh, Diddy! Team tutti tranne Roberta! Ma come? Non importa! Va bene così! Va bene lo stesso! No! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Sono qui di corsa visto che oggi le ripetizioni. Recupero impaste, necessitavo la benedizione di Chiara. Giusto! C'è un botto di gente che è qua per delle benedizioni. Il musical che devi fare! Eh sì! Cioè fai delle audizioni per un musical, partecipi già a un musical, stai scrivendo un musical, fare ha così tante accezioni diverse. In bocca al lupo per ognuno di questi! Tipo sulle divinità greche, per caso anche tu! Ah! Quella detto epic! Faccio Gaston! Non esiste qualcuno più duro! Che bello! E' bellissimo! Siamo Team Roberta tutti gli altri giorni, però oggi possiamo tifare qualcun altro! Va bene! No, no! Ma tanto sono pure fuori fuoco! Pure la camera ha deciso che deve essere così! Mi chiedo se, per caso, è possibile che... No! Non è possibile! Non importa! Se lo dice Gabri... Allora ok! Intanto dovrebbe avermi messo la storia, quindi posso effettivamente chiudere! E ragazzi oggi c'è un botto di roba! Eh... Provo ad elencarvela! Perché il main focus della giornata di oggi era la reaction al video fatto da Gabritos, quindi meravigliosa montaggio che stiamo per vedere di Gabritos! Gabritos si merita una reaction dal vivo e siamo qui per tutti i partecipanti di questo video! Che è il video già fatto in live, quindi un gameplay già esistente, di WarioWareMovit! Gioco della Madonna! Incredibile! Come Ozzy! Ahahahah! Come Tic! Come Ozzy! Poi imito anche te nelle storie, così fai poco il simpatico! Perché tu fai sempre così col dito! E nonostante questa cosa io l'avessi chiesta a Chiara, ci sei mercoledì prossimo? E quindi... Due settimane fa tipo! Due settimane fa, tutti quanti gli altri brand hanno rizzato l'orecca e ha detto O facciamo uscire un Direct, o diamo notizie del DLC più atteso della storia da un giorno all'altro! Tutto oggi ragazzi, tutto oggi, in questo momento ci sono 23 minuti di Nintendo Direct da vedere insieme C'è puzza di Pokémon! Tra una settimana sapremo! Oggi no! 23 minuti! Perché ho visto il video che hanno appena pubblicato, tra le 23 minuti e 50 secondi E alle 4 invece vedremo in diretta l'annuncio di Elden Ring Cosa ci sarà nel DLC? Già lo sappiamo Quando ci sarà il DLC si parla di una data che verrà confermata o meno da Alessandro Borghese Che può ribaltare la situazione, si sa Certo E dopo questo malloppone di nuovo vedremo il video Dopodiché, a fianco a me, non Emiliano, c'è una grande fan di Arsby Hotel Quindi, voglio dire, perché non chiedere anche a Chiara le sue impressioni Nonché le famose domande di Rito Io l'ho chiesto a tutti Ok Preparati già le risposte Io chiedo sempre a tutti, personaggio preferito o canzone preferita Ok, pronta Perfetto, a posto Tutto questo verrà dopo Già so Questo è il... Anche io, dalla tua immagine e profilo Questo è l'ordine delle cose Oh, questo è un twist allora Bendy è tra di voi Quindi c'è anche lui in caso da dire Di sicuro ci sarà la birra in Elden Ring Punto esclamativo Eresab, raga Perché quando c'è tanta gente Io leggo Eresab e Eresab alla fine Perché voi siete tanto cari e tanto dolci Che fate tante Eresab durante le mie live Per non interrompere me e non interrompere gli ospiti Di solito faccio un bel accumulo Le leggo tutte prima C'è il video del direct già caricato per intero senza premiere Puoi scrollare tutta la timeline Ok, non c'è un singolo annuncio interessante Vabbè, ma magari c'è un singolo Uno solo interessante Di solito, tutti gli altri no Ciao Bafio comunque Come stai? Bafio Scoiattro, grandi fan di Power Pizza Sono... Bafio l'ha seduto accanto a noi Durante Power Pizza È quello che sembra che apparezza Ah, ciao! Hello! Fan di Power Pizza Non dirò nient'altro Bafio era... nel... Era... Era Bafio che era tipo Tra le prime posizioni della lega di Fanta Sanremo Di chi gioca ciao Era un nome Power Pizza che ricordavo E Bafio è uno dei nomi Power Pizza che ricordavo Posso dirtelo... Scopriamolo Bafio era Bafio Metto Bafio Rezza Ciao altri fan di PPP Noi siamo tutti fan di PPP Fan di PPP E non solo E non solo Esatto Non solo Serpentius Io intanto Ne approfitto di questa situazione dove sono a fuoco incredibile Per mettere un attimo internet con i video pronti Stavo avendo un piccolo problema ragazzi Che spero di riuscire a risolvere adesso Perché non mi piglia l'audio delle casse Sto per scoprire se... Bafio 13 Lo prende Nella lega di Gagasiao Bafio 13 Si vede che fino all'ultima giornata era un pochino più in alto Perché lo vedevo... Molto bene Prende l'audio Quindi tutti i nostri problemi si sono risolti incredibilmente Ma sarà a partire Penso che fosse un problema di scene di OBS che si dovevano riaggiornare Quindi in questo momento se faccio play Sento Peggy 18 Minchia Peggy 18 su Nintendo Direct Che cazzo è? GTA? Non lo so Aspetta che... Abbasso un po' l'audio in uscita Così loro ci possono sentire E è tutto pronto È tagliato Tu sei tagliato Sei tagliato per fare il moderatore in questa chat ovviamente Sei bravissimo Ma allora vediamo un po' come mai è tagliato Ok oggi 16 noni funziona Molto bene No Peggy 18 Bafio! Ma come? Spero sia Sesso 2 Esce Sesso 2 su Switch Sicuramente Peggy 18 La tua faccia è tagliata Peggy 18 all'interno tutto bene Le presentazioni le abbiamo fatte La chat è pronta Per arrivare in tempo a Elder Ring Io direi di iniziare subito con questi 23 e 28 minuti No perdiamo altro tempo No no per Elder Ring non possiamo fare del delay Let's go Andiamo andiamo Siete pronti? Diciamo qualche altro messaggio di Yusam Sicuramente non è interessante Yusam Cosa ne pensi di questo dissing? Tu sei d'accordo? Io bevo intanto Abbiamo lasciato un sacco di acqua sul tavolo già al sushi Secondo me ce n'era altre Potevamo mettercelo in borsa È vero Mi ha venuto poco Mi sa che Luca Chiera mi aveva dato del Nandor de Relent 3 È questa roba vostra Io non so niente Neanche io Allora no Apriamo una parentesi Bene! Pronti per il direct ragazzi Incredibili avventure che ci aspettano sul mondo di Nintendo Let's go L'audio vi sembra spaccatimpani? Sei suscettibile Che fastidio Welcome to today's Nintendo Direct Partner Showcase In this presentation Va bene We're focusing on Nintendo Switch Games Launching in the first half of 2024 From our publishing and development partners Prima età del 2024 Cosa? Ti prego Come lo sentiamo dalle casse? Nooo No È dalle casse? Sì Eh Ah perché rientra un po' Scusate se io faccio così Ancora sto grounded Ma basta! Ma basta grounded Meglio dalle tasse Ok devo abbassarlo molto allora Così Ok Ho risolto Sono una grande Questo grounded ragazzi È uscito 3 anni fa sul computer Va bene Ci giocavamo io e mezzo in early access È carino No Però ho ancora questo grande Basta Ha 3,60 Sì tra l'altro È in HD raga Ha 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 Ups Eh vabbè The Switcher Lo conoscete? No Ha un bel trigger warning sui gli insetti Ci sono tanti ragni Tante formiche giganti Sì Tantissimi È caruccio Perché è un'avventura dove sei piccolo e Eh E gli insetti no Però combattere con gli insetti bello realistico forse sono i laser e sono i laser del rimpicciolimento molto carino il logo i ragni sono cuccolosi ok i filmes non le de filmes angelinus perché curolini cosa era l'endofiumes o endermagnolia che è il titolo ma è un platform a lavori però è limbo benissimo che buono è mattina presto io di solito di solito torno a quest'ora che mi sveglio alle 15.17 no ma va prima resti a letto fino alle 3 si 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 che bella la vita deve essere become your companions and lending boh ragazzi ora sono diventate un po' picchi ma mi sembra un po' tanta roba già vista quindi non è una di quelle cose che comprerei e giocherei ah io ho un metro di giudizio molto semplice vai non è tetris benissimo non c'è anche quella della casa secondo me e questo né tantomeno nel den ring credo ci sarà tetris forse sul peggy 18 forse 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 no questo è 30 di mosse raga ci sono specifici enigmi di leiton che sono paragonabili a quando hai un gioco del 9 si chiama così che per me sono la rovina io sono il mio counter non riesco a fare i video oh triangolo statici no questo è bello questo è molto bello a chi piace il genere no questa è una grafica super bella è molto carina non è tetris ex cuter sembrava qui sembra qui non dei tixilver quei l'epositano dei giochi online dove tipo arriva la dita che è incinta con il tuo figlio e tipo senta il figlio come il tuo oppure buttali per strada caccaglisa addosso monster hunter lo devo dire a loro 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 monster hunter cibi ti becchi anche tu il diamante perla remake prendi questo che dobbiamo essere gli stronzi mamma mia mostrante cose più accessibili che cucciolini che cuccioli quanti giochi stanno annunciando tra l'altro di un altro 60 secondi a videogioco ma questo non è si si questo è un altro oddio ragazzi c'è un gioco per computer che è incredibile se è questo urlo c'è un animo stil cosa stai dicendo 25 marzo è quello dove lui diventa cattivo vi giuro che c'è un gioco è lui è quello dove lui diventa cattivo come cazzo si chiama vediamo se è quello oh mio dio io amavo sto gioco si chiamava polino diventa cattivo si esatto no raga no non è questo è questo è questo io amavo sto gioco da piccola ok forse non è quello se lo è non lo sto riconoscendo però lo giocherei vi giuro lo giocherei sembra un gioco per PS2 ma lo giocherei perché ce n'è uno dove c'è una trama incredibile e c'era l'alter ego di Mickey Mouse ma mi ricordo sto Epicle Brush è un remake raga è un remake raga c'è un topolino a merda topolino l'infame va bene raga partner showcase ma sto otherwise quindi eh va bene questa collector di otherwise quando mi arriva shimmy gai tensei ok questo piace a voi voi siete molto panna embargo non c'ho mai giocare di shimmy e neanche megan le colonne su no però però i denti di june sì so che bello e quant'anni fa il primo 2020 2020? no ah il dirigele 4 che buono che buono lui questi giochi con i numeri a schermo li metto in una cartella molto specifica della mia memoria che sono ah ok giappone e non li gioco quasi mai perché mi mettono agitazione non mi diverto anche i persona forse hanno i numeri a schermo eh esatto ma questo è una cosa per cui si deve gioire oh my god oh giugno ma che cazzo il 21 giugno sai cosa altresce? oh my god oh my god comunque tutti i cimonegami sono una versione molto molto difficile ah ok ok bello lì cattori unite and fight donna raga mi dispiace perché ama il genere tipo gli ezer ma quando io vedo giochi su star wars l'unica cosa che penso è basta che grande ancora questo ho 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 cioè riguardo penso solo gente che da dai 35 anni in su ancora gioca a star wars ma dove sono? no 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 me ne parla molto bene soprattutto John di persona quindi John che è lì bello sto gioco sai che persona deriva da 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 non sono i port sono i port si sono i port questi si ma tu che ne sei che sei 16 anni sei veramente un ruffiano grazie grazie vaffio che fai queste cose per noi perché se lo farei anche io 8 bit è quello che impida le collette che è mi sa che è qui la prima stagione è la prima stagione è molto bella io difendo Sword Art Online E' molto bella la prima stagione Poi diventa una fanficione Questa è Sbattura in due con la sorella E' molto strano il rapporto con il fratello e la sorella Sinceramente La tetto è una vera e la sorella La ragazza ha capelli arancioni Ancora ma chi ci gioca? Vabbè ragazzini si sono I persone dai 35 anni in su Che hanno Deve essere divertente Non lo sapremo mai La mia toppa di Odderweiss è sopravvisa Ma certo Ma scherzi Paffio Che era una limited Hai preso la roba da 8 bit No 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 Ho più grande cura delle cose Soprattutto del collezionismo Quello ho fatto bene Odderweiss è vero Una vez che ho fatto Si hod proprio mi fanno dire no Leggo un libro Ma questo è il personaggio Il personaggio di Sony Questa è la scimmietta dei giochi guardi I primi giochi guardi della Sony Super Monkey E' un mascotte che ho già visto Ah no allora forse mi sto confondendo Ecco si può stare 45 punti Ma anche voi lo giocavo sui camminati E' una gara che va più indietro Io giocavo sulla mia Nokia Io giocavo Un cartepeno Si si preso una purna durante un rarresto Che sei un dolcino Ma che carini queste Ma parola dentro le palle di gara Pensando alla stessa cosa Queste Rectani ci sono rimasti questi giochi Prima che esca Switch 2 Sono d'accordo Anch'io me li sto vivendo tutti così Nintendo Direct Quando pensate che annunceranno l'altra Switch Benissimo Secondo sia ogni anno Ogni giorno come Nick so Sixxong E come Lord No 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 Non è un secondo Switch Questa vende l'ora di mare Grande il vocalist Cazzo Trova Switch quindi Wow Allora ammetto che mi intriga Ma questa è proprio una grafica Da Flash Game Mobile Game Esatto Mobile Game Mi vedo ogni tanto Un pubblico qui Bene bene Però sembra divertente Sembrano tutti Molto simpatici Sì Sapete cosa sto aspettando Un botto Runtantana Si chiama Un gioco ritmico Si io ne parla spessissimo Che dovevo uscire A un certo punto Questa donna Mi sembrava questo Di Leto Sto vedere un pugno Ma perché con la tuba Mi guarda come si Questa è tua No Fantasy Life Ma non è È di level 5 Infatti Ma questi già li ho visti Mamma mia Ho passato un anno intero A vedere questi stronzi Perché aspettavo Leto Ma anche voi Fanno colgare Con le scimmie Dentro le pane Da grigieto È vero Magari è divertente In molti Allora Fantasy Life Sto seguendo lo sviluppo Perché è sempre Nelle conferenze Dove aspetto Leighton Che è la cilicina Sulla torta Quindi prima Mi becco sempre Fantasy Life E poi c'è Una zooma Eleven E altre cose Sembra molto divertente Ma la mappa Passata Erbetta Arrancita Che non mi piace Per niente Lo fa sembrare Un gioco vecchissimo C'è queste texture Così low poly Però sembra Caruccio È vero È vero Però sembra Un gestionale Dove però Devi anche Devi essere Sì un agricoltore Che però Aiutare a scacciare I mostri Quindi Ti fai proprio La tua vita Lì Aiuti A progredire Il villaggio Beh è vero È vero Però una data Fantasy Life Pensa Dovevo uscire Nel 2023 Era molto carino Come gioco Aveva un gameplay Ibrido Simile Avevi praticamente Il villaggio Dove Manamara Quando andavi avanti Si stabilivano Tutte quante Le personagini Che raccoglievi in giro Ognuno aveva La sua Perk Da offirti Le cose Che gli servivano Per mandare avanti La sua attività Tu uscivi dal villaggio C'era la parte Di esplorazione La mappa Dove c'erano i nemici Poi c'erano i dagli Oooo Ok ok Anche poi finito Ma buona la data Ragazzi È lui È proprio lui Perché è su un palo Perché è uno scolo finto Ma sai che questo gioco Sembra super carino E interessante Ma questo era il Dark Souls Con i granchi Cosa? Non ho mai visto Ma sai che è La grafica migliore di tutti Ma è super carino È anche un po' tipo Ah la spazzatura dei mari Questo per il meme Quasi quasi me lo monterei Ma sembra veramente divertente Che stupidine Ma che simpatico il protagonista Che si mette le scatole Che trova in giro La spazzatura dei mari Al posto della conchiglia Dai questo me lo salvo E per il fifth Bravi Che dicono tutte le date Quando mi dicono Leighton No no oggi Cazzo No Parto nel suo game Sì sì No ormai Leighton è il 2025 Però magari ci scappa anche Lina Duma raga Perché sicuro su Switch Cioè c'è level 5 E poi c'è quasi solo Scusamente su cose di Nintendo Non ci siamo Non ci siamo Non ci siamo C'è questa cosa Che Lo standard grafico Si è alzato E noti così tanto La differenza Che ci ha reso Veramente Viziati Oddio Oddio Ma questo gioco è incredibile Ma questo gioco è incredibile Multiplayer Multiplayer No è questo tipo Tedris No io amo questo gioco È il 2024 Non è tipo Tedris È un puzzle È tipo Tedris È 2048 No è In una scala In una scala In una scala È più o meno Perché qua le stesse Immagini Diventano l'immagine È un puzzle Puzzle bubble Puzzle bubble Non è Space Jam No puzzle bubble È quello dove tu devi lanciare La pannina In alto Sì E quando sono dello stesso colore Scompaiono Esatto È lo stesso principio Ma è Verso di 180 gradi Perché qua non scompaiono Dientro solo Un punto di gara È un punto di gara Ok Molto fan io di quel gioco Di cui non ho capito niente Quindi Ah orino Certo Ori and Will O'Wisp Uguale uguale Palese Palese Una trivellina Il gioco del melone Ciao Pions Sono molto fan del gioco Che appena sono presentato Ti giuro Ok Grazie Grande Quale sarei il grande annuncio Di oggi Belli Cavallini Guarda È della game freak Ma non c'è una roba Di game freak Cosa succede con queste carte Quanta roba sto vedendo a schermo Corri i cavallini Ah ma va da fuoco Ecco game freak La potenza di game freak Ma è il font di cookie mama No Ragazzi quel font Ragazzi quel font esiste Di che cos'è quel font Quella specifica cosa Non era forse animal crossing No l'avresti già capito Non lo so Ma era orribile Era quel gioco Però io quel font l'ho già visto Non mi darò pace Qualità cellulare Ma è una cosa francese Momilvero? È uno scotto francese molto famoso Di una Oh Guarda questo Prensa e persia E forse era cookie mama Ma anche secondo me era cookie mama raga Kingdom come deliverance su switch Ok the switcher Let's go Guarda che la pioggia Yes Cont Ah infatti mi sembrava Qual è il running gun più famoso del mondo? Il primo Quello per i capinati Mi sembra una metà zaga Pentiment mi hanno detto tutti di giocarlo Il primo è stato il gatto sul tubo Tutte le cose vanno a lui Chi non come ha due fps 128p Ma si è di mista Grazie delle resab E delle sub nuove ragazzi Io vi ringraziamo tuttissima Alla fine Potete scegliere il vostro personaggio preferito Di cui farvi dire grazie Il grande annuncio Tetris 2 No Sembrava Dark Souls raga Quella è Super Mario comunque Quella è Super Mario raga Quindi non può essere Dark Souls Però sembrava la musica del fallo Sarà qualche cosa Era troppo di unità Sì No sta cazzo la conosco raga Ma non è la musica di Metal Gear 1 scusate No forse è un po' troppo indietro Ma questo pavimento riflesso è incredibile Ma che gioco della madonna era Io conosco sta Perché conosco sta musica raga E basta La Nintendo Switch Online È un bel comparto retro Che non c'è È veramente ben fornito raga Oh Dai 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 Dammi otherwise Un nuovo Zelda Ah lì Non ci interessa Possiamo chiudere Subnautica Tallassofobia Subnautica è fatta così? No Eh che c'è È Pokémon Snap ma colpisce Speriamo Io ho matto Pokémon Snap No È un gioco nuovo? Quello squadro è terribile Madonna santa Ha fatto un po' le luci Google? Ha fatto un po' le luci? Dove si mette? No no Non posso comprare la luci Ah ok Infatti Non ti perdi niente Che non ti stai No vai tranquilla Te lo descriviamo È un MM online Ok 7.5 Too much water Ma che carini Ma le facce di quegli squali Sono veramente Ma guarda Che cazzo di squalo Ma che incubo è? Ma che incubo è? Oh raga Devo ammettere Che È molto carina Come idea In effetti A parte i talassofobici Ovviamente Tra cui qua Chiara Quindi almeno una persona Su tre è talassofobica E noi siamo come Una persona su tre gay È un'idea molto carina Non l'avevano ancora fatta Io probabilmente Io probabilmente Un'occhiatina Ce la darei Perché nuotare tutti insieme È una roba Beh Certo Se gli squali sono tutti così Non dormo la notte Più che per l'acqua profonda È per la faccia di quello squale Un po' specifico Era il fonte di Wii Sports Mr. K Bravissimo Era quello Era quello Era quello È molto bella È un tizio che sogni È di accoppiarsi Con tutti i tipi Secondo me è torto Secondo me non è così Anche il nostro amico Corne È molto molto talassofobico Ma siamo pazzi Guarda che onore Ci sta lì sotto Oh ma sta roba di Topolino Mi ha gasato un botto Ma vi dico Qual era il gioco Di Topolino Antipaticino Anticapitalizzino Non per te Mickey Mouse Game Madonna che brutta roba Immagini Vediamo Allora vi confermo Che era Epic Mickey The Power of Two Usciva per Wii Quindi è un remake E io sono molto fan Di questo gioco Me lo devo ricordare Assolutamente Da zero Voglio rivedere tutto Ma adesso torniamo In camera grossa Mentre aspettiamo 22 minuti Per Elder Ring Ragazzi 22 minuti Vabbè sono pochi Ma sono tanti È già partita Sì La premia Oh fucking Vediamo Porca miseria Porca miseria Porca miseria Eh c'è troppa gente C'è già 60.000 like Santo iddio E la madonna Santo iddio Hai ragione Madonna santa raga Siamo tutti qui Quanta gente c'è 187.000 spettatori Tu sei pazzo a toccare la vedo stile Vai Bravissimo Mamma mia Mamma mia Sono tantissimi Vediamo che cosa succederà 167.000 spettatori Raga vuol dire che ci lagga Come minimo ci lagga Allora Sì sì Vi confermo Il Mickey Mouse Era tanta roba Secondo me Raga Era veramente Era veramente divertente Quel gioco Questa era la vecchia coppettina Del vecchio coso E c'era anche Ah ma questo lo conosco È questo qui È Epic Mickey 2 The Power 2 Bravissimo L'hai giocato? Certo Bravissimo Se no come avrei fatto Conoscerne il nome Quindi io sono l'unica fan Del gioco di Mickey Mouse Evidentemente Tutto il resto Beh allora Devo essere sincera Io non Non c'è mai Troppa pretesa Quando il Nintendo Direct È annunciato Da un giorno all'altro Quindi non si può Neanche ricriminare niente Oh Oh Minecraft Ma che cazzo vuoi? Amico tuo Oh ma che cazzo vuoi? È lui Non so chi sia Ma ma che cazzo vuoi? È iper bannato Non voglio neanche sentire Mio fratello Scrivito Sei iper bannato Io voglio My Sims Un gioco che volevo Tanto da più Era amico suo Evidentemente Non mai Poi era un direct A fine ciclo Il coglione Non farà mai più Cicchibe Domanda Andrei a qualche fiera Durante l'anno A quanto pare sì Abbiamo scoperto Allora Per le fiere Vi dico Finché non ci saranno Le comunicazioni ufficiali Di solito Le fiere Che io dico Sempre A cui voglio andare Durante tutto l'anno Sono Il Comic Con di Napoli La Games Week Di Milano Il Luca Comics Di base queste E poi basta Perché tutte le altre fiere Le ho già viste E riviste E riviste E riviste Non me ne vogliono Le altre fiere Voglio bene A tutte quante Per quello Che è il mio investimento Come content creator Di solito Ho più stimoli E più Opportunità di lavoro Che voglio fare In queste tre Che sono le più grandi Napoli Comic Con Ne ho fatti solo due Ma già Ho un'antissima stima Dell'organizzazione Tutte le altre Di solito Se mi chiamano Vado Se c'è qualcosa divertente Da fare Ultimamente Non lo faccio più Perché è molto stressante Diventando andare a leggere Sempre molto ridere Che tu dici Napoli Comic Con Ne ho fatte due Ma l'altra era Bergamo Il Napoli Bergamo Di Napoli Comic Ne ho fatto due Una Napoli E una Bergamo Allora tre Che è comunque giusto Perché Comic Con è sempre La solita organizzazione Però mi fa molto ridere Napoli Bergamo Ma in realtà Di Comic Con Ne ho fatti veramente Solo due E di Bergamo Napoli Ne ho fatto uno Il problema è che Guarda che mi stanno Imitando tutti adesso Sei proprio No no Non stanno imitando te Ah Emiliano Bila Cosa stai facendo? Niente Tu parla Non ti preoccupare Grazie mille delle sub E delle resub C'era una persona nuova Che si era presentato Scrivendo Ciao Khibe Sono qui dove ho visto Una roba che ho pubblicato Di Advin Hotel Eccomi Hai tantissimi spunti interessanti Posso concludere Oltre che bellissima Sei intelligentissima E fai contenuti di qualità Chi non ti segue Non capisci un caso Grazie mille Avete sentito? Prendi spunto Da quello che dice Questa persona Per cosa? Per dirmi tutti i giorni Che sono valida Intelligentissima E che ti devi guardare Advin Hotel Porca puttana Non penso troppo Beh palle Guardalo Grazie lord Dopo ne Guarda lord C'è un momentino Dove ne parleremo Dopo il The Ring E dopo il video Di WarioWare Perché C'è qui un'altra persona Molto fan E molto competente E con tante opinioni Che non abbiamo ancora sentito I'm a loser Na 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 Che è anche una canzone Dei Big Bang Quanto male Totalmente sì Emiliano Gli rifai l'ultimo gesto? Certo Sto chiedendo Eccolo lì a posto Tutto il mondo Deve guardare Advin Hotel Emiliano Non ha mai visto hotel Non ha mai visto hotel No Ma come osa Ho mai visto in casa Che belle le sub Level 3 Raga Grazie mille È stato abbastanza A me come direct Allora In realtà Quando tu annunci Da un giorno all'altro Un direct Da quel poco Che ne so Sarà il mio decimo direct Ma c'è gente Che si vede direct Dagli anni di Cristo Se dal giorno prima Al giorno dopo Di solito sono Tanti giochi Con date Quindi tu sai Che Si punta Sulla quantità E Nintendo Ha questa cosa Che non fanno In tanti ragazzi Io a questo A Nintendo La smetti La devi smettere Parla Ma smetti La mi distrai Ho la visione periferica Purtroppo Che vuoi che ti dica Adesso ti vedo da lì Non vuoi guardare Nintendo Ha questa cosa Che Solo loro Pubblicano le date Cioè Solo me Sembra Che Solo a me Sembra Che Silk Song Del Ring Ha detto È l'unica cosa A fuoco Vabbè ma certo Ma io faccio i gesti E tu parli Le parole Non devono essere a fuoco I gesti devono essere a fuoco Io faccio La canzone di Sanremo E tu fai quel canale Specifico Per i non udenti Che imita Le canzoni di Sanremo Cazzo vorrei parlare In concetto Dei avrei segni È vero 5 cellulari Nella tua mano Baby Non richiamo E a un certo punto ballano E tu sei tipo Che parola è questa Secondo voi È però molto divertente E quindi niente È sempre molto me Da un giorno all'altro Non mi sembra di ricordare Un Nintendo Direct Che domani esce una cosa E tutti Oh mio Dio Si parlerà per sempre Di questo Direct A meno che Non sia un Direct Per la Switch nuova Cioè ormai tutti hanno capito Che deve uscire una Switch nuova Domani Direct Creators Showcase Switch 2 Tipo Pokemon Che dice Dieci giorni prima Che esce un Direct Potrebbe essere Roba cicciona Perché anche Pokemon Di solito è Domani c'è un Direct Sì tipo cosa? Vabbè il Pokemon Day Non è che C'è un Pokemon Day È vero il Pokemon Day Non è che l'hanno detto ora No 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 È ragione È ragione Però l'hanno annunciato Da poco Perché è il Pokemon Day Perché è chiaro Lo fanno Ne ne ha mai mancato uno Ok allora scusatemi Allora vuol dire Che annunciano roba figa Stavolta Di solito annunciano Tutto quello che fanno E l'hanno Quindi anche spoileroni Tipo stiamo lavorando a Oppure non ti dicono Se non sanno Sì sì Ok Anche perché ormai Cioè Scarlato e Violetto L'hanno fatto Eh purtroppo sì Devo essere sincera Mi mancheranno molto Io sono una delle pochissime A cui è piaciuto Scarlato e Violetto Per i motivi Sensati Quelli fatti bene Ossia la trama Le canzoni Le canzoni I più grandi banger Io li ho trovati Le canzoni Non le colonne sonore Le host volevo dire Le canzoni Tipo tuta gold No Mi puoi mimare I cilieni pieni di zucchero Per favore Le canzoni Le canzoni di Scarlato e Violetto Sono quindi Quella di El Ciran E basta Celestia Ah Madonna Ragazzi Io ho provato Io dovete sapere Che ero contentissima Del finale di Scarlato e Violetto Perché c'era questa Sai Ha vinto l'amicizia Tutti che si abbracciano A Mirai Che cammina Carrellata verso il cielo Tu dici Oh madonna E' finito questo anime Parted Scarlato Io mi sento violata Perché non era mai successo Nella storia dei videogiochi Che gioco io Di Pokémon Che un cantante pop Subentrasse Nella mia Sospensione Dell'incredulità Di un videogioco Che dovrebbe essere Staccato Dai giorni nostri Da cose esistenti Ma come cazzo Ti permetti Di entrare in un videogioco Ma come cazzo Ti permetti Io mi sono arrabbiata Tantissimo Quella canzone è una merda Con Ed Sheeran Anche Hai detto di sia Questa canzone E ma ti piglio anche Il mio odio I miei insulti Potevi dire no Potevo odiare Katie Perry Loro si sono Katie Perry Posto malone Si sono tenuti fuori Si sono tenuti nei videoclip Non credo che Avrò deciso Si fottano Ma non mi interessa Se hanno deciso Ad Sheeran Non è sempre bene Odiarlo a prescindere Non è che mi sembri Un motivo valido Ma io non so niente Questa Ed Sheeran Mi sento violata Devo farci una maglietta Non serve il contesto No no Infatti Certo Povero Ed Ragazzi ma vi pare Che in un videogioco Di pokemon Devono infilarci I cantanti pop Ma come si permettono Ma che cazzo vuol dire Ma poi Ed Sheeran È ancora irrilevante In realtà non tanti Ed Sheeran Sta facendo un pochino La fine di Jennifer Lopez Che continua a cercare Di essere rilevante Ci riesce medio Si ma Jennifer Lopez Almeno è una buona Ed Sheeran È un gnomo Vabbè ma no Body shaming Cioè va bene che Col pretty privilege Puoi fare tutto Però chi se ne fotte Se Jennifer Lopez È buona Tratta malissimo tutti E la odio La odio È una stronza Grazie mille De gustibus E quindi non lo so Ed Sheeran Sinceramente no E la odio Centiforio fa tutti i film Sui matrimoni Amati dalle mamme Dell'universo Pronomi Ed Sheeran Va bene Va bene Tu conosci Ed Sheer Ed Sheer Esatto Conosci Ed Sheeran No Conosci Ed Sheeran Ni Sai qualcosa Di questo dirsi Vagamente No Allora c'è un tizio Che dorme Cioè allora Io in realtà Ho saputo Tutta quanta La fine Di Elden Ring Perché me l'ha raccontata Michele Quando Forse non avevano neanche ancora Iniziato la Blind Run Con Fra Ti ha raccontato tutto Elden Ring? Sì Perché lo sapeva già? Lui si era Dio E mi pare che la loro La loro Veteran Non fosse ancora iniziata Quindi Fra era totalmente In Blind Lui si era già giocato Tutto il gioco In Blind Per i fatti suoi Per fare poi La Veteran Se lui Se la Veteran Non è ancora iniziata Non aveva ancora finito E allora forse era appena iniziata Perché quando ha iniziato Stava ancora giocando Allora lui sicuro L'ha finito Perché mi ha parlato Alla fine Allora Però appunto Fra non sapeva niente Lol E mi ha raccontato Tutto il finale Non ricordo niente Allora Ho messo Devo metterci le mie emoticon Del Chad Però quello è un placeholder Sappiate Devo esserci col mento enorme Praticamente Questo DLC Se non avete giocato Elden Ring ragazzi State per beccarmi Una Madonna di Fire Andate Avete 20 secondi Io quando Ho sempre il pensiero Quando qualcuno dice Vabbè se non volete sentire Schippate a questo minutaggio Oppure se non volete sentire Andate adesso Recuperate Prendete quelle cose Io ho sempre il pensiero Ho sempre il terrore Di qualcuno che magari Sta ascoltando questa cosa Nella doccia E quindi Nell'è sotto la doccia E gli interessa Non può fare niente Se non vuoi sentire Spoiler Schippa a 21 e 47 Sto inizio La doccia Tipo Oh cazzo Oh cazzo Spenge l'acqua C'ha tutte le capelli Insaponati Che esce Prende il telefono Gli scivola via E si becca lo spoiler E clamoroso Quindi Tutto questo tempo L'ho detto Per guadagnarvi tempo Se non vi interessa Elden Ring Andatevene Adesso 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 Ma scusa Spregnete Questo audio Vi do tutto il tempo necessario Per Correre ripari Abbassare a zero il volume Se non avete tempo Di fare altro Michella e Fermoff In stasi Fine Ok ce l'abbiamo Allora C'è anche un altro emotivo Super divertente Che è il Chad Ma che fa il blush Mi fa molto ridere Che è quello così Questo qua E lo vorrei uguale Praticamente In questo In questo Elden Ring In realtà Vabbè Tante questioni Sociopolitiche Molto complicate Perché ci sono Un sacco di persone Con nomi uguali Tra di loro Molto Difficile Ranni Margit Morgoth Marika Radan Radagon Sono tutti così I nomi Che si somigliano Tutti quanti Da un botto fastidio E ci ho messo una vita A ricordarmi tutti Ma La cosa molto importante È che questo DLC Riguarda un personaggio Super misterioso Molto importante Di cui si parla Durante tutto il gioco Santo iddio Te lo infilo nel sedere Sto pugno Durante tutto il gioco Si parla di questa figura Che si chiama Michela Michela Scusate È vero Miquella È scritto Perché si chiama Michela Michela Durante tutto il gioco Ti dicono Era un santo Ha fatto solo cose buone Era incredibile E tu durante tutto il gioco Di tipo Ma lo vedrò Sto tizio oppure no Ok È un certo punto Ed è una tipa in realtà È un tipo No È un tipo È un tipo Io mi ricordo Che c'era un plot twist Un altro È un tipo Che era una tipa Marika È Radagon Paola È Chiara Paola è Chiara Raga Marjit In questo gioco È pieno di Marjit e Margot Marika è Radan Paola è Chiara Chiara è Cristina Chiara è Cristina Michela È un uovo È perché adesso Ti spiego Tu durante tutto questo gioco È Paolo Sei giocato per esempio A Dark Souls Non ci hai giocato Però te lo dico Durante tutto il gioco Si parla della grande figura Di Artorias Questo grande cavaliere Che Ma a un certo punto Capisci che non Non lo vedrai mai Perché è morto E fa parte del passato Ma nel DLC Puoi capire Chi è Lo puoi affrontare Lo puoi sconfiggere Quindi Questo build up È molto intenso Ok Quindi DLC su Michela DLC su Michela Ma come Bloodborne Ha un DLC Di un personaggio Di cui si parla tantissimo Nel DLC Qui sono sempre Molto intensi DLC Sempre molto attesi Costruiti bene Michela In realtà nel DLC Lo vedi Praticamente lui Nel gioco Nel gioco Lo vedi Praticamente Michela È affetto Da una maledizione Purtroppo che non lo fa crescere Per vari motivi E tu stai cercando Di capire Come sia fatto Che faccia La cosa fighissima Di Elder Ringer È che tu A un certo punto Sconfiggi un personaggio Che sta Tenendo a bada Michela Perché gli serve E Michela È una mano Che esce Da un enorme Uovo È tutto quello Che puoi vedere Di Michela È così È misteriosissima Sta cosa Hanno provato A prendere Il modello 3D E a farlo vedere In un video YouTube Ma tu Di base Non lo vedi Ok E quindi è Bellissimo Di lui E ne senti parlare Nelle descrizioni Eccetera Ed è un personaggio Che muove tanto Perché appunto Diversi boss Diversi personaggi chiave Sono non solo Related Perché praticamente Tutti sono fratelli Fratellastri Ma appunto Questo qui Che lo custodisce Che lo guarda Lo ha praticamente Rapito Con delle implicazioni Incestuali Sessuali Che non Che non cureremo Troppo qua Ma anche Per esempio La La faccia in un albero È il mio personaggio preferito Codri Malenia Ce l'hai presente Sicuramente Malenia La rossa Ah è Malenia Della peste Sì Della marcescenza La marcescenza La rossa Con i capelli lunghi Con l'abbraccio prostetico Eccetera Che è la sorella La gemella Di Michela Che lo ha Essenzialmente Cioè Un pochino Molto in realtà Di quello che Le conseguenze Che vedi In Elden Ring Sono conseguenze Del rapimento Di Michela Ok E quindi È un personaggio Che ha messo In moto Cioè Vicende legate a lui Hanno messo in moto Molto di quello Che poi vedi Nelle conseguenze Di cui vedi Le conseguenze E La mia teoria È che chiaramente Sarà molto legato A questo personaggio Ma secondo me Sarà un po' Anche una roba Alla di Old Hunters Dove è un po' Bloodborne Uno E un altro Cioè Dove il DLC Cioè Soprattutto perché Passa tanto tempo Questi potrebbero benissimo Essere due DLC in uno E quindi Avere Magari Un tema Che segue un pochino Quella cosa lì Però anche qualcosa Di più grande E qualcosa di più largo Alle spalle Ciao papi Ciao papi Io papà mi fa morire L'altro giorno Parlavo di corsetti Maschili Mamma Papà Vado a riscaricare Il deriva Papà 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 Eh ragazzi Ciao papi Stavo parlando di corsetti Maschili E a un certo punto E ero tipo Guarda che boni Guarda che boni Mio papà scrive Me ne compri uno Fa troppo ridere Fa troppo ridere Devi stare fermo Ho detto Che devi stare fermo Mi da fastidissimo Sto cosa Quella col tuo Eh no Così impari E Quello che si sa Di questo È che il DLC Sarà non solo Su di lui Maledizione oggi Veramente La mia pazienza Non solo che su di lui Ma pare che sia Un prequel Nel senso che Si vede Una figura A cavallo L'unica cosa che sappiamo E che si vede Una figura A cavallo Femminile Quasi Sembra femminile Che potrebbe essere Non proprio Michela Ma un Come si chiamava Quella dei sogni Quella dei fiori Santatrina Santatrina Che è un alter ego Di Michela Passi in special events Grazie mille Lerica Molto volentieri Questa è l'unica cosa Che finora Negli ultimi anni Abbiamo saputo di questo DLC Un anno Un anno Sapendo che tutti noi Siamo convinti Che il DLC è su Michela Che è il personaggio Più misterioso Che comunque Il gioco Soddisfa tutte le tue cose Cioè non è una trama aperta Non è Spider-Man Che è uscito l'anno scorso Che ti lascia a metà della storia Il gioco è molto più che completo E tu Devi far pace col fatto Che quella è stata la fine Disastrosa E di Michela Ma questo potrebbe essere un prequel Per farti capire Come c'è finito lì Anche perché è una cosa Che sia appunto Nel DLC di Artorias Sia in Dark Souls 2 Anche mi sembra Con le corone In Bloodborne Anche in Dark Souls 3 In realtà Cioè è una cosa Abbastanza comune Di Fromm Che con i DLC Rivisiti aree del passato O eventi del passato Assolutamente sì O cose legate comunque È un bel modo Di intendere i DLC Comunque a prescindere Quindi Siamo veramente Molto contenti Tu te lo giocheresti In DLC di Outer Wilds Sulla storia Ma Ma Annapurna Non ha idea Di quanto venderebbero Perché hanno fatto Un DLC Di un pianeta Che è sempre stato lì Ma tu immagina Una side story Su Felspato No No Su Non mi viene il nome Però Ah su Inomai Su Inomai Minchia subito Quindi un altro sistema Solare proprio Ho anche sempre Quel sistema stellare lì Ma il loro arrivo Quindi non prima Del loro arrivo Magari il finale È il loro arrivo Il loro arrivo In quel sistema stellare Ok Tranne quelli di Roma Oscuro Che purtroppo Non hanno molto gameplay Ha detto Regà Che altri minuti abbiamo Poveracci Madonna C'è gente Che ha fatto video di ore Solo basandosi Su quell'immagine Io no Però C'è questo twitter Che si chiama Elder Ring È uscito nel 2021 22 Febbraio 2022 Mi sembra Vabbè Nel 2000 Credo E 20 2019 2020 È uscito Un teaser Di progetto Di From Software Che sembrava Un Solce Like E dopo che hanno annunciato Solo il titolo Che si sarebbe chiamato Elder Ring È nata una pagina twitter Che si chiamava Elder Ring Daily Che faceva il countdown Di quanti giorni Sono passati Dall'ultima volta Che qualcuno Ha dato notizie Su Elder Ring Ed è arrivato A qualcosa tipo Ok sono passati Due anni e due mesi E ancora nessuna notizia Di Elder Ring Minchia E questi post Avevano 100 200 like Il giorno in cui Hanno liccato Delle robe Sono tutti Andati da lui A dirgli Bro Bro E lui Oh mio Dio Oggi Cioè nel giorno Vedo la sua vita Un account Solo per l'uscita Era quello su youtube Che faceva il video Anche quello C'era su youtube E c'era un tipo Che ogni giorno Faceva un video Giorno 421 Nessuna notizia Su Elder Ring Arrivederci E quel giorno Che è uscito qualcosa Forse esiste su silksong Sono abbastanza certa Che qualcuno Abbia fatto in tempo A farlo 25 febbraio 25 febbraio Vedi c'eravamo C'eravamo quasi Oggi è l'anniversario Non dell'uscita Ma un anno fa Esattamente Usciva con l'immagine Di quella di cavallo E da quel giorno Abbiamo detto Ragazzi Secondo voi uscirà Prima silksong O il CD Eccoli Ma ti dico Che l'avrò detto Cinque giorni fa L'ho detto Durante il poggin Con gravier Che aveva messo La parrucca da clown Ho detto Quella parrucca da clown E per dire sì E' stato veramente divertente Quando si è lanciato Via il naso Ma uccide Ci sono messi d'accordo Per il dub Perché lui ha detto Ho alt Tabato E io faccio Però ma dub Nel 2025 Ho tabato E faccio Ah Dabbiamo appena Ci riprendo Va bene Abbiamo Basta 10 secondi Ah Badonna santa Alza sto cazzo Un attimo Non c'è niente Non importa Va bene Qui Mi sfondate l'orecchia Non mi interessa Peggy 16 Ma il Peggy 18 Non intendo Quale era Eh guarda Eccolo Eccolo Se l'anghi E' proprio troppo Raga In that forsaken place Blood must spill Blood of your fellows They are three They are three They will never sink They just happen to be In the losing side of the world Ah ah ma che cazzo è che cazzo è Che cazzo è Dove parte? Dove parte? Dove parte? No, è lui No, è lui E' un po' che è nero Come va, marah E' un po' che è nero Quanto è stato morto? Oh, ma che paura! Perchè? Quindi la nuova... Forse c'è una data? Forse c'è una data? Tu la raggiungi toccando il braccio di Michela. Sicuramente. Eccolo. Eccolo. Ebbè perché è biondo? Quello di prima non può essere Michela perché è stato nominato da quello che faceva questo video. Cioè di questo qua. Let's go! Let's go! ZE! ZE! Che sto buono! ZE! ZE! Devi calmare! Ancora take song! Bellissimo! Lo giochi o lo strappi? La lo fai girl di no artry lo screen set È stato bellissimo, madonna! Lo devo rivedere 6.000 volte! Sì, con tutti e 28 secondi, i minuti di ottesa, sento i dio! Scusate! Il tizio, il mesmer, mi sembra legato a Rikard, ovviamente. Perché è la lava! Perché è tutta la lava del cazzo! Tu che daaa! Perché è il saccio, perché è i serpenti! Santo Dio! Ragazzi, 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 lo dico, lo dico, sborro! Cioè scusate, è una cosa che dicono solo i maschi! Che trailer incredibile della madonna! Oh ma quanta cazzo di roba nuova c'era! Io adoro ste robe molto disturbanti, molto... Questi... Questi animali tutti deformi! Eccolo, together! Rikard è un boss di Elder Ring che fa paurissimo perché è un tizio capo di un culto che è andato talmente dentro alla sua causa che si è deformato a tal punto da diventare un serpente con la faccia umana Si è fatto mangiare da un serpente Si è fatto mangiare giusto, non era simbolismo Da un serpente di moral day Eh... No Cap, no Cap non ha il minimo senso Questa è la cosa più bella che... Oggi è un giorno incredibile Oggi, a quanto pare, tre di noi hanno un nuovo lavoro Io ho una nuova tv E... E' successo di tutto oggi Può essere il miglior giorno del 2024? Fino al 21 giugno? Chi lo sa? Ti faccio vedere Rikard Che secondo me è molto interessante C'è una... C'è una... Secondo me è una bellezza intrinseca nello spiegare Elder Ring a chi non lo giocherà mai Perché si può andare di racconto Sì, sì Ed è veramente bello sentire la storia del Elder Ring Matt te la racconterebbe ancora meglio secondo me Io sarebbe un bravo storyteller Perché io sarei confusissima Ah no, aspetta, poi c'era... No, ma c'era anche... Ho dimenticato ovviamente di dirti La... Gli alberi pazzi Come si chiamano? Gli alberi pazzi, sì L'occhio della follia, no? Che c'è... E' fatto di culti sta cosa Sono tutti matti Eh... Vediamo Rikard Così si scriveva? Guarderò qua TOGEDA Chi diceva sta cosa che ci è rimasta impressa Non c'è anche la cutscene? Non c'è solo il... No, no, c'è anche la cutscene No, non c'è la cutscene Non c'è la cutscene Eh... Non lo dice dopo, TOGEDA Ah no, aspetta, giusto Perché quando entri c'è il serpente Sì, esatto Il serpente di Waraday Questo è il boss Questo è il boss God... Questo è il serpente di Waraday Esatto, però È crashato il sito di Bandai Ragazzi, quella collector è mia Quel tizio è un bono Malenia non l'ho comprata perché non bisogna niente Questo tizio è un gran bono È il giorno del tuo confinello Angius è per te Poi io Te lo meriti Sono sicura che te... È la cuma... È la cuma della gioia È la cuma della noia È la cuma della noia Eccolo, eccolo Assolutamente Dopo che hai manzato il serpente Perché quello che abbia fatto C'è già quello non era facilissimo Perché fa attacchi molto grandi C'è, ti prego Che pazzo C'è, sto po' dormendo Veriguale è tipo Va bene, dai Io Sono tutti molti in culto Ah, la spada è fatta di tizi Che si sono sacrificati per il culto Questo culto prevede che tu Ti sacrifichi Per raggiungere l'ascesa massima Incredibile Voilà E qui tu dici che quello dei serpenti è giustamente legato a lui Eh, ma c'hai ragione C'hai ragione pure te, scusami Vediamo un attimo Al volo Di nuovo Anche perché devo capire bene Il cazzo di haiku Di solito con cui parlano sotto Cosa si riferiscono Allora piedi A questo si riferisce Ok È puro È buono È fantastico Ha creato tutto un posto dove portare E salvare gli oppressi Essenzialmente I più vulnerabili Ah Sono già pronti i sottotitoli Non tradotti automatici Ammantato di ragore Di addoso fulgore Brandisce l'amore Per cui fare il cuore dei uomini Questa è esattamente la scena Che ti descrivevamo Sì E c'è gente che ha estratto Il modello 3D da qui E il sangue È su un gigantesco bacino Sì È su un E il bacino di chi è? Non si sa E E quando sei qua davanti Combatti contro un tizio Che si chiama Mog Che è il re del sangue O combatte per la dea del sangue Signore del sangue Il signore del sangue Che è quello che lo ha rapito L'ha portato qua L'ha rapito e l'ha sfruttato Quindi è tipo una placenta Questa roba Eh Sì più o meno Nel senso Ora non mi ricordo esattamente Qual era la dinamica Cioè come mai Michela si è fatto Questa roba qua Però lui si era tipo Imbossolato Si era chiuso In questa In questo guscio In questa cosa Per Cibare l'albero sacro Che aveva fondato E ha un anello E ha un anello E tra l'altro Molto bella anche La scena dell'entrata di Mog Perché tu arrivi davanti In questa cosa qua E il sangue che cura Dalla sua mano Fa una pozza per terra Dalla pozza di sangue E c'è Quell'altro tizio Che è un gran figone Porca puttana C'è una C'è una C'è una versione Hard techno Della canzone di Mog Ah sì Cazzo È bellissimo È bravissimo È incredibile Secondo me è un buono Mog Però Sono gusti C'è Smash Altri Altri di Elden Ring Dicono Mog Smash Secondo me Anche tu diresti Smash Non è buono Però è buono È carismatico Secondo me Aveva cercato di entrare In comunio con l'albero sacro Diventare lo stesso Parte dell'albero Ma Mog ha interrotto La cerimonia E ha sbozzolato Michella Esatto Perché Il suo potenziare Sì Diciamo di sì Anche se sono fratelli Tipo Fratellastri Fratellastri Eh sì Cioè Michella Mog Fratellastri Ma è comunque Una dinamica Per mi pare Perché Se i genitori di Mog Sono Eh Come cazzo si chiama Marika E Godfrey Che è il primo Dei senza luce Il primo Elden Ring E Marika La dea I genitori di Godfrey è il primo figlio No Godfrey è Chi è il primo Come si chiama Il primo figlio Morgan Il primo figlio Che diventa un'ostrica Come si chiama Diventa un'ostrica Diventa un'albero Che diventa un'albero Nel trailer di Elden Ring La prima cosa che succede È che ammazzano il mio preferito Ah si 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 Non è lui Godfrey Godwin Godwin è il mio preferito Raga Diventa veramente un'ostrica Poi vedi Madonna che gioco Che è Elden Ring Porca puttana Quando io ho visto Godwin era il mio personaggio preferito Soltanto per come ne parlavano le scritture E quando l'ho visto Ho interrotto il gioco E sono stata male Per due giorni di fila E siamo andati in Toscana Una settimana E io volevo solo Io stavo male Perché io ci tenevo troppo a sto personaggio Non vedevo Perché lui era un buono Un legale buono Ma era un buono Aveva fatto tante cose buone Lui era uno che per esempio Si era E ha fatto una fine di merda Lui si era schierato dalla parte dei draghi Nella lotta ai draghi Aveva cercato di estendere Insomma Un Il ramo della pace Il sito di Elden Ring Ha crashato Chekve Però il fatto è che appunto Marika e Godfrey Fanno diversi figli Alcuni tra cui Bog Michela è figli Di Marika E Radagon Che definitivamente È Marika Quindi è figlio di due entità Che sono la stessa entità Quindi È fratellastri Sì Hanno la stessa Madre Genitore E l'altro genitore È sempre Quello della stessa entità Quindi è un po' particolare È un po' mitologico Un po' sano Diciamo che sono fratellastri Immagina di Avere Sai la cosa che dicono Adamo E dalla costola di Adamo Nasceva Sono due entità diverse Però durante il gioco A un certo punto Marika Deve Riprendersi La sua parte maschile Ok Però con questa parte maschile Ha fatto dei figli E questa cosa è stranissima Ok Però è George Martin Ha fatto anche dei figli Con qualcun altro Con qualcun altro Ok E la cosa divertente E la cosa divertente È che puoi catalogare i figli In base a quanto si somigliano i nomi Quindi Radagon Quindi la parte maschile di Marika E la regina Come si chiamava Renala Hanno fatto Ranni Raika Radan Perché inizia con la R Ranni diceva di essere Renna Tra l'altro E invece sono Radito Oh ok Wow che cambio di nome Poi ci sono i loro figli Che ha fatto con Godfrey Che si chiamano Godwin Morgoth e Morgoth Morgoth e Morgoth Ma ci sono Morgoth in realtà si chiama Margit Si presenta la prima volta a te Come Margit È stranissimo Io ho dovuto prendere appunti su un iPad Per capire tutte queste cose E per nome Infatti quelli che iniziano con la R Sono tutti blu Raga Stiamo spoilerando il Derring a Chiara Sono sicura che non ha capito niente Perché non siamo partiti dal principio Vedi che te lo sto spiegando malissimo Vediamo il resto Così mi leggo un po' i sottotitolini Sì 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 Ok Tipo Sta cazzo di telo Ma che cazzo è? Quello non è l'albero Del Al punto in cui siamo adesso Non è l'Heldering quello Allora Questo secondo me È o molto nel passato O molto nel futuro Perché nel senso Potrebbe essere l'albero Dopo che è bruciato Perché sembra Sembra bruciato Sembra un tizzone Non più ardente Ardito Arduto Arrogante Elden Ring Vediamo se mi fanno vedere Madonna raga Che bello Che bello Che esce quest'anno Stanto gioco tutta la montella Io non ci posso credere Ma sai che forse anche io C'è il nostro amico Che stava a giocare Ci facciamo un'altra rana Sto cercando un'immagine Dell'albero Dell'albero In mappa Elden Ring Erd 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 Ok Perché è bello vispo L'albero nel gioco Vedi Shadow of Three Ah ecco qua Perfetto Questo è l'albero Durante il gioco E questo è l'albero Degli DLC Che minchia Gli è successo A questo albero Che cosa Si va assegnato Che a un certo punto Nel gioco Tu spoiler Bruci l'albero Devi bruciare l'albero Quindi quello sembra Veramente l'albero Post bruciatura Madonna Ma è cresciuto tutto storto Cioè guarda quanto è dritto Sto tronco Eh si Poi per dire Cosa c'è giustamente Nel dopumarica Ma non si sa Cosa è successo Nel dopumarica Noi abbiamo cazzeggiato E viva e viva Ciao De Gaspitan Ok Quindi Questo telo Scusa un attimo poi Tutte queste costruzioni Non sono Leindel No non sono Leindel Non è quella zona lì No infatti E allora Deve essere un altro posto Deve essere un altro Albero no? Mi ferma un attimo qua Mi sembra molto bruciato In effetti eh Cioè questa architettura Architettura leindeliana Secondo te? No oddio Non ne ho la più parida idea Cioè più che architettura Mi sembrano Tanti alberi Un tempio lì e basta E un ponte Non mi sembra C'erano casette Paragonando un pochino A quella roba lì Eh ci siamo eh Più o meno Sono le stesse archi Sono le stesse arcate Cioè è plausibile Che sia Non sto capendo Quei teli Che cosa dovrebbero significare Quei simbolismo Sono teli veri E' sceso un velo Sulla città Che cazzo è sta roba poi? Ma che cos'è? Ma è incredibile Ma cosa è? Sembrano quasi Le tende che metteressi Sulla colla È vero? Sì Ragnatele Ma del cielo No è chiaramente È un telo È un ombra È qualcosa di Ma magari puramente simbolico Magari semplicemente di I ricordi dell'uovo Ok Ok Tenzairo Simbolicamente Ti trovi dentro un flashback Quindi sono le tende Limite Oltre le quali Non puoi uscire Perché sennò esci dal flashback È una zanzariera Era una mi piace E allora è vero E allora deve essere così Ecco Sta roba qua È incastrata lì? Sì È nel cielo? No 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 È incredibile Questa sembra Raya Lucaria invece Dal colore Raya Lucaria e Hogwarts Cioè è una scuola di magia incredibile Non mi sembra tanto la zona di Raya Lucaria Mi sembra sempre la zona di Landel Perché a parte Ci sono sempre le arcate dietro Che sono quel tipo lì Ma che cosce È una stativa Madonna santa C'è sempre quell'architettura lì Sì L'erba è giallina È da alto piano di Landel Ok Non è da Raya Lucaria Quindi sono notte Sì Secondo me sono notte E comunque là dietro quello lì Sembra comunque l'albero no? Ah boh Ah sì perché c'è il rigolino C'è il rigolino C'è qualcosa che cola dall'albero eh Attenzione Vediamo se Minchia Eldering Daily oggi sarà troppo contento Non vedo di sapere come sta Cicino Vediamo un attimo Sì C'è questo rigolino che cade Che è anche lì Con la sbavettatura Sì 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 E sono io in questo momento Sì Palesemente Eccolo qua lo sbavino Sì è vero Ok Vediamo un po' Andiamo avanti Questo è chiaramente il monte Sì Il quello che dimenticato dovrà essere versato del sangue Quello dei tuoi sodali 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 I fedeli dell'albero madre Quindi c'è un culto dell'albero madre Come si chiama l'albero? Sì l'albero Raggede Non saltato Siamo al monte La zona lì di Raikard Altopus Ah no non mi ricordo Ma io quei due conosco Ciao dadi Metti la cam su Sì hai ragione Che stiamo coprendo i sottotitoli Ma io ho espresso una ottima E ora non ti becchi niente Tolta Ma poi Allora Perché miseria Ok Posso fare questo io Eccoci qua Con la chat box Ma sì dai Le opinioni Quello che ho dimenticato è la stessa del sangue Pausa Ladonna Cosa è sto posto? Eeeh Latrina Una signora No scherzo È una latrina Non vedi? Non ne ho idea È un NPC con una maschera che dorme fatto di capelli No non mi interessa è un NPC Cos'è questo posto? E non lo so Sono dei fiori Che abbiamo visto? Non mi pare di ricordare una palette viola Quelli sono i fiori di trina Latrina Che è una latrina Sì Non questi Quelli luminosi Quelle campande Sì 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 Quelli sono i fiori di sangue Quindi questa dovrebbe essere una nuova area legata È la maschera del tizio che incontra all'inizio È un proto fiorito È fino a qua No È la maschera di varrea Ah aspetta E nel Derringa c'era più di un albero madre Uno degli alberi madre Non era di Michela? Michela E noi ci sediamo anche Era un albero madre Era un albero sacro Era un albero sacro Però era nella zona innevata È quello che Michela ha fondato Irrorandolo con il suo sangue Per farlo crescere Per accogliere tutti I disgraziati Grazie delle sub Ragazzi dei beats Tutti mortacci Yuzam lo chiedi senza insultare Mi sei caduto Stai continuando a fare spazio Nella chat Sì O più Va bene Ok Ok Che cazzo In quel luogo dimenticato Dovrà essere versato del sangue Ok Sempre la stessa cosa Qual è il luogo dimenticato Dove verso del sangue Dove vuoi te lo verso il sangue Cazzo Il versare sangue È una tematica Questa È molto È molto raialucariense Questa zona Sia per il tipo Sia per come è vestita lei Con questi copricapi Sai anche tipo Rennala C'ha questa Certo C'ha questo cappuccio Che si vede solamente La faccia Rennala Però ci sono tipo Le gabbie appese Le gabbie È vero è vero è vero Hai ragione Non ci sono molti libri Non sembra Non ci sono tanti Di quel lato accademico Però è chiaramente Legato a quell'estetica E tra l'altro Sembra una chiesa Questo posto O una chiesa in disuso Mi sembra una scuola Sì Perché ci sono queste panche Da un lato e dall'altro Ok La k Rennala Sì 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 La preside Che cazzo di posto In quello Ancora sto leggendo Gli stessi identici Sottotitoli Porca vacca Pogonna sto quadro Chi sei? Ora fermiamoci Cosa cazzo Chi cazzo sono questi? Chi cazzo sei tu invece? Vanno via No Sai pure Chi cazzo sono questi? Non lo so Non lo so Non lo so ma lei è incinta Dici? È vero Bravissima Iconografia dei ritratti fiamminghi Bravissima È vero Portiamocela in tutto il gameplay Di The Ring Cosa c'ha quelle spille lui? Sono occhi? Su quella spilla? Non mi pare No Sembra soltanto molto Decorativa Chiara come al solito Ne sa pacchi Sono la coppia di campagna Del quadro Le famose panche a bestia Come si chiama quel quadro American Come si chiama? Quello con il tizio No È impossibile spiegare No È Palese mio zio Dice Palese mio zio Ah è suo zio apposta Chi è sta tipa? Chi ha partorito? È mora Giusto? Di chi ci importa? Sì mi sembra che quei capelli Siano mori Il resto sia una Una cosa Non ci sono donne mori Nel The Ring Non ci sono donne incinte Nel The Ring A parte Marika e Renala E quindi questa è Renala E poi Questa è Marika Scusami un secondo Chi è quel vecchio Cioè scopano Quindi C'è lui ha dato un figlio a lei? Iernolfini Sesso vi dico Sì 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 Con il specchio Bello Bello Può anche essere una trama A parte di personaggi Che ancora non conosciamo Certo Probabilmente lo sarà Sarà legato a quel cazzo Di impalatore La madre del protagonista Sempre No Roby Non mi sembrano le BTS Ok Un po' di gameplay Basi Alexander Questo sembra la zona di Rikard Il serpente che hai visto prima Questo a me sembra A me dà il vibe di quella merda Ciao Mau Sì Delle tombe Come cazzo si chiama La tomba dell'eroe del cazzo Ma certo che me lo ricordo C'è il carro che ti porta per la lava Vaffanculo Cosa sono i teli Questa cos'è Allora Questa è le vicinanze Di Dell'albero Perché lì c'è l'albero Certo Ok Sì 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 Tutte queste cose sono sbriciolate Guarda che stanno Vediamo se salgono verso l'albero Oddio Non sembra siano animate per salire quelle così E invece sì Guarda No questi sono pezzi Ah no se è andato lì indietro adesso Adesso è andato lì indietro Ma se vedi è un po' di dust Ma non sono quei pezzi che salgono Se guardi non salgono E non è per sé Neanche un pochino Prego amori Sono io l'eroe del cazzo Cosa Sicuramente è zona nuova Bisogna capire Probabilmente è una di quelle zone molto regali Molto Io non so niente Vai Meglio Però la sensazione che a me dà questa cosa È che questa sorta di telo Sì Serva per Parare Per Tipo schermare La parte sana dell'albero Da sotto Cioè è come se Si volesse impedire che la parte di sopra Avesse effetto sotto Perché sopra sembra esserci molta più luce Cioè se l'albero in salute è fatto di luce Sì Sopra i rami sembrano effettivamente gialli Sì Quindi sani E quindi sembra come se questa rete Facesse in modo di dividere la parte sana della chioma Da quello che c'è sotto Sai cosa lo renderebbe questo? Oddio potrebbe essere Però non so niente Non so se ha senso in questo Sai cosa lo renderebbe? Cosa? La shadow of the earth tree Ah è l'earth tree Allora ha senso il suo ragionamento perché sì Vorrebbe dire che questo albero Non dipende dalle sue radici Quindi Ma Si si possono salvare le parti sane che si trovano in cima Allora sì La descrizione del video è stata letta No Marco Bosnia No Che cazzo dici? Che vuol dire? In the land of the shadow Michela awaits the return of his promised lord Land of shadow Quindi sì Che è questo posto? Credo Che è quello Oscurato dall'earth tree Diceva Oscurato dall'earth tree First set foot Allora è un prequel Il primo piede Il primo piede Il primo sacro piede di Marika Il suo piedino ha messo È un prequel quindi È il Set ablaze by Messmer's flame Quel bono Land purge in un song battle Potrebbe essere anche la battaglia Potrebbe essere anche la It was to this land that Michela departed Sì, è un grande Michela Se n'è effettivamente andato A un certo punto Divesti himself to his flesh Is strange Is his own lineage Vabbè però te lo dicono alla fine In teoria Cioè tocca il braccio Per arrivare in questo posto Quindi tutto questo posto Tu lo raggiungi Ricordo Tu lo raggiungi Toccando il braccio di Michela Ed è un posto diverso Sì Stiamo cercando di capire Se questo posto Se Michela ha abbastanza poteri Da creare un posto sotto suo Anche non esistendo Oppure ci portano i suoi ricordi Se è uno specchio Dell'interregno Che abbiamo vissuto Oppure se è qualcosa altro Però potrebbe essere Se dice Una battaglia An unsung battle Straziato da una battaglia Non cantata C'è una battaglia C'è il principio Diciamo Il fondamento Tutto il bordello Di perché noi siamo Dei cazzoli senza luce Che torno Io lo fate vedere Per i cazzoli senza luce È che Godfrey Il primo Elden Ring Che si era Ha sposato Marika A un certo punto Marika ha detto Frate Eh E' del lord Grazie Gli ha detto Frate Guarda Vai a combattere Contro i giganti Oltre l'interregno Vai e guida I tuoi senza luce In battaglia Vai 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 Le va di dal cazzo Le va di dal cazzo E tutti Senza luce Sono morti E noi siamo E tutti senza luce Quindi i nostri personaggi Sono quelli che stanno Risorgendo Per tornare All'Elden Ring Per tornare Da Marika Per tenere cose Marika quando ha detto Vai Ha detto Ok bene Adesso posso diventare uomo Andare a schiavarmi Quella tipa lì Fare due figli E poi aspetta Però devo tornare Nel frattempo Che continua a regnare Tutto quel bordello Che abbiamo detto Di lei Dei figli eccetera E perché manda via Il primo marito E dice Bene Ora Faccio il resto Faccio il cazzo che mi pare E la grande La marcia dei senza luce La battaglia Dove muore Godfrey E dove muoiono tutti senza luce Potrebbe essere La Hanson Battle Guarda Che menzionano Incredibile La cosa più assurda Questa è Marika Crocifissa E rimane così Questo è il trailer La cosa più incredibile Che noi Nel Nell'inizio di Elder Ring Vediamo Una figura maschile Questa qui Il Fabbro Il Fabbro Che spacca l'Elder Ring In realtà è Marika Non ci eravamo mai accorti Che durante questa sequenza Da femmina diventa maschio Era incredibile Impossibile da capire Ma quando ce ne siamo accorti Quando Marika Non è Marika È Radagon Era Marika È Radagon Ma è stato uno Dei plot twist Più costruiti E più sotto gli occhi Di tutti Non tanti c'erano arrivati Radagon è un bono È proprio un bono E da Radagon Dicendo da Radan Che anche lui Capelli rossi E anche Malenia Anche lei Capelli rossi E sono fortissimi Loro Allora Sono tutti incinta Ok Perfetto Ci fanno toccare il boss E mi faccio entrambi Ma pure loro Sottolineano È un altro senso Ok Alla semplice Non sono mai stati Dei santi Dei santi Potrebbe riferirsi a Potrebbe riferirsi a Gli dei Tra virgolette O comunque Quelli che vengono Presumiti come dei E semi dei Dell'interregno Quindi Marika E prole Essenzialmente Cioè appunto Michela ha un po' L'epito di Stantatrina Come Divinità del Sonno Semidivinità del Sonno Gli Empirei Gli Empirei Giusto 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 È vero è vero Gli dei e semi dei Si suppone E oltretutto C'è un forte tema Di fuoco e fiamme In questa cosa qua E il fuoco Non è solamente Legato a Riker È legato anche Ai giganti L'ultimo gigante Lo batti C'ha quel C'ha il riscettacolo Di fuoco Quindi ha maggior ragione Soprattutto con la descrizione Dell'Hunstang Battle Eccetera Penso che questo sia Come dicevo prima Non solamente qualcosa Che segue Il percorso Di Michela E della sua storia Ma anche Dell'altro DLC Che avremmo tutti Tanto voluto Che è legato Alla grande marcia Dei Dei Senza Luce E quindi Alla prima Alla morte Di Godfrey Alla morte Di Di Senza Luce Gli eventi Che poi hanno Dato via A quello che noi Viviamo In Certo Perché si svolge Al di fuori Dell'interregno Al di fuori Delle Lens Between Nel trailer Anzi no Nell'intro Sì però questo non è il fuoco Della frenesia Il fuoco della frenesia È giallo È giallo La pazzia Samufer Che Il bidone del fuoco Questa Chiara È l'emoticon Che odio di più Questa è la ciliegia Sono l'emoticon Che odio di più Dell'hyp train Perché io A Twitch Gliele avrei fatte Gratis L'emoticon E invece hanno chiamato Non so Il cugino di chi Per fare queste merdatine Fatte con paint E io le odio profondamente Ciliegia Che è palesemente una mela Dai fatta con paint Raga Porca puttana È terribile Madonna Però fa molto ridere Bidone del fuoco Ma dite che qui avremo Il Gideon The all knowing Non lo so Se avremo Gideon The all knowing L'armatura di Gideon È fatta di orecchie Fa stra ridere È solo orecchie E occhi Anche un po' di occhi Ma soprattutto orecchie Eccola qua Fa schifo al cazzo Guarda qua Una mela Che è palesemente Una pera È tutto tranne Che è una ciliegina Hanno semplicemente Puntura peggio Mamma mia Stoccoso Che incubo Ciuccio veramente Ma questo che si Sistema la mascella È il leone di Godfrey Dicevano tra l'altro Piede di Godfrey Il piede Sembra Prego Il piede Mi sembrava legato Ai presagi E vedi che c'ha un bordello Dico no no Lui è legato ai presagi Assolutamente È un presagio È un presagio C'ha la forma gobba Tutta di presagio Cioè il piede È il cento per cento Anche Godfrey Era tutto smontato Godfrey ricordiamo Che è il wannabe Che voleva diventare Come il fratello Non c'è mai riuscito Anche è vero Che c'era anche lui Mi era totalmente scordato Eh ma perché Non è uno sfigatino Cioè non Godfrey Proprio il primo Godfrey No Godfrey non è il grosso Aspetta Godwin Godfrey Il grosso è Ora lui Sì Che è Godfrey Non è Godfrey Non è Godfrey Sto sbagliando Il primo grosso Godfrey 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 Sprepens Boss del castello Come si chiama lo smontato Santo Dio Godric 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 è il grosso Godfrey è il No Godfrey è il grosso Godric è l'inestate Godric Capito con i nomi Tutti uguali Cazzo tutti uguali Godo Godo Ho fatto un emoticon Fra Che è Godo Potete scrivere Godofrey Godowin Godefroy Godefroy era quello sì Il copia e incolla Nella prigione Bellissimo Cazzo Tutto smontatino Ma guarda quei cazzo di occhi Ma questa è una maschera Questo è il caponato cinese Sembra un po' Se ha fatto tipo Pfff Si è rotta pure oggi Cazzo Guarda A me sembra Al posto di una mano Sta bocca Tra l'altro Dove inizia? Dove finisce? C'ha i piedi umani Ma quanti piedi ha? E' un agglomerato Sì è un agglomerato E' un Godric Un Godric Un Godricchio Che spara? E' ruti Chi è che sparava i fulmini? I draghi Ma cazzo Tornò un po' indietro Fammi vedere un pochino Voglio rivedere un po' Il... No no Indietro indietro All'inizio di lui Ah Vuoi rivedere lui che si smonta? Guarda in 10 secondi Voglio vedere Voglio osservare l'arena dietro Per capire Ok Mi sembrano addobbi molto... Ma che romantica sta scena Buon San Valentino Ti ciuccerei Fammi vedere l'arena E non va Allora ci sono questi addobbi Di tende intrecciate Sembra un po' castello Cioè un po' palazzo Sì Un po' romano Una succhiettina Che ero di lune Ok E palesemente La bambina di Prometanalchimi Sono d'accordo Sono uguali È vero C'è un po' di albero L'adietro Ma non sarà l'albero Però c'è un po' sempre Tanta vegetazione secca Tanti... Quelle non penso siano Tipo glicini Che sono naturalmente così Penso siano colanti O comunque Appassiti Allora Secondo me Essendo una mappa nuova Con getture Sull'architettura Sono un po' azzardate No no Però per capire il contesto È tutta nuova sta mappa però Non si può antuire Un momento di contesto Architettonico Perché è salato il libro È incredibile sta scena Anche per capire se è più roba legata magari a... Madofroy Come si chiama Mother Faramasula Faramasula Amen Ferdi 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 Ciao Malenia Blade of Michaela Chi è Emiliano? Sì Ok Ciao Ferso Ciao Ferde Ferso Madre Madre lui dice Sarà un altro figlio del cazzo di Marika? Ah madre Ne avrà sfornato un altro Non è potuto elevare a lord E' arrivato al lord un essere privo di luce Quindi si riferisce a i senza luce E' uno che sarà incazzato del fatto che Adesso Mi sta parlando di noi Sì Mi sta parlando di Godfrey Godfrey No Godfrey non è così rilevante Nessuno invita Godfrey alle peste Al massimo di Godwin Godfrey Il padre Il padre Il lottatore di sumo Horaloo Sì Ok chiamalo Horaloo che è più facile No spoiler Ma per chi? Per Chiara? Chiara Devo essere onesta con te Io sto veramente facendo Godfrey o Horaloo Per seguire i vostri discorsi No no ma L'eccitazione Non lo stiamo rendendo accessibile E' il meme di Il meme del tizio che fa Adesso ti spiego Io ho abbracciato te che hai abbracciato le Allora Aspetta aspetta Ragazzi potete fare Per favore Un meme Di noi che Lo carico Vi giuro Il primo che lo fa Immediatamente su Instagram Fateci uno stamp E siamo noi che spieghiamo La lord di Elden Ring Siamo gli occhiei da sole però Ok Ok Vai Ok raga Mi aspetto la foto Sulla mia scrivania Entro un'ora Allora Vediamo un po' dei dettagli Di questo figlio di puttana Su questa base Avete una base Amemers Amemers Assemble Allora Praticamente Allora Allora Praticamente Allora Allora Che dettagli ha il suo outfit E' legato ai serpenti C'è un serpente che gli esce proprio dalle mutande Guardalo Cioè nel senso Accidenti Dal gonnello Sì però No È dall'anca Sì Guarda che va sopra Sì Questa arriva fino al colo Fai il giro No c'è anche un po' di serpente sopra sai Cioè probabilmente questo qua dietro C'è un altro serpente Sì 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 Ah a fianco alla mano ce n'è un altro di testa Guarda Eh sì In alto In alto? La mano? Sì C'è un altro serpente Sono due teste Ah quello nel corpo È pieno di teste È serpentius Questa è probabilmente un'altra testa Come si muove? Ragazzi A un'ora di attesa Erano in 167 mila connessi Vi dico Mamma mia Gran buono Madonna Un essere privo di luce Ma dai che cazzo chi ne frega su questo Dobbiamo capire anche questo E che tipo di magia è la sua? Io non mi ricordo tutte le magie che ci sono Eh il fuego È il fuego Questa è la magia di Raikard Dallo stesso colore Sì A me fa troppo ridere che c'abbia i laccettini Per chiudersi il casco E anche guarda l'occhio da serpente Sì Hai laccettini è vero Metti che va in bici Eccolo Rule 34 istantanea Già lo vedo Perché a me sembra molto È il fogon Sembra molto piamma del caos di Izalith Ah Dici? No non dico chiaramente Perché non è lo stesso IP Quindi no Però Non dico chiaramente Spells list Incantations Yeah Ok non è una testa Sai cosa? Sai cosa? Guarda il sito Vai sul sito che c'è proprio la statuina Il secondo Yes Sono due serpenti Sì sono due E basta Possiamo acquistare I serpenti hanno le ali Oh che carini Vediamo se si può già comprare By now Dove cazzo è la mia collector? Pronto? 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 Ah Dov'è? Vedi La prima non l'ho presa Non c'è vero? Ho sentito che ha due cazzi Che cazzo è Che sia il serpente di Recar Dopo che la tipa se l'è mangiato Ma lei era una donna E questo sembra un uomo Sento discusi Ma a quanto capito Non è una discriminante No infatti Ma puoi essere chi vuoi A New Story La Blood Flame Ma c'era E' proprio il logo Il doppio settento Ah E beh lui è il mega protagonista Lore Elden Ring Punto PNG Ferdi Ferdi La carico Immediatamente Ma troppo ridere Grazie Hai a schermo Il tuo telegram In questo momento? No 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 E' soltanto Internet E' un po' di chat Ok Lo metto subiti Sì Telegram No fortunatamente Non ho mai Madonna santa Aspetta che metto Un'altra foto ancora Gioca mai Elden Ring? Di nuovo? Tutto per sempre Allora Se non fossi una pippa Lo finirei troppo tardi Purtroppo Allora Devo fare così Io vado a scaricare Adesso? Sì Va bene Io sto mettendo un meme Allora Se non mi ricordo male Non ci sono i livelli? No perché Non credo che tu possa Metterla sotto La foto originale Allora C'è così Molto semplice Che cazzo Raga andate su Instagram Boy Chiara Voilà Fatto Madonna se cliccavo l'immagine Mi sminchiava tutto Urlavo Quanto fai ridere? Cazzo sei piccola Indocente Ti cazzo di capelli? Oh basta Li devo tagliare Madonna Finisco di più Va solo un cespuglio Immaginatemi Al tuo posto Al posto del The Ring Azbin Hotel Allora praticamente Poi lo facciamo Con il Miriano E gli spieghiamo Di Azbin Hotel Due serpetti Quindi un farmacista Ma certo Il San Raffaele Che paura ogni volta Che paura ogni volta Donna santa Un popcorn Raga Scusate Lo chiedo Solo Per Sicurezza La Collector Che è stata presentata Non è presente Da nessuna parte In questo momento Ce l'hanno fatta annusare Uscirà il 21 giugno Ma anche solo una prenotabile Vabbè Prima finiamo qua È già finita Non essere primo di luce Vediamo un po' È finita Che cosa? Nel sito c'è ma non carica Era nel sito di Panda in Alco No ragazzi Non è possibile Ma che cazzo dite? Ma quante ne avevano? Due Guarda in fondo al video Se ti dice Available now Oppure Se dice Suka Preorder now Preorder now Dove minchia lo preordo now? Ok In che modo Suggesto il ring of michella Che è questo È tipo Suka Ma enorme C'è anche il ring Ring del preorder 1 Era qui Dove hai visto Tutte il Merchandise ufficiale? Nel video? Dov'è che hai visto Qui Non lo stai vedendo No dov'è la statuetta? Aspetta Era 4 secondini prima E allora Qui Ecco qua Preorder now Dov'è la statuetta? No l'ho vista anch'io Questa è una grafica Non è una stafa No ma c'è anche la statua Poi se dopo? E dopo Eccolo qua Ecco Preorder now Ok Quindi per cui C'è l'artbook Ah era in merchandise Ok Madonna Non c'è un link nella descrizione del video? C'è il sito rotto Sei per amato nel dire Eccolo Con calma 250 euro ragazzi Porca puttana Mostrai i dati del tuo carto di credito Quando lo acquiste Ok Ve la comprate? Ve la comprate voi? Sito rotto Ma Prendiamo un tizio a caso in chat Il primo che vede in chat Allora ragazzi Compra la tua e poi Compra la tua E il paga la mossa gigante Ctive esplode E ginga lo stato puro Sato iddio Vabbè Ne avranno più di due Dai guarda che figa Sì ma chiedi 40 minuti Ok Chiedi Chiedi l'agenzia 46 centimetri Sono tipo così Sono così Madonna ma è gigante allora Ma sto bono lo voglio Sì però sono 46 Sì però sono 46 Fino alla punta della spalla 46 centimetri Sono tipo così Quanti 20 centimetri Sono così no? Quanti sono? Vai clown Sono solo 250 euro Quanti 7 inches sono? Non consumi troppo Il cuore di drago Lui pare avere un miscuidio Ma se il cappello rossi Inalata con il fuoco Come i giganti Gli occhi da drago Marco Bosnia Dice una cosa giusta Ossia che sono L'avete sentito? Non lo ripeto Consumi il cuore di drago Il cappello rosso È vero C'è il cappello rosso C'è il fuoco Secondo me è legato ai giganti Legato a qualcosa là Lui sembra Lui secondo me Potrebbe essere il tizio Che ha ammazzato Godfrey Capito? Non lo voglio più No Godfrey Non Godwin Godfrey Godfrey Godwin l'ha ammazzato Rani Eh lo so Pezza di merda Guarda Sì va bene Godfrey Godwin Godwin Santo cielo E io l'ho giocato Eh Eh Mario è impiato Due bicchieri diversi Ok Volevo capire la scena Di quando vai E lo vedi Per la prima volta Va bene Godwin corpse details Allora tu entri E la scena è questa Tu sei alto così Tipo E quando entri Vedi sto sirenone Questi sono i suoi capelli biondi Quindi capisci che è lui Dei capelli biondi E cerchi Incessantemente Di capire Dove cazzo Sia il resto del corpo Inizi a capire Che queste sono le braccia Quindi è incastrato Con delle spine Che gli stanno uscendo Così è molto meno epico Quello che è successo Allora Insostanzialmente Lui era Il Il Primo figlio Di Godfrey Il primo figlio Del primo Deadlord Bellissimo Purissimo Biondissimo Un amore Un Perfetto Voleva bene A tutti Voleva bene Anche al fratellino A Michela Voleva Un rapporto con lui Era amico dei draghi Nonostante i draghi Tutti stessero sul cazzo E avessero Avessero attaccato i draghi Poi i draghi hanno attaccato La capitale Lui ha cercato Di migliare la pace Di fare Giustizia da tutti Per scatenare Tutto il crollo Diciamo Della società Della società Del Reale Royal The Elden Ring Lui è stato assassinato Con un Coltello Di Morte Pura E Dopo aver si è stato assassinato Viene seppellito alle radici Dell'albero madre Solamente che Ucciso da questa runa Della morte Questo coltello Di concentrato Di morte Questa cosa Corrompe talmente tanto Il suo corpo Che il suo corpo Diventa questo Abominio Che nella visione Di Miyazaki Nei vari giochi Di From Software Ha sempre Questo legame Con L'acqua L'oceano Le profondità E la stagnazione Per rappresentare La corruzione La schifezza Questo è lui appunto Dopo essere stato Ammazzato Con questa runa Della morte Incisa sulla schiena E quindi diventa Questa creatura Un po' Amfiglia Un po' Acquatica Un po' Profonda Corrompendo Totalmente Questa zona Le radici dell'albero Quindi tu Questa parte qua Ci arrivi Scendendo appunto Le radici dell'albero E parti da questo Appunto La cittadella Capitale Tutta dorata Con l'albero dorato E scendi Diventa sempre più schifoso Sempre più schifoso Sempre più putrido Sempre più meroso E arrivi in fondo E ci sono queste paludi Disgraziate schifose E lui E trovi lui Così In fondo Mamma mia Il riassunto di Ferdi Un po' Eccolo qua Notizia che dice La certa Ma perché Dover prendere ordina Delle dita senza smalto Distrugge la collana d'oro Che le avevano regalato Solo che poi si scopre Che in realtà Suo secondo marito Suo fratello gemello rosso Si amese Sta provando a sistemare La collana Mentre questo succede Il primo marito Tutti i figli si scanno Su chi prenderà i soldi Del compro Una per la collana Sare riparata Esattamente Chiarissimo Chiarissimo La collana è l'elderrig Il gioco si chiama La collana rotta Esatto E io Avendo Molta stima Di tutto quello Che era stato raccontato Lui quando l'ho visto In queste condizioni Mi sono sentita male Perché questa è la faccia C'è un'altra C'è una Una piccola anteprima Della faccia di Godwin A un certo punto Da un Per terra Che fa ancora più impressione Ancora più schifo Che è sotto un castello Tipo Dove tu puoi effettivamente Calpestare quella faccia E constatare Quanto si è mal ridotto E lui è così Ah sì Cioè queste sono Escrescenze della sua faccia Che vanno nelle città Perché Lui sta corrompendo L'albero E l'albero è ovunque E quindi ogni tanto Ti becchi delle facce di Godwin Ok E la cosa figa È che esattamente Sopra Godwin C'è una pozza Con dei granchi I granchi stessi Hanno la faccia di Godwin Sulla schiena Quindi quella faccia È ovunque Ed è inquietantissima Io ci sono rimasta Malissimo Questa parte qua È veramente È il primo momento Dove ho detto Ma che cazzo Cioè dove Ma che cazzo Eldering ha hittato Perché nel primo Legacy dungeon Nel primo posto Grande diciamo Della prima mappa Ed è tutto questo castello Ed è un castello Normalissimo A dire ci sono Questi cavalieri Ci sono E poi Ad un certo punto Puoi trovare un posto Dove se ci stai attento Un segretino Puoi saltare di sotto E finisci in questa cosa Delle fogne E arrivi qua sotto E c'è questo E tu sei tipo E sopra c'è un oggetto Che è tipo Pustola del dio Della morte È una cosa del genere È tipo Ha fatto la mostra Cesare Augusto Genking Il pugnale di morte È morta Mi sono sempre chiesto Perché diventi un pesce Per dare l'anima Ti pescifica È un simbolismo Alla Actulu Alla Le cose ignote Sono acqua È come È come le profondità Di Dark Souls 3 Con Come cazzo Si chiamava I pontifex Lì Su Livan Pentefax Pentefax Cazzo E mazzo Finiamoci un attimo I sottotitoli qua Madonna santa Che incredibile Madà 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 What's Da Truly Lordship Session In one So Però ha mantenuto La sua skin C'è non Comunque Un cazzo Di buco Si sei Sgogliato Tutti i draghi Ma L'altro Se la regola Non mi rischia Ma La messa 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 Il posto Ma Questa è Lei Ma Perché Complimenti Non mi sembra Attaccato a niente Questa cosa È una di quelle robe Alla Che Ti Diventa La faccia Da drago Sì Mi sembra E quindi Questo è Un orso Qui c'è Il culto Dell'orso Si È tipo La testa Del drago Esatto Che quando Ti becchi Le magie Del drago Diventi Un po' Così Miau Mamma mia Sto posto Sto posto Ma santo Dio Il cielo Guarda che Boni Ma che Bello Ma che Cazzo Combattete Come fatevi Un pisolino Anche qui Ci sono Pezzi Di struttura Di struttura Che Sembrano Tipo Caluti Dal cielo Sembra Un po Sepol Cridiano Con ste Robe Cadute Ma che vuol dire L'audio per voi Non sta a parlare Nessuno Ma non sta a parlare Nessuno C'è L'audio di cosa Della camera No no Del video Ma Stanno parlando Sopra dell'immagine Doveva essere Fuori Sì Questa cosa Sono dei Sono dei Patti sononi Ah Giusto Giusto Scusate Allora Allora I rotodidori Sopra Chi è Coglioni Senz'altro Anche tu Vorrei Che Cerco Il disegno Del gentil Mica 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 L'ha fatto Questo Albero Per tutti I morti Per non Farli morire Per tutti gli Marginali Gli marginali Disgraziati Se è fatto Volete L'albero Ah tra l'altro A me sembra un parallelismo Quello di Elder Ring Palese Palese Col cristianesimo Anche le parti Dove fanno i classisti Sono molto Da cristianesimo E Mica Era la controparte Non classista Quindi ci faremo Il nostro albero Nonostante lui sia Della stilpe reale Quindi Volendo Lui poteva fare il classista Quanto gli pareva Ma ha scelto di non farlo Quindi è un buono Come Godwin Tra l'altro Marika è letteralmente Crocefista Marika è letteralmente Crocefista Quindi sì Che cazzo sono Ste co Ma raga Ma che sono sti matti Ci stanno un sacco di bestie Comunque Sì è vero E penso che sia qualcosa Di legato ai draghi Cioè è possibile Che i draghi Siano Estesa Come cosa Un nuovo Più bestiale Oppure più legato Ai presagini Perché c'hanno sti cornice Il tizio che tira calci Mi eccita Che tira calci Quello lì che fa Fum 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 Un po' di prima Con lo stile rosso No Questo Ah Ah minchia Sì Perché fu Boom Sai che anch'io Mi next Mi next Non so perché L'audio è fuori sink Ragazzi Poi togliamo l'audio Quindi non c'è Non ci piace È la prima volta che Non c'è Non c'è Non c'è Anche se Su OPS Mi sembra tutto questo Ma che cazzo Questa è Questa è Oh madonna Ma il cavallo è mezzo morto E qui siamo Sottoterra E comunque Quella è una grotta Ok Cioè questa mi sembra L'arena tipo Del Del cervo È presente Dello spirito ancestrale Ok Audio a posto Allora forse Era soltanto Questo è il tizio Del dipinto Ovvio Sì È vero Comunque la spilla È vero Alla spilla Oh madonna No Chiara Chiara Il tuo sguardo è oggettivo Che fa? La testa Se la stavola Ia Dove C'è questa arma Che lo attraversa È vero La morte attende coloro a cui fu strappata la grazia dell'oro Cos'era? Ah ok Perché chi invece aveva la grazia dell'oro Quindi i luce Non moriva Tornava all'albero madre Perché Marika aveva detto Sono Dio Perfetto Non c'è più la morte Non c'è più la morte raga Ho deciso così Esatto L'albero madre produce una sorta di reincarnazione Tu sei benedetto dalla grazia La grazia ti genera E quando muori Ritorni all'albero madre Attraverso Infatti tutte le catacombe Tutte le cose che venivano Non si protege sono e sono vicino alle radici dell'albero madre Esatto E soltanto che adesso l'albero madre è stato corrotto E quindi tutte le radici sono fottute La gente non sta più morendo E non sta più tornando all'albero madre Il ciclo si è interrotto Figa sta cosa che si toglie la faccia La morte con la tendenza Spade Pieno di spade Pieno di serpenti Hai la faccia da Godfrey? No Hai la faccia da Da Godbanks Hai la faccia da fratello di Malenio Per i capelli rossi Sì Sì ma anche per la faccina Godfrey guarda Godric Santo iddio Ha la faccia da Godric Volevo dire Un po' la faccia da Godric Non lo so C'ha sta cosa Da mantello Paccetta così Però ha i capelli rossi I capelli rossi Vuol dire Malenia Radan Vuol dire Radagon Vuol dire Radagon Anche Radan C'ha i capelli rossi Anche Riker c'ha i capelli rossi Ah li scrivo tutte e tre insieme Così ti va a vedere Guarda qua Boh Boh Madonna Che boni Eh come si chiama la bestia Maliket 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 è un altro nome con la M Che non è Non è imparentato con loro Era un'ombra Madonna Maliket Era un fratello quasi Dato da Assegnato a Marika Perché Marika è uno di questi Essere chiamati Empirii Gli Empirii sono quelli che hanno Il potenziale di diventare La prossima divinità Lapino No l'ho scritto con Lapino E invece vuole essere Lapino Lapino Qualcuno mi scrive mio padre Puntini punti puntini Robi Io cosa Cosa Ciao Lapino Volete un bubble tea Ma sai che Lapu Un bubble tea Una cosa Lui dice qua Lapino Grazie Lapino Latino Latino Pelapino Seguite Renasi Insieme a noi Allora Lui dice qua La morte attende coloro a cui fu strappata la grazia dell'oro Nell'abbraccio della fiamma di Mesmer Esatto Ora Mesmer potrebbe avere un suo culto Potrebbe Sì Perché il tipo che mi avete fatto vedere prima del culto del serpente Rikard Aveva tutte quante le mani che gli uscivano fuori dal corpo Sì E c'è il bestio La sua spada C'è il bestio questo Il drago cinese No Il bidone del fuoco Sì Il bidone del fuoco Il bidone del fuoco è pieno di tizi Sì Queste sono tutte mani Sì Anche queste sono mani Cioè quindi se vogliono prendere sta cosa del Quando ci sono i culti che portano al sacrificio delle persone Poi ne esce fuori un mob che è pieno di morti Potrebbe esserci anche un culto del fuoco Una roba del genere Sì A cui fa capo la fiamma di Mesmer Non lo so Sì 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 No assolutamente senso Io sono convinto che Ci sia sempre più legame Tra il Tra il Che cazzo hai detto? Poi ti leggo Ferdi Perché è perfetto Quello che sento Ferdi Tra il fuoco Il fuoco E la roba dei giganti Che erano i trattatori del fuoco Eccetera eccetera Ci sono sempre queste cose Di queste cazzo di corna Le cornine Che sono i presagi I presagi sono Appunto tipo i primi Non i primi I secondi figli Di Marika e Godfrey Sono Mog E Morgoth Sono dei presagi Che sono dei Di esseri contorti Fottuti Tutti indiavolati Con questi corni Con queste Pelle grigiastra E loro sono Appunto Disgraziati Nel senso Non hanno la grazia Che li guida Non hanno la grazia Che li accetta La loro madre Li ha un po' Ripudiati E penso che questa Sia una maledizione Che possa essere giunta Alla stirpe Loro Dall'esterno E che sia legata A questa terra qua Anche perché Tu hai sottolineato Una cosa che Mi ha fatto pensare A un elemento Lui dice La morte attende Quello a cui fu strappato La grazia Nell'abbraccio Della fiamma Di Mesmer Ora Nell'abbraccio Della fiamma Di Mesmer È dove la morte Attende Quello a cui fu strappato La grazia dell'oro O dove la grazia dell'oro Fu loro strappata Sì sì certo Perché Se non avrei detto Dall'abbraccio Invece nell'abbraccio Dove finiranno Non da dove partono No Ma nell'abbraccio Può essere stata strappata Loro La grazia dell'oro Perché Godfrey E i suoi Hanno perso La guida Della grazia Andando a lottare Fuori dall'interregno E se hanno lottato Contro di lui È plausibile Per me è abbastanza La morte attende Colora a cui fu strappata La grazia dell'oro Punto Nelle braccia di Mesmer È dove andranno È quel punto È dove andranno O è una licenza Guarda Guarda l'inglese Oh giusto Comunque Ti spiega Maliket È presente quando Prima ho detto Sono tante nozioni Staccate fra di loro Quindi non c'è bisogno Di metterle insieme Però Quando Maliket ha detto Sono Dio Ragazzi Non potete più morire Morire È diventato un concetto Da proteggere L'hanno fatto diventare Una runa E praticamente Facendo diventare Questo runetto Finché esiste Voi non potete morire Maliket Me la proteggi È il cane È il cane che protegge La morte Giustamente Ferdi dice Se l'è ingoiata Quindi È andata di traverso E si è fottuto Tutto quanto E questo si fa prete Va bene Però effettivamente Verso le fasi finali Del gioco Tu praticamente Ristabilisci l'ordine Vita-morte Andando a uccidere Il cane che fa la guardia Alla runa morte Perché Malika Quando è Dio Decide proprio Che tutti non possono Ed è un concetto Strano da capire Che si possa rimuovere Però è molto figo L'Elden Ring È come le regole del mondo E Malika ha preso La regola del mondo Ha preso La gente muore Ha tolto quella runa Dall'Elden Ring E quindi Le regole del mondo Non c'era più che la gente moriva E la gente non moriva più Quasi letterale Quindi Siccome c'è quel punto Vuol dire che Sì sì Ma anche la costruzione La frase in inglese Lo rende molto più chiaro Sì 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 Indi per cui Fammi capire Siccome Mesmer Odiai senza luce Sarà lui che garantirà Che la loro morte Sia Per mano sua Voi senza grazia Quindi voi infedeli Che non avete la grazia Quindi Se facessimo un parallelismo Siccome non avete abbracciato la grazia Non solo non finirete O la grazia vi ha rifiutati O la grazia vi ha rifiutati Non solo non andrete in paradiso Ma assaggerete le fiamme dell'inferno Perché non siete di questo culto È super classista È super Noi siamo meglio di voi E voi brucerete Non avete la grazia Non avete la luce Non avete Dio che vi guida Dio è Malika Malika è la madre La madre è l'albero E l'albero ci ama tutti Tranne Se sei senza la grazia E infatti tutti i vari ribellini Che incontreremo Saranno tanti culti diversi Ognuno che pregherà una cosa diversa Il serpente Raikard Together È la malformazione genetica Di un culto portato all'estremo Basato sul sacrificio Sulla violenza Sul diventare più forte Che poi ha assunto quelle forme Però c'è anche un altro culto Il culto dei draghi I draghi esistono E venivano presati molto prima di Quindi magari Invece di essere fan della grazia Dico Ma che cazzo me ne frega Voglio essere fan dei draghi Diventiamo fan dei draghi Io sono convinto Che lui sia legato Alla battaglia dei senza luce Di Godfrey Nel Beyond the fog Mamma mia Poi la sua spada È un po' secondo me Raikardesca È fatta un pochino Per richiamare Raikard Perché c'è tutto quell'intreccio Alla fine Che sembra un po' le mani Però secondo me Ma non Quelle con sapore Le tapioca sono quelle consistenti Ok no Quelle con sapore Mamma mia È Natale È Natale Raga È Natale È Natale È Natale È il suo albero Quello secondo me È il suo albero Allora Hanno fatto vedere Michela Hanno fatto vedere la sua mano La tira giù È il suo albero Come si chiamava Secondo me Tu che non hai mai giocato Del The Ring Seguite questa scena Registicamente parlando Può significare Che quello è il suo albero Questo è il suo albero No perché mi senti È pazzo Fai K Un albero Ricorda le dita Ah vabbè Non ti abbiamo parlato Delle dita Che sono letteralmente dita Le ho viste Tu hai messo la tua mano Con le fiamme bisogna fare attenzione Per come le hanno contestualizzate Perché dici che se no ci scottiamo Mi sembra di aver capito Ci prendiamo anche dei mochi Certo Yeah Che bell'idea che hai avuto Grazie Parlando di The Ring È vero che ci bevevamo sempre il bubble tea Ciao Gravier Hello Gravier hai visto cosa è uscito Prima di Silksong Oh madonna Madonna Ma che ridere Aspetta un attimo Che torniamo un attimo In full cam E che lo salutiamo Sorry No è tranquillissimo Sorry Ciao Grevini Sorry Così diamo il benvenuto Che c'è un sacco di gente nuova Oggi ragazzi siamo in tantissimi Perché è uscito Il trailer del DLC Di The Ring Che aspettavamo tantissimo Ma guarda che benuscolazzi Guarda che sono sti boni Come si chiamano i fan di Gravier I Gravy Rini Ciao ragazzi Benvenuti Oggi c'è anche Chiara L'avrete vista durante il Pogger Ti fate vedere durante il Pogger Io non faccio vedere mai Sono a regia Ma noi ti vediamo sempre durante il Pogger Ma io durante il Pogger Non mi faccio mai Ah ok Magari sei spuntata ogni tanto Per i cioppi I poveri Silksong Madonna Gravier portalto L'onore del girone Girone D Se il girone C Era il Jim Cherry Hai sfidato Gravier Durante il Pogger No allora Non l'ho sfidato io Siamo messi Insieme Asfaltata È un eufemismo Purtroppo Quello che è successo Al Pogger Rimane al Pogger Sì Cioè Diciamo che 17 secondi Per vincere 5 vittorie Erano anche tanti Nei miei confronti Più o meno 17-20 secondi Bene arrivati Come state Stavamo vedendo Analizzando un po' Il trailer Del nuovo DLC Di Elder Ring Perché siamo molto fan Noi Dei Souls Like Ma in particolare Di Elder Ring Scusami In particolare di Elder Ring Lo aspettavamo da tantissimo Scusami Arriva Arriva Tieni Ecco Grazie mille E ci stavamo infognando È circa un'ora Che riguardiamo il trailer Dopodiché Guarderemo un video Perché c'è un video Di WarioWareMovie Che sta uscendo Sul mio canale Dove ci sono loro Ed è montato molto bene Volevamo guardare insieme Dopodiché si parlerà un po' Di Asbin Hotel Perché Chiara è così bella? Rispondi Chiara Ma non è vero No Perché sei così bella Ma non è vero Perché sei così bella Non è una risposta valida Ma sai che Gravier È scappato a montare Il video teoria Su sto trailer È il del mid DLG Ciao Gravier Si è immediatamente Smentito Sono Lollo su Twitch Gravier Sta impazzendo Pure tu vero Devo essere sincera Mannaggia A quel telefono Guarda Devo essere sincera Raga Io non sono ancora A livello di fare teoria Su Elder Ring Quindi non vedo l'ora Dei vostri video Perché noi qua Stiamo impazzendo Tipo Gravier Se mi dare un piccolo spoilerino Che albero è quello che si vede Nel trailer Secondo te Voglio sapere solo questo Che albero ti è venuto in mente Che potrebbe essere E c'è un chiacchione Quante spade ci sono Mi sento in pericolo Scelgo il mio bubble tea E arrivo un attimo Lo voglio alla rosa Vedi qual è un gioco Che ho recentemente scoperto Che esisterà E non vedo veramente Preguesca Vai Il nuovo Budokai Tenkaishi Dragon Ball Che non si chiamerà Budokai Tenkaishi Ma si chiamerà Dragon Ball Sparking Zero Ho visto adesso Quelle moduli di Goku Mi avete tornato in mente Ok Cazzo non vedo l'ora Non vedi l'ora Mi spaccavo di Budokai Tenkaishi 3 Sulla Wii Ho preso un mochi E le arachidi Che sono 6 Ho preso anche un bubble tea Ho preso anche un bubble tea Giordano dice che Quell'albero è un castagno Bravissimo Se un albero Se un albero nominato potrebbe essere l'elfen Che è quello di Michela Elfael 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 Non è l'albero in sé È la struttura costruita sull'albero Per sostenere l'albero È la città costruita sull'albero Ok Però Siamo più confusa di prima Chiamo Chiaretta Ciao Chiaretta Che è bello vedere Ti sono immagini di più sul sito giapponese Guarda E appena mi sbloccano Sta cazzo di preorder Magari mi prendo anche la statuina Solo che c'è un po' troppo Oh Sta caricando Sta caricando Sta caricando Vabbè regà Faccio prima a prendere un biglietto dei BTS Sinceramente Non lo so No? No C'è più difficile Facciamo così Lo metto qua a fianco E vediamo che A un certo punto Potremo prendere la statuina L'Elfael è un albero Menzionato nell'arma guglia di Elfael L'arma dell'uccello nero L'albero nero della morte Sì Madonna Sì 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 L'albero di Natale L'albero di Natale Sì Quell'albero dell'uccello È confusissimo Chiara non sta capendo niente di quello che sto dicendo Però sì Batti un uccello enorme E ti dà l'albero dell'Elfael Gravi Era ragione Non si era mai visto quell'albero Cazzo è vero L'albero dell'uccello Proprio lui Qualcuno L'arma del BBB Cazzo Hai ragione Gravi Hai ragione Vero C'era l'albero di Natale Cazzo Rola L'albero della morte Mi sono smessa di chiedere C'è tutte le domande che avevo dote al The Ring Quando è finito il finale Ero talmente stravolta Che non ho fatto l'elenco di cose che mancavano Però in effetti c'era anche quello Il BBB Il Big Black Bird Ah come i Veltal Fai cosa scusa Niente niente Io come Chiara Un giorno Sarebbe molto bello Invitare qua Dei narratori professionisti E narrare Il The Ring Dall'inizio Alla fine Per chi non ha mai giocato Il The Ring Perché comunque è una storia Molto valida Secondo me C'è un albero lì Non so se quello dovrebbe essere collegato alla morte E l'intero DLC Sembra essere collegato a quel tema Sembra che il tizio Con gli api rossi In questo momento Non ha Non perde l'infa E non cola Non cola È vero Non cola come all'inizio E c'è dei fantasmi Potrebbe colare post Qualunque sia l'intervento Che sta accadendo adesso Oppure Colava prima di L'intervento Che sta accadendo adesso Graver tu dici Che i capelli rossi Di Messmes Sono collegati a Messner Cambio scena Ah siamo sulla scena sbagliata Scusate Google Oddio Dovrebbe essere giusto adesso Ok Sì Stavamo analizzando Un attimo L'albero Ah Servizio Niente Carichiamo di nuovo Prego Prego Servizio Una bailando Sarei come con di Napoli Mi piaceremo di Tanto 3 E anche Chiara Eventualmente Stiamo lavorando Per andare al comic con di Napoli Perché noi vogliamo esserci Spero arrivi presto La conferma Te lo faremo sapere Ci vediamo presto Per un meet and greet Allora Personaggio bestia preferita vista Allora cane È qua C'è questo tizio Che sta per terra Perché Vorrei No prego prego Quella è che si è preferita Il tizio con i capelli rossi Mi colpisse Quindi tu inizialmente Sei un attimo Storto con questa prospettiva Ma lui è per terra Cioè questo è un momento Ti hanno tagliato la parte in mezzo Certo Lui sta in piedi E l'albero è qua Sì Cioè almeno io La primissima volta Che ho visto questa cosa Ho immediatamente pensato Lui ha l'albero alle spalle In qualche modo E poi tipo Si gira E invece lui è davanti all'albero Ok Perché il movimento Che sta facendo è questo No è sempre la destra Sta alzando la destra È la destra Ah Lui è per terra Davanti all'albero L'albero è da questa parte qua Quindi comunque È dal suo punto di vista Quella seconda inquadratura Questo è dal suo punto di vista Esatto E non Che cazzo sia Sta roba Non lo so Non ci sono le ombre Non si capisce Perché poi comunque È tutto iper sfocato Sembra altissimo E lui è enorme Sì Tutti Ah se sei figlio di Marika Sei enorme È gigante Sei grandissimo Sei grande come un albero vero Della nostra realtà Però vedi qua Non sbroca niente Sì Non sbrodola Forse Questo è tipo il video iniziale Qua non c'è nulla Che scende Non ci sono i tevi E poi Io non lo so Se era Su una mia impressione Però mi sembra Che quando ci sono i teli Comunque la parte di sopra Dei rami Sia gialla Coperta Quella che è oltre i teli Sì Molto figo Sono d'accordo Sono d'accordo Mi sembra un ottimo Un disanimo Delle bestie La mia preferita È quella che sembra Mippopota Ma gli crescono mille corna Bellissimo L'istrice C'è ancora un nuovo mount Ma lui è incredibile Ragazzi Ma che paura Ma sembrava Che cazzo vuol dire Sembrava Ludwig Sembrava la mascella Cavallina di Ludwig A un certo punto Mi ha ricordato i bei tempi di Ah e poi tu non hai visto Francesco l'ha visto? Cosa? Ludwig? Sì 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 Ok Sempre in Bloodborne Per quanto riguarda le malformazioni Sono molto fan Delle cose disturbanti No no anche io Che è un gioco Non so giocare No guarda Neanch'io lo sopevo giocare È impossibile giocare a questo gioco A pochebono Smettila C'era questo uomo Che faceva Il favore della chiesa Però in Bloodborne Li aiutava Faceva parte di un piano Veramente tanto malefico In cui doveva Uccidere tante persone Raccogliere molto sangue Senza sapere Che questa cosa Avrebbe avuto delle conseguenze Perché in quel mondo Più sangue prendi Più diventi potente Ma ci sono dei lati negativi Ossia se Non sai gestire Questo gran potere Che ti arriva E che tutti vogliono La tua trasformazione Segue Cioè Ognuno ha una trasformazione personale Per esempio I vicari Che hanno tanto potere Nelle chiese Diventano questi esseri enormi Pelosi Molto grandi Che sembrano cani Però ci sono anche esseri Che diventano infuocati No quindi Ognuno A seconda del proprio difetto Delle proprie Ambizioni O Delle Sentimenti di storia Morti Subiscono una trasformazione diversa E Ludwig Si è fuso Col suo cavallo E quindi Quando lo affronti Lui è mezzo cavallo E ha un po' Una faccia normale Un po' Questo muso Con i denti da cavallo Ed è Inquietantissimo Ed è Incredibile Ludwig Il mio design preferito Di tutti i souls Finora Finora Questo bono Si basta un twink Con Con due serpenti Per conquistarti Ludwig Bloodborne Ti prego Ti prego Guarda 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 Sono io Che aggro tutti Ma Fangulo Fammi fare la mia fight Ti prego Questa è la scendizione La buca è fatta di occhi È vero Ho amato Questa Fight L'ho odiata Ma L'ho anche amata Perché Picinissima Cazzo St'arena di merda Piccolissima Loro hanno Sti talismani Albero di Natale Aspettiamo il video Di Gravier Va bene Vai Ha la mia stessa bocca Quando mi vengono le afte Per lo stress da lavoro Guarda Sono io Sono io Esatto Ciao Amethyst È vero Ragazzi Volete vedere il video Di Wario Bastel the ring Sì Dai che abbiamo Che sennò anche Chiara subisce Una trasformazione Si fonde con la sedia E diventa Ludwig Oppure lei Allora È uscito un nuovo video Vi invito ad andarlo a vedere Lo vedremo insieme Per la prima volta Noi Io ho la scheda aperta Però Eh mo qual è di queste Eh dettagli video Eh sì Eccola Aspetta Cosa sono io Vi volete iscrivere Se vi va Programma Eh no L'ho programmato per oggi Torno a febbraio Quindi c'è E non c'è Dettagli Scusate Scusi lei Non c'è Ma dov'è Pubblico E quanto è indietro Scusami Pubblicato 11 gennaio Perché me lo mette Così indietro Che cazzo vuol dire sta cosa Io non ho mai usato YouTube Però questo video Finora era privato Perché me l'ha messo così indietro Nei video Come funziona Non ha assolutamente senso Ma è qui Perché è qui Non è mai uscito Un mese fa Devo ricaricarlo Gabri Era privato Indietro in che senso Che non compare come ultimo video C'è scritto di un mese fa Mi apri Ma Ma Non abbiamo mai pubblicato Questo video Io e Gabri Ma chi li ha fatti Quelle 21 No Tocca ricaricarlo Non ho idea L'ho messo privato Eh sì Nessuno poi l'ho più toccato Quando è stato caricato questo Probabilmente l'11 gennaio Caricato il primo Del mese fa YouTube che dice cazzate Tocca ricaricarlo Eh infatti È stato caricato un mese fa Eh E non basta mettere un privato Tu l'hai caricato un mese fa L'ha caricato Gabri Non ho idea Che facciamo Lo ricarichiamo Roberta a caso manipola il tempo Pubblicando il video di un mese fa E comunque è stato caricato un mese fa In traveri YouTube Lo registro con quella data Non importa quanto utenti lo vedono Guarda come accusa Gabri No Non l'ho accusato Chi se ne frega Raga Non vi preoccupate È un video Cioè possiamo Posso Prendere il link Mettere un attimo privato E si ricarica Tanto sarà lo stesso Vabbè Gabriele con il best nome Vabbè ragazzi Molto semplice Facciamo così Sol ti saluta Vi saluta Ciao Facciamo così Non mi ricordo Però sicuro è privato Fai così Gabriele ricarica Non c'è problema Tanto sono solo 24 visualizzazioni Lo Lo vediamo adesso Scusate Abbiamo già visto una cosa Io lo metto Non in elenco Così lo possiamo vedere Voilà E si ricarica Va bene Se lo metti privato Del prestito Dovrebbe risultare caricato adesso Eh prova Io non ho mai visto Un bagno del genere Proviamo Privato Ok E poi Pubblico Yes Salva Salva Ok Vediamo se ha fatto così Ta da No È sempre di un mese fa È un bug Non ho mai visto È un bug Finché non è pubblico La data si fissa Quando è resente È pubblico Eh Tranne con questo video In particolare Hai salvato dopo il privato Sì 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 Mi hanno visto pure loro Privato Fine Salva E quindi qua In teoria Sparisce Puff Non c'è più Perfetto Dopodiché Pubblico Fine Salva Ricarica È un mese fa Eccolo lì No non c'è Ah aspetta Non c'è proprio Basta Secondo me Tiene una data di pubblicazione Ma raga Ma che schifo così Io non sono una fan di youtube E non l'ho mai usato Ma questo vuol dire Che uno non si può preparare In anticipo I propri contenuti Un mese fa È un bug Dobbiamo ricaricarlo Non può tenere In memoria La data di caricamento Qual è che stai parlando Di data di pubblicazione Stai parlando Di caricamento Caricamento È stato messo Per sbaglio pubblico Non credo Perché non era visto Da nessuno Però vabbè A nessuno mi ha notificato Che l'avevo visto Novio Vabbè si ricarica Non c'è problema ragazzi Ma figurati Secondo me Secondo me la cosa Più realistica È che L'abbia registrato Come pubblico E quindi Abbia effettivamente Registrato Una pubblicazione Non Un upload Non ha senso Che ti tenga La data di upload Come data La ricarichiamo Ti va bene Gabri? Se fosse stato pubblico Sarebbe arrivata Le vagonate di messaggi Per segnalare la cosa Anche a me Sembra strano Infatti Ragazzi In questo momento Il video non è in elenco Però ce lo dobbiamo guardare insieme Perché effettivamente è così Lasciatemi Il tempo di ricaricarlo E poi tanto Devo ancora dirlo Anche su Instagram Adesso lo ricarico Gabri Ti preoccupare Aspetta Aspetta ricaricarlo Aspetta di cancellare questo Non caricare un videoclone Perché YouTube lo detecta E cosa facci? Ti dice questo video uguale Ah Ok Rischi che ti si bughi In altri modi Non caricare la stessa cosa Due volte Grazie Ecco Lei ne sa Io no Non ascoltare me Molto spesso ne sa di più Lei Chi la sa? Mi è capitato di aver bisogno Di caricare più volte La stessa cosa Per problemi di elaborazione E se ti detecta Che stai caricando Due volte la stessa cosa YouTube ti comincia A farei questo video Un doppione Sei proprio sicuro E in quei casi lì È sempre un rischio Perché sai mai In quanti modi Si può rompere dietro L'algoritmo Ok Qual è il record di cloni Quattro Eh mi sa Eh c'è stato Un periodo in cui Non mi partiva L'elaborazione Dei video L'unico modo Per farlo Era metterli Più volte In upload In contemporanea E a un certo punto Uno si sbloccava Però c'era anche Il rischio Un padonna Sanna Però sei determinata Mi piace questa cosa Ragazzi Questo è il nuovo video Che ha fatto Gabritos Ce lo vediamo noi In antiprima Ma molto presto Sarà sul mio canale YouTube Quindi Questa è la first reaction Quella proprio vera Ma potrete rivedervelo Anche su YouTube In questo video Ci siamo tutti e tre Io non l'ho ancora visto Neanche io Io sì Sei uno dei 24 Ok Sei uno dei 24 Che l'ha visto World Premiere Chiara potrà pure avere Il record di videocloni Ma noi abbiamo L'intervista a Merluzzo Come record La mia migliore intervista Secondo me possiamo Farla vedere Prima di questo video Cos'è l'intervista a Merluzzo? Allora Fa abbastanza piangere Però Datemi un secondo Dov'è? 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 Aspetta Allora Chichi Beh Voilà Andiamo a vedere Vi Aia Maledizione Eccolo qua Eh? Eh? Ragazzi è un successo Guarda i commenti Mi è interessata Beh mi sono sembrate Delle ottime domande Molto interessante La parte in cui Di qui sull'influenza Della filosofia Di che è stata Vabbè Quel secolo Avanti Cristo Però se la migliore intervista Per nessun tempo morto E anche l'espressione L'inguaggio La domanda C'è sti commenti Non posso Cancellando sto video Un'opera 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 dir poco Sensazionale Montaggio Ma guarda In che cosa Guarda quanti commenti Alla fine Ragazzi se volete commentare Ancora adesso A me fa solo Sempre più ridere Il fatto è che questa intervista Abbiamo più visualizzazione Di quella Con fiore magna In cui non la pietra Insieme È la prova definitiva Che si tattina Un capolavoro Wow Questo video Santino nel portafoglio Ed è una schermata nera Questo è il mio Secondo migliore video Il primo video Quello di Mario Kart Che continua a rimanere Un capolavoro Dovrebbe stare al mobile E ieri sera Si stava riguardando Ieri mi stavo riguardando La mia intervista A me per caricarmi Per oggi Pronti? Vai Via Sono qui Sono proprio io C'è Gianca Antonio Questo weekend Dove? A sopoltarlo Sono i microfoni Che stai un microveccello Come mi chiede Di cosa è successo Ho avuto un problema di mezzi? Ah ok Scusami Era un problema di borse Io non sono in live Da una vita La cosa più figa Che è successa Nella mia vita Di cui non ho ancora avuto Il posto di questi Che parlare in live È che ho cominciato la parola in televisione È vero E come è andata Io so tutto No Che è assurdo Cosa fai Come hai fatto? Aspetta Come ho fatto? Ho fai cinta di non so per niente No Ho cominciato la parola in televisione È vero E come è andata Io so tutto Fai cinta di non so per niente Coriglione Carducci Molto tanto Perché ho fatto un errore Perché alla fine del segmento di anteprima C'è un titolo da scrivere Dove c'è scritto incredibilmente Fin'anteprima Però io ho un altro titolo Dove c'è scritto A tra poco Da mandare alla fine del programma Prima dell'ultimo stop Sì In scaletta mi hanno scritto Di scrivere A tra poco Alla fine dell'anteprima Il regista è venuto da me Mi sa Guarda c'è un errore in scaletta Là ci devi mettere Fin'anteprima Molto assorbata È stato un po' bruttino Mi hanno un po' urlato d'osso Mamma mi sarei Non è vero Allora O le avrei mangiato i pipi O mi sarei messa a piangere Ah io mi riusco Ok Ha un redemption arc questa persona Più che altro l'aiuto regista Lei alla fine della puntata Non si è venuta parte E ora lei Non avete pensato tutti che fossero I registi Suogi Comunque Emanuele Arrivando da parte Mi fa Chiediti se effettivamente Sei capace di fare questo lavoro La volta dopo sono tornata Ed era tutto perfetto Ok la volta dopo Sono tornata di nuovo Ed era tutto perfetto E poi non ci sono stata Perché sono andata a Lucca Quindi c'era un mio sostituto Sono tornata Emanuele mi ha visto arrivare Ma Chiara com'è andata a Lucca E poi mi racconta Delle prove Che ci sono state Mentre non c'ero Mi ha detto che il mio sostituto Ha fatto un po' di bordellone Dopo le prove Il regista la chiama Mi viene subito qua E lei Porca puttana Perché lei è quella che si prende Le parti a culo del regista Per tutti gli errori È una cosa molto toscana Eh sì Le parti a culo Toscani voi due Toscano lo dice a lui Emanuele mi ha convocato dal regista Dove cazzo è Chiara? Lucca Comics E che fa? Si sta travestendo Perché se frega? Ma va No è responsabile di palco Facciamo le prove Facciamo la registrata Facciamo la diretta di sabato Va tutto bene Finisce la puntata Il regista saluta Prende le sue cose Si mette la giacca Prende il suo tabacco Fa Grazie a tutti Buona serata La prossima settimana Io sto facendo lo zaino In quel momento Semplicemente alzo la faccia Per fare tipo Esattamente in quel momento Incrocio il suo sguardo Perché mi stava guardando Tu la prossima settimana Ci sei? Non è una domanda No Eh non del cazzo Dove sei? Responsabile di palco Pikachu O un brasone Torneo Torneo di cosa? Oh mio No Sono andata dal pulmo Dicendo ci penso Io a parlare con tuo superiore E va via Quindi io non so Con chi voglia parlare Dicchia Francesco Stai molto attento Perché arriva sto tizio E lei prendi Detto questo Sei pronta Di acqua Non esce Texted live Di Wario Oh che carina Tu sta Penny Oh mio dio Io voglio Ashley Quasi sono tutti Whatever E' il contrario E' il contrario E' il contrario E' il contrario E' il tender Ma il Mielo Lavendo il mic Lo sentiamo poco Eh lo so Futtivi Sì Che era quello carino Stavale Vince che ha tenuto Il punteggio più alto Arriva il razzo E lascia tutti Quanti in terra Oh yes E ciao Io sono in ritardo Come ne vado a capire Purtroppo rica Sti dati sono un po' bastardi Sto gioco è Abbastanza incredibile Dall'inizio alla fine Un po' come off in time Let's go Io non so No regà Non so Il mio è verde Guarda quanto sono Assolutamente Non in grado Ma come funziona Sto finchia di gioco Sto dando Sono a casa mia Adesso mi fermo L'unica strategia Mamma mia Che meravissimo Sto finchia di gioco Sto finchia di gioco Sto finchia di gioco Sto finchia di gioco Ok Sto finchia di gioco Sto finchia di gioco Raga Una gara di colori anche in chat Dite? Dai ragazzi In verdi Forza Sto finchia di gioco Sto finchia di gioco Sto finchia di gioco E arriva il razzo E lascia tutti I quanti c'è Raga Ok Dai Se non avete mai visto Questa live È una gara anche adesso Ragazzi È verde Contro Vert Contro azzurri Contro lancioni Sto finchia di gioco Praticamente Che non è mai iniziato Sto iniziando ora Per la prima volta Sono molto curiosa Di sapere Che cosa succederà Ragazzi Sto per morire Vi giuro Non posso stare ferma Così Che incredibile Mamma mia No Cannatissimo Mamma verde Che siete Vabbè Chiara Che cazzo Raga Perfess La donna santa Non si posso credere Hai raggato A quanta nome ho Allora Praticamente Porca Non c'è un canone Hai visto qualcosa Mamma mia Rascuccio con l'odio Che è divertente Ma sono una pippa Oh E poi Allora Ma sono appena arrivato È proprio vero Niam 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 Dammi tutto Però No Non c'è un'esplosione Pupa Quanto sono grossa No No Assumo la posa O sono in punizione Guarda Mamma mia No Emigliano Sono stanca Come è possibile Ho vinto io Cos'è Siamo tutti pari Yeah Yes Era questo momento Che stavano aspettando tutti Oh no Oh yes Questo abbiamo fatto anche a Lucca Oh mio dio Sì Attenzione Che carini Mamma mia Che cazzo di gabbiani Perché ci guardano Ma non è vero È vero No Smooth like butter Like cream Alla La 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 Ma Porca puttana Mi fa Cazzo di gare No Madonna E chi vince Chiara Mi ha vinto Emigliano Mi ha vinto Chiara Mi ha vinto Ecco l'audio Scusami Hai vinto Tu i tuoi 150 punti Stati pure vincendo No L'audio solo perché non vinco mai Oh Oh Ciao a tutti ragazzi Ma come colpisco il niente Hai preso le strade Ma che dici Ho vinto Amo questo gioco Eeeh Amo questo gioco No 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 Madonna Io di poco credo E forse non voglio più tirare dati Forse si sta meglio Dove sei tu Dai Adesso vedi che cosa Quattro Cinco Discolletti Controller Roberta Presto Raga questo è difficilissimo Ok Devi perdere un po' codrillo Ma voi non sapete La mia tecnica speciale Ma non ha funzionato vero Ma tanto mi tolgo Il 300 punti Ma io giocare E devo giocare L'ho perso Sei arrivato E hai preso 150 punti Ma ha vinto Emiliano Ma comunque lui ha Che bello Ciao Emiliano Ottimo partito Guarda come siamo tutti i guerrieri Ah è tipo Squid Game Esatto Sconfiggimento Eeeh Annappia Venuti annappia No Questo sarà più facile Sono sicura Praticamente oltre che a fare i minijocchi Devi anche stare attento a fermarti quando le si gira Però ogni volta che c'è un serpente c'è un minijocchi Con la musica del fan Ho mai vinto un minijocco Fino adesso E non sono avanzata di neanche un metro Non muoverti Come ti sto Locomotiva Sì che carino Ma pure Nooo Ah sei di pietra Una foglione Le facciamo? Sì 3 2 1 Via Pulisci Ok Non muoverti Ah 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 Brava Rafferiamo Non muoverti 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 Porca miseria è già arrivata Non è possibile Perché sto sudando Non muoverti Dai stupido sumo Lottatore Forza Yeah Yeah Non ci posso credere Di quanto Tutto a seconda I piani Rex Ma dove è spuntato quest'altro? E poi? E poi? Tu da sola Sistemalo Oh yes Che c'è No Che c'è Saus Sto sbrettando A quel momento Oh no La testa l'hai presa? Vincerà per voi Verdi Voglio vincerne almeno una Ti fai combaciare il viso No Che cogliona Vaffanculo Ti perdi Ti in buone mani Raga No E li grilli Eh? Non ho capito È il bambino Mario Ok Non ho male Chi era quello? Ancora tre punti No Orbulon A posto A posto In che senso? In che senso? Ma che vuol dire? Ma che è vero? Yeah 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 Non mi puoi schiamare Ah voi due Chiara io che ho guardato solo te Possiamo rivederlo Mi prego Guardate solo Chiara Che senso? Che senso? Incredibile Perché tu ci hai messo più impegno che noi Guarda Yeah 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 Non mi puoi schiamare Sicuramente mi abitanzo Ah voi due Vieni al cielo Roteate e sventolate Uuuuh Ecco qua Uuuuh Ti ho stirato un Come si mangia? Ma aspetta vuoi che blocco? Ma non Devo vedere Che carina E carina Che carina Nuova gif sblocata Oh yes Madonna Gabri Ma è un capolavoro Sto video Devi assolutamente Ricaricarlo a breve Così almeno Abbastanza gente Se lo vede Ci faccio anche il mini trailer E ce lo metto sul canale Ah Che ridere Che ridere Che ridere Che ridere Madonna Oh 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 Nel frattempo cose che non potete sapere Guarda qua E guarda qua Madonna Madonna Ragazzi ho vinto dei soldi Effettivamente Non è vero Non è vero Gabriete è bravissimo Madonna Voglio vedere se avete fatto Altri meme su Chiara Però Quello mi fa molto ridere Ah Ma poi abbiamo abbastanza energia Per parlare di Di Asbino 10 Io lo so Mi sento molto divertente Ah Come stai tu oggi? Che giorno è? Mercoledì Ma questo che vuol Che c'entra? Roberta non dirmi Io è tutto Ieri E anche un po' Dell'altro ieri Che continuo a pensare Ho un overview Una panoramica Della mia settimana Lunedì arriva Mia sorella Martedì Avevo un aperitivo Con Andrea Mercoledì Faccio questa cosa con te Venerdì Andrò Facciamo Cioè Giovedì Io Sono mega convinta Di avere qualcosa Domani Bella festa Non so cosa Se è un impegno di lavoro Se è un appuntamento Con qualcuno Non lo so Ho costantemente Questa sensazione Che giovedì C'è qualcosa E non so cos'è E giovedì e domani Eh sta arrivando E cosa sta arrivando In agenda In calendar In notion Niente Ma come Però di solito segni Giusto Come no Ma come ti ricordi le cose Eh appunto Cioè le cose che mi hai chiesto oggi Se no vissi quella Io non lo saprei Eh vale No Sei un fico Perché tu ti asso oggi Eh A maggio Io ti ho detto Certo Ah no Vabbè No No Le cose grosse Me le segno E però tipo Le cose più piccole Giornaliere Spesso non me le segno Quindi non so Anche i mochi Anche i mochi Anche i mochi Ma scusami Però Sette euro Ti sono giucciati Eh no Devo andarci Io ho preso il bubble tea Per i mochi Non volevi il bubble tea Più o meno Volevo di più i mochi Oh Io ho preso la penna Esca Sarà questo Eh sì 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 Questo è rosa Ma scusa Ho l'anzasione di fare qualcosa Ma non penso sia dovuto Al fatto che Forse sei stupita Di essere libera E anche quello È molto molto Comune Non lo so Non ne ho idea Boh Chi lo sa Tra senti di chiamarli Che magari Cioè il rider Non te li ha dati Magari ce l'hanno ancora Con il motorino Ah intanto ti racconto Mi sono già so sta cosa Una volta Ho ordinato Ho ordinato Da mangiare Insieme a mia sorella Sì Un mese Un parche settimane fa E Deliveroo ti fa Se ordini adesso Entro i prossimi dieci minuti Puoi anche metterci tipo La spesa All'esse lunga Deliveroo Però non paghi le spese Non paghi le spese Di servizio Sì Perché ti conta Come se fosse Un'aggiunta dell'ordine Secondo non c'era Lo scontrino E questo? No Ma Non c'era lo scontrino No Non c'era lo scontrino Non è qui allora No non c'era qua Sì sì Ah diglielo E quindi Ma che è tutto Ordiniamo cena Io dico vabbè A questo punto Aggiungiamoci pure Da cagata l'esse lunga Che effettivamente Non stavo facendo la spesa Da un po' Prendiamoci Un paio di bottiglie di coca Qualche altra stupidagge Vuoi un gelato? Ok E Il mio obiettivo principale Era quella coca cola Cioè Ero entrata in momento Ho bisogno fisico Di risolvere La mia dipendenza Da qualunque cosa ci sia Di droga Dentro la coca cola Boh Ma non volevo spendere Tre euro Per una lattina Che è quanto ti fanno Spendere di solito I ristoranti Per una coca cola Certo Quindi ho detto Facciamo che lo prendiamo Dalle selunga Così Ma con tre euro Per due bottiglie Da due litri Cioè Sì ci sta Quindi avevo molta voglia Di coca cola Eh Ora Naturalmente sono due ordini diversi Uno è quello della cena Uno è quello della minispesa Mi suona prima quello della minispesa Io scendo Nel momento in cui scendo Il rider sta tirando fuori Il sacchetto dallo zaino Intanto mi fa il codice Sì Dammi il codice No dammi il sacchetto Mi sembra molto sgarbato E quindi mentre sta tirando fuori il sacchetto Fa il codice E lui dico Ah il mio codice 68 Ok fantastico Mi dà questo sacchetto E ha un peso totalmente sbagliato Una forma totalmente sbagliata Per quello che avevo preso Quindi io lo prendo E gli dico Aspetta un attimo Leggo effettivamente Che sullo scontrino C'era scritto tipo Una bottiglia di olio Da un litro E del pesto Quindi era l'ordine di qualcun altro E dico Guarda questa non è La roba che ho chiesto io Lui guarda un attimo E fa Ah no Effettivamente sullo scontrino Cioè il numero d'ordine Tal dei tali Il tuo era quest'altro Ma però non è colpa mia Mi hanno dato il sacchetto sbagliato Come facciamo? E io gli ho detto Guarda te lo ridò Se torni un attimo All'esse lunga Ti fai dare il sacchetto giusto Ah sì sì Ok va bene Allora va Io intanto salgo E mi arriva E poi apro Deliveroo E vedo che l'ordine È segnato come consegnato Sì Perché l'ha chiuso ormai Perché è dato il codice E quindi sono lì che penso Lui come cazzo Lo ritrova il mio indirizzo Esatto Madonna sembra una storia di corno E con le brioche guarda Quindi Siccome Io non posso più chiamare un rider Di un ordine che è segnato come chiuso Esatto Immagino che sia la stessa cosa anche per lui Che non possa neanche chiamarmi Nel momento in cui chiude l'ordine Aspetto un po' E poi penso Vabbè non tornerà mai Mi baffanculo che palle Scrivo Nella cialatta di assistenza Aiuto Aiuto Mi stanno rapinando Cos'è successo Cos'è successo Fra le varie opzioni La cosa che è successa è Ordine sbagliato Sì Apro la chat di assistenza con Deliveroo Inizia questa chat Con una tipa A cui io spiego Guarda Ho fatto un ordine all'essere lunga Ma mi ha importato la spesa di qualcun altro Ok mi dispiace molto per quello che è successo Mi puoi fare una foto Dell'ordine sbagliato E io dico guarda In realtà non ce l'ho Perché ho dato l'ordine sbagliato L'ho restituito al rider Non c'è lo scontrino Te lo posso giurare Ce l'avevo in mano Ma allora nella tua Ma io non c'è lo scontrino Io te lo giuro Cercando di capire dove cazzo è finito questo scontrino Ce l'avevo in mano Ce l'hai in mano? Te l'hai in tasca? No Non è qui Te lo giuro E allora niente E no devi chiamarli E devi dirgli Ascoltate Fate a me Non avete le dimenticate I miei mochi Ridatemeli E serve lo scontrino? Ma basta anche l'ordine di delivery Non è che sono Non è lo scontrino È colpa tua? Sì No? A quanto pare Perché magari non è attaccato No me l'ha dato Me l'ha dato fisicamente Me l'ha dato la busta con le robe E poi io stavo chiedendo E mi ha detto aspetta aspetta E me l'ha dato lo scontrino in mano E quindi avevo lo scontrino in mano con la busta L'hai buttato? Dove? Da qui a lì È caduto? Nelle scale? Ti l'hai messo in tasca? No Non No Allora è sparito Va bene E l'ha preso Yuzam Yuzam E quindi La tipo mi fa Mi fai la foto? Mi serve la foto? E le dico No ho ridato l'ordine al rider E lei mi fa Quindi non ho capito Ti è arrivata Ti è arrivato un ordine diverso rispetto al tuo E ho detto Sì Io ho chiesto una cosa A me è arrivata un sacchetto con dentro degli oggetti diversi Ok Per procedere ho bisogno di una foto dell'ordine sbagliato E io le scrivo di nuovo Ho restituito L'ordine sbagliato al rider Appena ho visto che Non era la mia roba Ma non gli ho fatto una foto E lei mi fa Però il rider ha ricevuto il codice E io le scrivo Sì ho dato il codice al rider Prima di prendere in mano la borsa E rendermi conto che effettivamente non era la mia roba Quindi continuo questo rimpallo per un po' Fino a quando lei mi fa Un attimo che verifico cosa posso fare E poi torna da me e mi fa Allora le opzioni che ti posso proporre sono Restituirti il credito Sull'account Farti il rimborso Oppure ricreare il tuo ordine Farlo partire di nuovo Bella Io volevo quella coca cola Quindi le ho detto fallo partire di nuovo Allora la vogliamo Va benissimo Siamo a posto fantastico così E quindi nel giro di pochissimo Era sulle scale Nel giro di pochissimo Mi suona Neanche dieci minuti Mi suona il rider Con effettivamente Quello che avevo chiesto Che quindi erano Un paio di litri di coca cola Una confezione di gelato Un po' di affettato Un po' di pane E roba del genere Prima sopravvivenza Poi dopo cinque minuti Mi suona il nuovo citofono Oh no Ed era il primo rider Che era effettivamente Tornato all'esse lunga A recuperare il mio primo ordine Quindi avevi più coca di prima E quindi ci ho avuto due volte Madonna ma che culo Ma che bella Ma che bella Una cosa meravigliosa Non capita mai È stato molto 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 carino E infatti quando sono scesa Lui mi fa Eh no Altri Altri non sarebbero tornati Io invece sono tornata È stato molto carino Non è un'altra Si sta per far cadere Emiliano Tra l'altro Non è un primo Che si è messo sotto i piedi di Emiliano Senza che Emiliano Se ne accorgesse Un piccolo pupis Signori e signori pupis No è Purtroppo non Si divincola Piccolo E lui è piccolo Chiara blacklistata All'esse lunga No Chiara blessata Dalla sua pazienza Che ha ottenuto due cose Quindi i miei mochi Eccoli E cosa faremo Cosa faremo Mi hanno dato una segnalazione E quindi Che arriva credito O ripartono Che canzone sono Voglio Voglio che la mia storia Finisse come la sua Vai All'esse lunga Ma all'esse lunga A prendere i mochi Dai vediamoci il video Allora Internet Doppi mochi E no E non è doppi mochi Non finisce No la conna Questa è da Questa è da bastardi Veramente Se non l'avete mai fatto Prima a prendere In piacere le gambe Dai Oddio Questo Sono morto un botto Vai 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 Yes Oh questa è nuova Ok Cominciati proprio alla fine Veramente Senti crimine Pucciati Oh Oh Che incredibile Che incredibile Che vero Brava tu E bravo tu Oh no Pronti Ma 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 Yes Che cazzo per lì Ma da me non è arrivato Cosa Scrazzano Mario E lei è vero Vai 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 Fuori da questa corte Presto Presto Di là Vai Ma devi passare Ma ero girato di là Ho tirato di là Ma non ci sono Luglio Perché guardi muoio Ci chiedete ora il vostro Pone del nickname Ragazzi Perché qua Si lotta Fino all'ultimo sangue Non si bagnerà Questa giovale donna Abituata alla pioggia Alle intemperie Un pochino Si è bagnata Ma ce l'ha fatta Mamma mia Ragazzi E metroidi Rido così tanto Qua si pare Sì Sì Quindi avevamo detto Questa Sì Siete stati bravissimi Ragazzi Ma un vincitore Si ha deciso Sì a tutti quelli Che hanno scelto Il team arancione Possono urlare Orbulon Orbulon Io nei panni di Wario Dai nei panni di Penny Orbulon Bravo Gabri Bellissimo Ciao per il video Con tutti quanti I character di Smash Alla fine della partita Quando te Ragazzi Quanti i microfoni Mi siete da male Mi prendono entrambi Va bene Ok Allora aspetta Quindi praticamente Hai visto il video Hai visto Che alla fine Di una partita Di Smash Oh no Grazie Alla fine Di una partita Che cazzo dovevi dire Poi Non mi ricordo C'erano alcune Di Smash Che applaudono Giusto Chiara nei Penny Di Penny Cioè hai scritto Penny Non mi ricordo Però sto pezzo Dove le tue Le parole sono Sulle più Bellissimo Bellissimo Bravissimo Gabri Sì 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 Sono tutta orecchie Bravo Gabri È incredibile Sesto video Bravissimo Ricaricalo quando vuoi Rendilo pubblico Same titolo Parlo proprio Caricato da pubblico Subito Caricalo immediatamente Non ti preoccupare Ho già pronto il trailer Lo carico io Bluscio ed esplodo Che ridere Quando esplodiamo E facciamo le cose Che bello Di Mario Kart No Non l'hai mai visto Non l'hai mai visto Django Non l'hai mai visto Titanic Allora Ma è della partita Che hai fatto Mentre noi eravamo In Amsterdam Sì Allora Io te lo dico Sono 33 minuti Ma è il video Più bello E meglio montato Che esiste In questo momento Su Youtube Italia Ok Non sto scherzando Perché sono 8 prospettive diverse Cioè Gabri Tu non si è basato Sulla mia Le ha prese tutte Una per una Ma che cazzo Ti vogliai Gabri Quanto ci ha messo A montare quel video Il video di Mario Kart E Artr Ma certo Silver Shadow Ma certo Si guarda Mario Kart Confermiamo Fatto da Dio No ragazzo No No è incredibile È incredibile L'avrò visto mille volte Tu lo sai a memoria Ci ho messo un mese Mai più Lei lo riguarda Regolarmente A volte Mi sto facendo i cazzi miei E sento No ragazzo no E lei che ride Ma è successo 6 giorni fa Sì Cioè 6 giorni fa Ho rivisto quel video Raga L'ho riguardato ieri Sei pronta Va bene Allora Ti giuro Ho solo Un piccolo Panico Davanti a questi A questi video Perché non riesco A non pensare A quanto sono Mastodontici Da montare Quindi c'è proprio Qua c'è tanto Da imparare Secondo me Ok Perché Allora Gabritus è un mostro Di montaggio È una perla Che sono contenta Di aver scoperto Cioè se Gabritus Decidesse Che qualcun altro Più Tipo Fedez Gli da un milione Di euro Io sono finita Morta Sepolta Però Gabritus Avrebbe un milione Di euro Quindi Questo sarebbe Un lieto fine Te lo auguro Gabritus Ma è il montatore Più bravo Di tutto Aiuto Ma lo dico Non trovando Shade Gli altri Ma Gabritus È nato Sotto una stella Particola Io non so Che cazzo Ha messo In questo video Questo video Su Shorill Tra l'altro Gabritus Del lavoro Da darti Cosa Gabritus È stato bello Gli riterebbe Di meno E in anticipo Minimo Chiara E Fedez Benissimo Chiara E Chiara Ferragni Forse no Chiara E Fedez Luca E Paolo Radagon Tu mi uccidi Con queste parole Ma non ti fermerò Regali Cosa Ori Noi regali dei sub Sono pronti Ragazzi Arrivano lunedì E Cristina Ferragni Gabritus Se non sei milionario È colpa di Ciki Io faccio del mio meglio E io ho detto A Gabritus Di dirmi il suo prezzario E non me lo ha detto Io più di Ma Gabritus Secondo me Lo sai già Che cosa che devi fare Cioè ti è già stato detto Ah Lo so anch'io Allora Ah lo so anch'io Ciki È Ibe Eh Se lo sei tu E lo sa lui Allora Allora Eh sì Allora Sei pronta a 34 minuti E ragazzi Ce lo rivediamo Il mio momento Capito della giornata Mario Kart Ehi Sai cosa ci starebbe benissimo Prima Sveglia C'è capito Nel live di tutti Ce le scaricate tutte Ce le ha tutti in grand'angolo In grand'angolo Sì vabbè Perché noi non avevamo I nostri video Reciprocamente È Goddash C'è il ragazzo Luna E quanto ballano tutti Infatti mi chiede quello che Tutto il video È la camera più sfocata di tutti Non so se era una roba Del video o altro Però No anche Viking Viking è Falesemente In un bar Questo sfondo blu Ogni mese Scelgo la mia città preferita È sempre una persona diversa È come la tua canzone Mi piace Vino di Hamilton Ragazzi Buon pomeriggio Sentite tutto Il team Italy Salutate Salutiamo a vicenda Yeah Che saluta Pizza Team Italy è pronto A sucare Vi voglio competitivi Dobbiamo essere competitivi Scusa Dobbiamo Umbiliare tutti Io vi devo raccontare La mia giornata Lo faccio adesso In countdown Starto la mia giornata così Accendo il mio portatile Metto la webcam Metto il microfono Attacco la switch E penso Cazzo quanto mi sono organizzato bene Mi guardo allo specchio E faccio Francesco Tu sei uno che si organizza da Dio Bravo Mi rendo conto che sono un bel ragazzo Poi mi siedo al portatile Attacco il caricatore alla corrente E in Olanda Hanno solo le tedesche Lo spinoppo Di conseguenza Dico porca miseria Questo è un problema Non avrei detto porca miseria Suppongo No Ho bestemmiato Vado giù in hotel Come tutti gli hotel che si rispettino Avranno dei convertitori Degli adattatori Vado giù e mi guardano Come se gli avessi chiesto Non lo so La sacra sindone di Gesù Cristo Poi si sottintende il portiere Noi queste cose non le facciamo Dico vabbè ok Non c'è problema Vado al primo market che troverò E prenderò un adattatore La quest mi ha richiesto Due ore e mezzo Ho trovato un adattatore Che viene definito come universale Io chiedo al commesso Se l'universo contiene anche l'Italia o meno Lui mi risponde Torno felice a casa Metto effettivamente il caricatore Funziona Dico bella La giornata è svoltata Lo streaming si fa Riprendo un Uber Vado a mangiare Vado in bagno Perché mi scappava la plin plin Mi abbraccio sul cosino Per asciugarti le mani E sento un pizzichio fortissimo E faccio Cazzo ho preso la scossa ragazzi Però continua questa cosa fortissima Mi fa malissimo E dico Madonna che scossa lunga Che ho Mi guardo e ho una vespa gigante Con il culo Completamente dentro Il mio braccio Entra muscolo È una delle mie fobie più grandi Essere un'altra Una vespa E non mi era mai successa In vita mia Ma la vespa lo fanno Colgo questa vespa dal mio braccio La vespa vola Io pure Mi chiedo E dico i miei commensali Se muoio di te ragazzi In streaming Che non ho potuto fare Mario Kart Mi fa ridere che nell'hotel C'è una poltrona da game Che sembra sia andata su Stai facendo il vero Chi può dirlo Il fatto dell'app è successo anche a me Il 26-12-2023 Ma perché ori hai segnato Caro diario Santo Stefano Si riguarda bene Madonna Ah è vero E' una roba come il giorno dopo Natale Ma un punto in gaming Aspetta se vado Se vado sul canale ufficiale Poi di Twitch Rivals Mi vedono fare queste cose Secondo me si stacchandalizzano Lasciamo bene Ci stanno dicendo cose Sul Discord ragazzi Ok asap nella lobby Come si fa andare nella lobby Devi o starla Tu la lobby Torneo Ok Crea torneo Inserisci il nome del torneo Rivals No no non faccio cose esotiche Esotiche Sfida a squadra Oggetti normali C'è più normale Veicoli Guida assistita Frequenza settimanale Giorno della fine domenica Ragazzi ma siete sicuri? Mi ha incontrato a tempo determinato Teremo chiederlo alla chat Audio we do the lobby Siamo già i più odiati di questo Tu lo sai Che adesso che tu hai scritto Audio we do the lobby Ci mandano Ci mandano una paella Che luce Ma adesso un rival Non so che devo fare Il cornetto al cioccolato Quello che è davvero micidiale Che we need the lobby ready E frafa ok 5 minuti dopo Come si entra in una lobby allora Chiedono dalla mia chat di scrivere How do we do the entering in the lobby How do we do the course We want you to press the pedal E' tutto brum 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 Non ha fatto alcuna lobby ragazzi Quindi diamo la colpa a lui? Sì Sì No Perché no? Dunque in chat Voi sapete da qui in poi Come possiamo poi Iniziare a correre È confusa tanto quanto noi Io direi che questa prova è fallita Facciamo finta che sia saltata la luce in Italia Ma io sono amsterdam Il capitano deve affondare con la nave Francesco affonda ti prego Secondo me anche gli organizzatori Si stanno facendo qualche domanda Perché non mi hanno risposto Stanno cercando di capire how do we do Che cazzo di chi Ma allora fa Mi cittura Mi cittura Come in il help Go to friends and rivals Now you click in my name Join me and my friends join you Ok? Nail this Something Tell me Ok? Yeah How do we do perché assistita la guida assistita la devi togliere io sono in mezzo a persone chiaramente io gioco senza audio tra l'altro dico sia voi che alla mia chat ok questa è la promenada ragazzi state attenti a io ho già preso 27 muri è però questa è difficile stava io non la conosco no che bastardi c'è qualcuno di noi in una posizione decente mi raccomando con quei gusci e sono dietro di te occhio ma com'è che funziona la questione a squadre cioè se lo sparo un guscio posso beccare anche un alleato allora ragazzi io farò quel ruolo praticamente io faccio schifo per tutta la run poi però mi capita l'oggetto sgravo e arrivo primo va bene ok francesco bastardo non si dice i rocchi aia mi hanno ucciso che hanno ucciso non si può morire in mario kart io sono lì io sono lì sono primo secondo adesso vinto tutti nelle mani di viking io sono arrivato ottavo almeno nono vabbè quanti punti abbiamo fatto bene dai dai qual è l'altra pista prendiamo subito l'altra cosa con ninja sempre dlc essendo in tethering dal no no ho sbagliato ora arriverà quella di midna sicuro non sceglierà ma c'era un lag incredibile io stavo premendo il tasto per andare al como ninja è solo tutta colpata non ti preoccupare va bene va bene ok però questo percorso è più male ok a midna non ti ho preso col guscio meno male comunque ho vinto però non so se vale grazie provarsi no non credo vai no io sono ultimo però porca mi sei va bene non importa io odio gli oggetti che mi portano a perdere posizioni in maniera chi è che sul canale sta facendo i pronostici in cui io arrivo ultimo dobbiamo chiedere ai rivals che succede con la seconda gara ragazzi non so mai ci tolgono i punti della seconda gara non devono farlo guscio blu cazzo il guscio blu no cazzo quanto è difficile giocare senza audio ragazzi mamma mia ragazzi quanto è difficile giocare se non l'hai mai fatto mi hanno messo un'ansia assurda questa cosa del linguaggio quindi mi raccomando il linguaggio anche dei topic da trattare mai visto che roba alucinare potremmo parlare di monete volendo vi piacciono? non ne ho neanche una eh si vabbè Madonna viking io avevo l'inchiostro e anch'io cazzo 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 che cretina merda ma che romare il coso non si dice la sofferenza nella voce non si dice no 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 chi è primo? io si chiude si chiude primi si chiude primi Mike di nuovo tra terzo e quarto immaginate un pianeta dove Sabacco ha giocato più di due ore per curiosità dal pubblico che può tornare indietro con lo streaming quanti punti abbiamo fatto tutti e due 182 contro 140 no senza quella lotta vorrei notare le nostre corone esatto Marco corri vieni a giocare te ne prego fai del raffio che cazzo ridi ma che cosa cazzo come ti permetti come ti permetti non ho mai fatto questa fisca non devo andare qua dove devo andare qua ho preso anch'io la shortcut passa cazzo cazzo lui e i suoi gusci de me no no mi hai colpito per sbaglio ma l'importante è che sei italiano sono siciliano va bene si si sei comunque italiano bro per poco ma io scenderò mai no no fai in al fantasy ma chi è primo siamo primi noi io sono secondo io sono secondo vabbè viking ci carri ragazzi è easy quanto abbiamo fatto ultimo 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 abbiamo stravinto abbiamo stravinto eccoci lo sotto che fa il terreno ma che carino ragazzi hanno scritto nella chat di movemind o viking è um tra yarder e poi altre cose in portoghese volevo solo dire questo ma che vero se l'avversario rosica vuol dire che si è vinto due volte Michele dicono che RT game sia forte va bene non quanto noi che siamo abbiamo giocato dove sono scritte le piste così non facciamo cazzate ce lo scrivono loro e chi lo traduce dall'italiano vabbè adesso beh guarda io sono abituato ai pezzi di Monster Hunter e lì con cazzo il mio controllo è esploso dove è andato cosa dice mi stanno scrivendo in chat che in tutti gli altri stream squad di chi abbiamo contro ci danno dei mafiosi ci dicono mangia pizza noi siamo nel chilling siamo tranquilli abbiamo viking ma il cazzo ce ne frega semplicemente paura di noi ma c'è un chatone e ricordati ai 3 modi la carica ai 3 drift il lasciare l'analogico libero il pupi il pupo o lo il pupo a chi serve a volte per raggiungere certi l'orgasmo la roba che c'era su di essere non l'ho mai vista sta cosa io il chat scrivono quanto cazzo siamo italiani tutti o la vespa la sta scegliendo il tizio inglese ma sta aspettando qualcosa l'ispirazione ispirazione si falli pressione cominciamo 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 tossici ragazzi io ho un utente in chat arrabbiatissimo nonostante abbia detto che non so giocare a mario kart risponde alla velocità importante sai doma che dici come se io avessi capito cioè un precedente sul quale basare ci siamo ci siamo ci siamo valle valle di joshi l'ultima della foglia nintendo 64 no animal crossing come l'ultima della foglia hanno sbagliato a scegliere queste cose ragazzi dov'è ragazzi se qualcuno la foglia la foglia dai micheluzzo no michele animal crossing la foglia è quella ragazzi hai ragione è la foglia di mario e dillo no no ma di che la foglia va bene tutto adesso che tu sei il super esperto di dark souls ma quando uno dice la foglia parlando di super mario pensa quello non altro che ansia perché sento inglesi mi si è attivato un twitch sotto mi sa perché sento inglesi è bellissimo ragazzi ragazzi dobbiamo impegnarci ma ti hanno messo a seconda ma perché a me diciottesimo non ho capito marco in prima posizione raccoglie subito un bonus decide di prendere il percorso sulla sinistra non dopo aver sbagliato no bastardi questi sono incazzati i neri ragazzi e fanno bene abbiamo fatto un errore ma potrebbero anche perdonarsi oppure no no provo vaffanculo no non si può dire vai a no non si può dire scusa scusa vabbè ma però non lo ripetete cioè questo è il turbo a manetta mamma mia forza che cazzo stavi per fare non so cosa dirvi che è successo penso che mario kart non sia il gioco per me undicesimo settima molto male molto male molto male molto male molto male cos'era questo risultato di possible è fatta ragazzi sono primo cos'era cos'era questo risultato di possible è fatta ragazzi sono primo sono primo anche io no come anche tu ma come cazzo funzionano i boost è veramente bella cazzo dai secondo dai secondo dai resisti portaci a casa no 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 che è successo decimo per me è un grande risultato eh ragazzi non colpire viking non colpire viking bravo sabbaku bravo sabbaku bravo sabbaku lo so lo so devo resistere sono dietro di te ti proteggo johnny cooperation mannaggia la miseria no ok c'è c'è il blu ragazzi mi ha preso ovviamente oh ciao lì non ero primo da secondo a settimo in un secondo stanno facendo una tecnica scrivono uno di loro va ultimo e prende il guscio gli altri prendono strumento che bustano il primo il secondo e il terzo è il mio ruolo vabbè ma non cominciamo così amici eh ok ok mi devo concentrare ragazzi la prima cosa è andare nella pista e non fuori dalla pista esatto poi c'è tutto il resto bravo sono prima grande robicare e ho paura solo che non è vero raga sono settima non importa raga sono ultima ho dovuto perdere proprio è ok merda ma no ma perché mi ha riportato indietro perché il fulmine è fortissimo c'è uno che rimane ultimo apposta per cercare sto fulmine praticamente non stanno soltanto giocando stanno pianificando come impedirci di giocare che momento sarà questo al di là di tutto mi state divertendo io sì io molto molto questo gioco è meraviglioso scusami ti ho fatto un lobby per ora per tutti per i rivals ok in occasione del twitch rivals su mario kart 8 ho eseguito della lobby in chat ci dicono ora siete probabilmente secondi a pari punti con chi ha vinto l'altra bene avete presente giocare per divertirsi neanche per il cazzo mi stanno dicendo dalla chat che alcuni di loro sono talmente tossici che io gli ho detto raga scaricate le clip così li facciamo squalificare no aspetta aspetta raccontami stanno inneggiando dei nostri politici italiani di altri tempi da quello che mi hanno detto un po' nostalgici francesco che ha sentito cazzo e ha detto no 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 noi lo abbiamo detto lo staff di twitch è collegato in tutte queste live quindi basta così con eleganza diciamo viva l'inghilterra massimo rispetto vorrei fare amicizia con loro per farmi insegnare il mario kart ragazzi ma come cucinano la chef il spy loro madonna che buona ragazzi la pasta al lattina buonissima maccaroni e cisto lo vogliamo dire che è meglio che gli spaghetti io ci sto immaginando intanto in questa bellissima conversazione amichevole cichipe che sta scaricando le clip e non dice niente quindi ragazzi lo staff di twitch non può percibire buonissima la pasta in scatola diciamo che in una corsa di mario kart la pasta in scatola arriva prima e dodicesima la matriciana ragazzi io voglio dire questo beati popoli che non hanno il bidet un elemento in meno da pulire quando pulisci il bagno capito come che schifo madonna fa caca per divertirci caca competitivo mozzura si mette lì e non mi pulisci poi faremo uno eh è l'efficienza il min passing è importantissimo posso chiedere una cosa aspetta dovrete avere un'amicizia da Sara eh una certa Sara con l'H dovrei averci mandato una mia ricetta d'amicizia a te a me a te sei il capitano pensavo che Sabaku mi stesse raccontando tipo di una conquista oh ma ha scritto Sara ragazzi non scoppio a ridere sapete soltanto da adesso stanno scrivendo anche le coppie ma come si era la voglia marrone e che cazzo ah invite quindi non lo devo fare io no receive receive dovresti ricevere sì ragazzi receive vuol dire ricevere mentre Sara è un nome inglese che ci vive entriamo da Saido vediamo un po' siamo già dentro Saido siete già dentro Saido siamo già dentro Saido ma ecco cos'era questa sensazione ok attenzione è arrivata una forse Sara è bello vederti qui addirittura ma guarda come se la tira scriviamo le paffan... no per un secondo ho sperato che sbagliassero anche loro e selezionassero anche io anche io ero pronto a lamentarmi no dai ma come si fa a sbagliare però questo vuol dire che... ragazzi è trita è ritrita eh è ritrita non... mi cintiamo... è... sento un po' di pressione adesso ma quindi abbiamo una tecnica? mi sono scordato di chiedervi ok no alla fine no abbiamo scelto di fare schifo arriviamo primi? occhi pipistrelli occhi pipistrelli cominciano già a minarmi io non ho getti vabbè ma si gioca per divertirsi voglio dire chi è primo? chi è primo? non io io terzo io terzo occhio al guiccio blu no ma perché a me? sono il primo della squadra nostra e quindi il guiccio blu me lo sono sucato io va bene ah ragazzi ma eravamo tutti ultimi io ero qua stavo facendo un vino schifo cazzo ma di... ijimon survive gran gioco vabbè quinto grazie al boost no io ragazzi dodicesimo pulito proprio ognuno di noi pensava sarà bravo qualcuno dei nostri compagni io l'ho pensato tanto io non l'ho pensato perché vi vedevo tutti intorno a me che ero ultima quindi non... dai che adesso Roberta sorge in prima parte è proprio il mio cognome come fai saperlo? non è che l'ho fatto a caso la battuta mi controlli? io non so il tuo cognome voi ti chiami tu di cognome vabbè Barry ma comunque non è il caso di... Barry fa rima con i Perry è vero Gianluca è ribellissimo Dio 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 c'è una ruota ad un aereo ma che vuol dire? siamo in un'unione a porto vabbè nel senso ragazzi dovevo pagare un prezzo non è che posso battere Mog a livello 100 essere bravo anche nei giochi di corse adesso ci servirebbe proprio l'altra tua skill forte nell'Helden scarso nel Mario e la profezia è stata detta nooo si no cazzo non è finito ero convinto fosse l'ultimo cosa ragazzi da secondo a decimo in un attimo ma sono io decima com'è possibile? disatto mi sembra che non abbia mi sembra che non abbia leppure degli altri il traguardo posso dire comunque che tutta questa performance incredibile di Marco non si è vista meglio di te sicuramente ma che cosa non è neanche finito una pizza io uno su quattro ho visto proprio quella lì che sono sfortunato aspetta che rifaccio lo scenetto di prima sono appena rientrato Marco non ha neanche seguito il traguardo non male dai ragazzi non è neanche bene ma non benissimo è male ma non malissimo dai ragazzi ho acquisito più punti del fossa di Roberta quindi sto migliorando ma non non umiliarmi non è umiliarti cioè che prima io ho fatto il dodicesimo fisso mi si è ingolfato il cazzo ragazzi come? scusa non si poteva dire cazzo perdonami il band di due giove perché ho colpito cichive? no no io non mi hai colpito credo non lo so che intenzioni avevi Michele dimmelo però la cocci è sta fatta crì crì sono buoni sono dei dolci torinesi beh ragazzi sta andando bene sono ultimo no pure caduto non c'è mai una gioia comunque guscio blu e io va niente non colpire gli amici non colpire gli amici è birra ma che ho colpito un amico ma che carino Michele che si preoccupi ma perché decimo non ho fatto niente di sbagliato ero sesto mi dicono in chat non hai fatto niente di sbagliato ma anche poco di giusto esatto la prossima la giochiamo sciolti ma perché adesso l'hai giocata seriamente scusa io ne approfitto mentre c'è questo momentino di pausa devo andare in bagno torno subitissimo ne approfitto ragazzi io lo devo proprio dire fate cagare fab pigliamos che scrive non può fare peggio di fossa io lo farei giocare ma perché ce l'hanno con me perché ce l'hanno con me perché stiamo facendo tutti schifo perché me la prendete or false cioè tutti non è vero Simone sta facendo una gran prestazione Mike è altalenante o fa benissimo o fa schifo alla merda e secondo primo dodicesimo dodicesimo ci dicono dalla chat perdonami ed è vero è importante complimenti a Midna che pur non essendo inquadrata sta facendo dei punti nonostante le donne difficilmente possano commettere gameplay questo è un meme attenzione cikibe mi raccomando è un meme ho visto tutto il mio canale twitch passarmi davanti agli occhi visto che siamo praticamente uno per insultare Midna e ha detto ma perché queste donne che commettono gameplay ma mi stai misplenando una battuta non ho capito ragazzi ragazzi voglio ancora stremmare nella mia vita per favore allora slash block raiden97 ragazzi ci dicono che siamo in semifinale secondo me hanno contato molto male ma perché ragazzi è lo squid game ma abbiamo vinto perché non abbiamo bestemmiato non abbiamo insultato gli inglesi e non ci siamo fatti gli unici sopravvissuti insieme a pochi altri che non si sono fatti bannare esatto esatto ah no ragazzi siamo in semifinale del consolation bracket no ragazzi io me la sento calda la prima gara è praticamente è nella foglia sapagù foglia verde sono stato il primo a selezionare la mappa polleggiati polleggiati sì noi stiamo qua a farci un giro nel chilling io sono oscillatissimo non sono per niente io non mi sto impegnando secondo me stai pentendo non so con queste sensazioni no 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 porca miseria l'RNG è così incredibilmente ludico lasciatemi giocare ma stai giocando è vero è vero cazzo è così divertente ma che bello mike giocare insieme agli amici mi ha preso uno con una stella che ridere perché nessuno di noi fa meno schifo ma perché c'è un irlandese l'irlanda è quasi la germania se ci pensi in attimo mike ricorda nel chilling certo ok ma si può dire tranqui ma si ormai tanto abbiamo perso sti cazzi vaffanculo io prima ho detto cazzo per esempio oh mio dio roberta ci baci di tua madre con quella bocca ma si mi voglio bene a mia mamma non colpire me non colpire me perché sono ottavo cioè ma che figata giuro che a casa la sapevo polizia sono arrivato ottavo si dai però si può fare ancora si può fare ancora ok è fatta ragazzi sono secondo non ho mai visto un numero così basso in vita mia roberta dimmi tutto perché ti piace questa pista perché ci sono sacco i shortcut che è molto divertente si si bellissima bellissima mamma mia che ridere i pendoli in faccia ah 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 è umorismo nintendo è umorismo nintendo basta si ancora dai dai ottavo di nuovo siamo migliorando questo mi raccomando la ossa ci deve dare forza io sto giocando senza audio Michele come faccio ah scusa primo secondo primo secondo oh ecco bravo Mike cantato così la sento io non so che cazzo sto succedendo non è cazzo di pista porca puttana vabbè ma ragazzi lo vedete lo schermo no io non lo vedo ah ecco perché è l'ultimo sono primo sono primo ragazzi io non ve lo dico quanto sono è tutto così sbagliato è tutto così assolutamente sbagliato ragazzi io ero secondo quando ve l'ho detto vabbè ma puoi sempre madonna ma l'usica è bellissima nooo mi sono emozionato ho perso tutto ho perso tutto giardino nuvola ragazzi ragazzi vi devo leggere sto messaggio matti scrive seguo dalla seconda sfida a questo punto mi chiedo se ci sia davvero un team che abbiate battuto oppure no ragazzi io credo di essere nel team dei tedeschi viking sai cosa fare? non ce l'hai detto io non ho sentito no no anch'io non ho sentito niente io sono nel loro team ragazzi non sento bene viking se arrivi ultimo non importa possiamo capire che sei stanco fazzi il team ok ok chi è primo di voi? io beccati questa mike no no ragazzo no sono primo se ce l'ho la devo usare per forza come faccio ragazzi? io la tieni negli oggetti cosa vuol dire che lo devo usare in forza? hai fatto così tanto arrabbiere che sono ultima pensa un po' no non è possibile ultimo sono io è tutto a posto Roby ci sono divertenti ah ah umorismo nintendo sono caduto no ragazzo no va beh ma ragazzi ho fatto un poderoso undicesimo eh ok scusate che disastro probabilmente sì come secondo come secondo come secondo bravissimo ma ero primo ah allora no ragazzi questa è fatta non l'ho detto merda io sono primo buono no all'inizio non va bene essere primi perché ti escono le cagatine quindi la prima parte della strategia la faccio bene si questo è buono oh mio dio scusate scusatemi non volevo urlare ma io adesso urlerei cose indicibili no mi ha tolto non ci posso credere ma dai ma peccato ragazzi primo tutto il tempo alla fine secondo peccato ascolpongo fino alla fine per la curva è arrivato il fantasma disastro però le parolacce che io dico in italiano non sono parolacce in altre lingue se ci pensi tipo se io dico scolapasta al limone sembra che sto insultando in italiano è tutto nel tono come lo so io non ho capito dove fosse la curva ragazzi io sto riflettendo su cosa sia uno scolapasta al limone mia parola sia ok ok no qui te l'ho persa no ma come ti ho colpita? si qualcosa mi ha colpito ok ero io scusami ma vabbè ti perdono amica mi importa che io sono sopra viking mi fa capire quanto siamo andati in involuzione postati 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 vai vai postati fa ok ok vi ho lasciato andare scusate che cazzo è incredibile non ha preso me il buscio blu strano oh no Michele è scontento no Michele non ha colto il rumore Michele è sarcastico è la fine ora bisogna avere paura no ma dai no no io dai io sono terzo fino all'ultima curva e sono arrivato decimo per quattro oggetti consecutivi cioè dove è la strategia qui chat cosa dite ah ma ragazzi mi hanno detto che non ci so pareti illusorie su Mario Kart quindi non dovevo sbattere no no ragazzo no hello everyone you have just won twitch rivals greetings cosa dovremmo aver vinto scusate penso che abbiamo vinto questa funcia di micchia però va bene pensate arrivare penultimi cioè fare schifo ma comunque nemmeno l'orgoglio di arrivare ultimi mi scrivono in chat che divertimento nintendiano questa è la finale dei perdenti tra i perdenti ragazzi ve lo dico arriva un guscio blu non so chi è primo io ovviamente grazie ma se abbiamo detto che il guscio blu non prende i propri ma si perché lei l'ha visto arrivare lei lo sapeva perché l'ha visto arrivare non perché l'ha tirato lei esatto non mi permetterei mai mica sono viking io brava diglielo ragazzi sono molto lontano da tutti questa cosa è bizzarra e come si sta lì fra? una merda ho lanciato io un guscio blu per la prima volta portoghesi nooo era l'ultimo giro non ho visto ma simone che cazzo è successo? quattro volte di tira testa coda con qualche oggetto o qualcosa perché quando arriva primo vikings tanti complimenti a me non mi cagare ha ragione bravissimo ha ragione i portoghesi verranno battuti per la seconda volta ma vaffan ma come fai a recriminare già all'inizio? eh ho sbagliato sto male non riesco a concentrarmi posso dire che questo gioco c'ha alcune delle piste che sono veramente belle e divertenti fun and enjoying gameplay che sciocchini che siete a farmi il fulmine mentre sto volando divertimento nintendo su casa idonea ma no manna fiorella pannoia proprio fiorella pannocchia? Mike spostati ho la stella non voglio farti del male colpisci gli altri aschi un po' il tu maccio frate sesto sesto vi dico sesto vi dico sesto io ho pensato che Mike volesse proprio a questo punto sfogare la frustrazione sul sesso sesso vi dico sesso dopo la live faccio sesso in chat noi dicono da oggi in avanti non chiediamoci perché non localizzano i giochi in italiano se giochiamo così male questa è la prima grande citazione di punti scamare io sono convinto che non giochiamo così male no non giochiamo così male ma neanche così bene e questo è il punto sono le curve sono le curve oh Gesù e digli digli qualcosa quando salta la musica saltate anche voi si quando salta la musica quando salta la musica vai King tu che giochi con l'audio quando salta la musica mi raccomando va bene va bene va bene interessante va bene va bene fosse stato visto andare giù veramente male mi sono innamorato stanotte di Mario Kart ma la cosa sta passando signore di Nintendo intende dire che ora passa al fidanzamento ufficiale lo sposa sono nella mia comfort zone ottavo no rega non è possibile non è davvero possibile non ci credo nessuno di noi ci sta credendo allora io non ho seguito molto bene le conferenze ma Round 2 solitamente è sempre sul pezzo quando esce sesso 2 allora dovevo uscire il 2 di dicembre ma l'hanno rimandato al fiscale del 2023 ah ok 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 dovevano fare bene la simulazione della candida ma che schifo anche su Switch ragazzi si però sono un po' preoccupato per le prestazioni non ci posso credere che la terra sia tonda è assolutamente assurda questa cosa è assurda come cosa ci penso tipo tre volte al giorno ma guarda che c'è una banana davanti ai doppi oggetti questi secondo me la sera non giocano a sesso te lo dico io no in che senso Roberta cioè no a sesso 2 avete detto che esce nell'anno fiscale 2024 o c'hai l'anteprima o neanche te giochi a sesso perché ancora l'hanno rimandato e sesso 2 che hanno rimandato il primo master speedrun nessuno no non è bene speedrun nessuno occhio bike 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 why you do this ero secondo ero vostro amico fratello non ci voglio credere io non voglio credere e a questa serie di sfortunati eventi ma donna possa a questa serie di eventi si si primo si allora aspetta aspetta vediamo un po' si può fare si può fare qual è questa? infatti stavo che schifo di pista che c'è io sono arrivato settimo per due volte migliorando il mio merda francesco io non capisco posso dirle però lasci un no basta che non dici fuck ragazzi è un oggetto gettabile puoi spiegarti meglio è un fungo è un fungo è un fungo ragazzi praticamente te lo metti nell'anno e vai più veloce guarda incredibile come ho goduto di questa scelta arriva un pisellone attenzione aspetta nel senso intendevo pisellottolo Bill giusto pisellottolo Bill è quasi fatta no vabbè chi è stato di voi italiani a mandarmi il guscio verde in faccia raga secondo me abbiamo vinto attenzione fermi raga abbiamo vinto penultimi che è stato di voi è stata veramente una vittoria difficile è stata una vittoria combattuta fino alla fine devo dire che il discorso motivazionale di Seidonia prima della finale è stato incredibile cos'è che vi ho detto? quando esce sesso 2 hai detto e la risposta è oggi abbiamo anche fatto per gli ultimi dieci secondi erano il sesso erano sesso 2 e come disse un saggio sesso sesso vi dico wow miglior video di Twitch Italia miglior video di YouTube del mondo è incredibile il video più bello della storia è marco via Britos questa è questa è la tua eredità io questo video te lo metto tutto sulla tomba sudo ancora adesso lo scrivo tutto da capo scrivo tutto il monologo di Francesco la vespa sulla tomba forse c'è un un after credits no non ci sono gli after credits è stato un viaggio è stato un viaggio mamma mi olvido di YouTube in Inghilterra io sulla tomba lo voglio ma c'è todo 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 emiliano vieni qua presto non fare oh ma gli stai chiedendo di ridarci i modi si ok c'è todo c'è Antonio ciao hello io andrei un attimo a dare da mangiare signorino volete tenere un attimo la chat voi no ma fado io madonna che ridere sto video la cosa su cui mi sono fissata adesso è la risata di Vike che ride in quel modo io ho visto che ogni tanto hai messo degli effetti tipo fuoco cose del genere dentro le cam che però non sono quelle che hai fatto tu con la cornice tonda che erano proprio le cam dei loro stream ma hai fatto in modo che gli effetti non sbordassero oltre la cornice delle loro cam in modo che sembrassero cose effettivamente riprese dalla cam vabbè te hai capito di che sto parlando io non lo so spiegare però hai capito bravissimo cioè questa cura nei dettagli che nessuno nota ma che fanno la differenza perché ti danno quella rifinitura proprio bravo bravo che voglia che incubo che incubo io di solito montaggi del genere non li faccio mi sono imbarcata in cose che possono essere vagamente su questo mood quando ho fatto la la blind run di leggende pokemon archeus e che dramma che è stato fare quella roba lì che era nata con no vabbè ma easy senza montaggio poca roba è solo che poi era ci stava cioè ce le sentivo no che bisognava bisognava aggiungere qualcosa ciao toto inizio sempre con l'intenzione di fare tutti questi dettagli e poi mi ritrovo a metà del lavoro ma perché non sto fermo con le mani però poi quando riesce bene sono contenta no ma lo capisco e io ti dico anche io a volte ho delle attenzioni per delle cose che tanto so che guardo solo io e basta però va fatto e quando ho fatto quella blind run ci ho perso tanto a livello di salute di salute mi ricordo che chi ha raggiunto un altro sidonia frame ah quello l'ho fatto in un video di in un video dell'antico chateau sì c'era la fine no quello è leggende pokemon archeus nell'antico chateau no sto parlando un'altra cosa ok scusa c'è un antico chateau che è la rubrica in cui facciamo la roba un po' horror tra virgolette ce n'è uno che è a tema clonazione e nel finale ci sono due fra ah ok cioè la fine di quel video è forse ricordo quel video ma questo sono due fra sono quattro anni fa cinque anni fa no di più sono almeno cinque anni fa perché vivevamo ancora in toscana e credo non mi racconto più sì 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 era toscana quella parte lì l'ho fatta scontornando il secondo cioè il frame primo piano frame by frame ed erano cinquanta frame al secondo per no trenta secondi ma che cazzo di cazzo un grande un grande lavoro per il video dell'antico chapeau bravissimo sei cacciato sei bandito Roby lo sa soprattutto con lavori più vecchi riempie video di roba nascosta che molto spesso rimane nascosta ogni volta che parliamo i sottotitoli non matchano quello che diciamo lo so chiaro me lo sono accorta ma è assurdo che ancora adesso leggo cose che non ho mai letto ma anche io sono io amo scrivere cose nei video troppo veloci sì e se non metti in pausa non le leggi esatto cioè roba che non arrivano a un secondo di titolo quindi io sono una sucker per le esplosioni invece le esplosioni di Gabri sono le mie cose preferite di sempre ti piacciono ogni volta che cade un controller e c'è le esplosioni da terra quindi c'è la maschina della scrivania che viene da sotto è troppo divertente cazzo quindi sono contenta che ti abbia visto questo video perché tipo la prossima volta che mi chiederanno qual è il tuo film preferito dirò Best of Mario Kart 8 Deluxe Twitch Rivals è un film di 34 minuti e 23 che non ha vinto di poco la nomination per il festival di Cannes ma perché è localizzato in italiano in italiano non si guarda molta roba secondo me io per editare uso Final Cut non c'è molta rappresentazione però c'è un siciliano secondo me usi Final Cut sì non mi stai insegnando premier Gabri se volete tornare indietro e leggere i commenti il mino sconsi di Chiara ma leggiamo un po' di Re Sabbe tutti insieme Pompi vieni a leggere le mie Sabine che? le mie Sabine allora dovrebbe esserci una scheda di fianco alla chat qui e le leggiamo se volete tutti assieme o me la collo tutte io non mi voglio adesso facciamo così partiamo da eh siamo partiti da tre ore vati oh madonna quattro ore vati ragazzi quanto siamo in live porca miseria allora Simone 1 grazie mille dei 65 mesi sono 13 volte 5 Pandream Miki sei ancora qui chissà quanta gente è morta nel frattempo quattro ore fa era ieri tipo bacetto a tutti Didi Didi deve stare qua grazie Didi della Re Sab Cosplay del Mori ciao chi? Cosplay del Mori oh ciao ciao li conoscete? sì oh ciao non lo sapevo non lo sapevo non lo sapevo non vi decino tu vi vedete in qualche fiore vi si vuole bene sì sì ci sentiamo su Instagram ogni tanto e se si chiama Cosplay del Mori perché il vero trono del Mori non serviva cioè non si fa le foto con i carni e lui fa la rappresentanza e se fosse lui invece sei il trono del Mori no no non sono io e invece era lui caspita è il trono più vecchio del mondo dai allora reggini tu 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 dyn621 rinnova per il 32esimo mese ma 32 mesi sono un botto di tempo è vero tantissimo tempo mentre Ace Lee sia buona per la prima volta con Prime benvenuto gatto compagnero rinnova per il 35esimo mese meno 1 ai 3 anni meno 1 ai 3 anni madonna gatto grazie capito scritto la cosa più stressante che ho fatto è la clip dove metto un effetto a raccomandare la tua navicela di Other Wilds e la 180 frame di maschera che si muoveva è incredibile il mio best off di Other Wilds è cortissimo è incredibile io lo vedrei immediatamente lo so a memoria e fa troppo ridere quella scena però Gabriele è valsa totalmente la pena secondo me le maschere che si muovono scusa prego prego no no madonna mamma mia leggi un po' anche tu Luke G90 rinnova per il sesto mese PC Hour rinnova per il sesto anche lui yeppi yeppi ma Pupo ketchup up arriva un anno yeee ketchup up legge tu da Eleven Cup Eleven Cup è arrivato alla maniera per il primo con il finale 51 mesi urliamo per questo trailer tutti insieme no no pigo 84 si abona per la prima volta yeee figo che figo mentre Spear God fa il tifo con 100 bit grazie mille Anza Twitch rinnova per il diciannovesimo mese grazie Anza it's Domi si rinnova per il quindicesimo Domi ciao Roby ciao Roby a giornino mensile allora praticamente vado a ferdi con questa non lettura sto mandando a quel paese il lavoro perché la mia solitamentale sta peggiorando yeee lui sarebbe molto d'accordo quindi sono venuto qui da te la mia solitamentale sta peggiorando yeee no ma nel lavoro yeee ho anche notizie peggiori come ad esempio il fatto che mi sono fidanzato come e si mi dispiace per voi ma il sottoscritto non è più single PS guardate un regalino non so come dartelo PPS salutami Moonboy e Chiarar Moonboy scritto così è incredibile a me fa molto ridere che un sacco di persone mi chiamano davvero Chiarar Chiarar mi salva anche in rubrica come Chiarar Chiarar eee o peggio ancora come Chiara.rar quindi diventa Chiarar potresti dover valutare il Chiki, Beaza e Chiara Chiara quale? Chiara Ferragni? Chiarar Chiarar è più facile non lo so non lo so eh devi scegliere un nome d'arte amica mia grazie Tomi sono molto contenta che ti occupi della tua salute mentale piangemo tutti la divartita della tua singolezza quindi buon figli maschi con la tua nuova compagna compagno di vita non lo so in effetti bravo bravo ne troverai un altro di lavoro più soddisfacente se no Chiara ama ma Chiara ha necessità di una sua identità partendo dal nome ma scusa ma Chiara non è il tuo nome all'anagrafe sai che si? si 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 chiama Chiara Occo chiamata Cristina sai chi è Cristina suor Cristina che stupido che sei il cognome il fatto è che il punto RAR deriva proprio dal fatto che il mio cognome inizia per R e quindi quando ho scelto quel nome per Instagram mi faceva ridere che la combinazione di aggiungere e iniziare il mio cognome in fondo al mio nome creasse il RAR finale e quindi l'ho diviso in chi ha punto RAR però nasce per quello però non ero mai arrivata a pensare a Chiara Occo cosa c'è dopo? cosa resta? non li potremmo nemmeno fare è maschio un bacetto a entrambi i ragazzi dovete essere contentissimi e i figli sono sopravvalutati oh l'ho detto totalmente simile Chiara tu che dici? mini 39 no 39 51 se è buona per la prima volta yeah gravier fa un ride panino quantico se lo guardate lì ma appena guardiamo lì non c'è più in effetti vero finché lo guardi anche tu sì oh è ancora lì gravier lo abbiamo ringraziato sta già facendo il video teoria Marco Ferra posso dire eh devi leggerlo posso dire che Chiara che teorizza su Elden Ring major 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 ma teorizza cosa io mi sono limitata a osservare due frame osservatrice nata kuni ha fatto un ride kuni hai visto il nuovo moticon di kuni? sì mi mettete quella della macchina e dell'oceano che mi fanno straridere che c'è? stanno per arrivare? no Antonio mi ha detto di farire papazzuola Tania tra poco ci vediamo non tanto poco in realtà guarda quella dell'oceano quanto farina che cicca che dice culo ogni tanto gli scrivo roba ma è insomma ucerno i miei moticon preferiti sempre mi dai il giornino buffo perfetto continuiamo messaggeri abbiamo Pipino il sub che si abbora per il quarantesimo mese buonasera come va spero tutto bene comunque mi spiace per Mog che ha preso il due di Pike di Pike molto bene bravi non posso capire guarda eh guarda Amethyst si riabbona per il quinto mese grazie e Bonbuon si riabbona per il cinquantacuattresimo grande e niente mi sono ricordata ora di riabbonare bacetto principessa dei cinquantacuattro mesi e poi abbiamo Axel Bullo che rinnova per il cinquantonesimo grazie Axel zio Bozzi che rinnova per il terzo nel giorno della mia laurea mi state facendo ammazzare dalle risate grazie mille in realtà l'ho fatto un mese fa e congratulazioni laurea in cosa che figo che bello in laureologia e poi Spirit Hunter si abbona per il quarantanovesimo livello 3 Spirit grazie mille let's go sulle mani level 3 level 5 nessuno nessuno che mi dice no qualcuno non importa 2025 grande professor Layton professor Layton professor Layton è uno stupido peepis allora l'ultimo segretto lo userei per parlare un po' di Azvinutel ciao a posto che si arrivederci e poi chiudiamo che Puppa è stanca ha fatto quasi cinque ore di live devo andare a casa per permettere a Lapo di liberarsi della televisione che è la sua macchina che altro giusto eh sì io sarei rimasta senza nessun problema ma quanto fa ridere questa cosa ti prego girati guarda come è rimasto il gioco ragazzi c'è una clip vera di questa cosa che è appena successo non ci posso credere non ci posso credere zio Bozzi laureato in informatica per le aziende digitali congrats non lo puoi fare su stream mi bannano su twitch non lo puoi fare mi bannano mi bannano non come la mia grazie minifish thank you non lo puoi fare guarda rischiare di meno se me lo infilassi te lo infilassi nel culo perché perché una è violenza e l'altra sarebbe sessualità ma sessualità la bannano solo per tre giorni da quello che so ma stai facendo con i miei capelli sì vabbè Mulan guardo grazie grazie mille che fastidio che fastidio grazie mille madonna ci pure ha pochissimo no basta il nonno è stato lei è stato è chiarata cosa fai scusate cosa stai facendo scusate cambia qualsiasi scena quella questa qua perfetto no no aiuto aiuto questa pubblicità ti piace vendo le pentole e sotto c'è una canzoncina però di solito metto questa che purtroppo non possiamo sentire ma è Don Matteo mi piaceva tantissimo Don Matteo per vendere le pentole per un motivo c'è la pubblicità anche quando siete sub ragazzi mi dispiace però ho fatto ballare tutti questa cosa mi fa piacere mi perdo un giorno e diventi mastroda 19,99 alcune pentole alcune dove posso pagare ma sulla donazione ovviamente 10% col codice cgib o col codice chiar chiamo subito che non ironicamente vi servono ma magari potessi vendere le pentole su Twitch madonna servono a tutti a tutti ciao a tutti questa è la signorina del allora ragazzi scusatemi un secondo visto che adesso io e Pupa siamo da sole vorremmo a un certo punto anche far andare Chiara a casa io non posso lasciarti andare a casa finché non metto Azbinotelli in sottofondo ok e tu mi parli di quanto e se ti è piaciuto Azbinotelli in effetti allora ti è piaciuto Azbinotelli? non lo so in effetti fammi sapere più presto la mia mail allora io ho cominciato a vedere Azbinotelli senza sapere niente non avevo visto il pilot non avevo visto Hello Boboz non sapevo assolutamente nulla del contesto l'unica cosa che conoscevo relativa all'universo di Azbin era una specifica canzone che avevo trovato per caso nella radio di Spotify quindi quando Spotify ti suggerisce cose a partire da altre canzoni che stai ascoltando e avevo trovato questa roba che era molto carina un bel elettroswing simpatico quindi me l'ero salvata fra i preferiti quella canzone l'ho scoperta due settimane prima dell'uscita dei primi episodi su Prime la seguente nello specifico è una canzone non canon quindi è una canzone che è insane che è questa cantata ho scoperto poi dopo dal doppiatore che canta perché credo che il doppiatore che doppia sia un altro quindi dal doppiatore che canta Alastor nel pilot ed è una canzone che racconta dell'arrivo di Alastor all'inferno io quando stavo guardando Azbin Hotel alla intorno alla seconda puntata continuava ad avere vaghissimi flash della copertina di questa canzone quindi aspetta ma vai a vedere che effettivamente c'è in qualche modo collegata e lo è però appunto non è non è canon ora quindi sempre bello ho visto quindi le prime tre puntate yes senza che mi coinvolgesse troppo è vero cioè ho guardato Azbin Hotel pensando ok simpatico il concept carino carina l'idea di tutto quanto ambientato all'inferno però c'è la redenzione da fare chiaramente gli angeli sono cattivi però non mi stava colpendo più di tanto e soprattutto mi stava dando la sensazione di essere a livello di sceneggiatura un po' precipitoso poi è arrivata la quarta puntata che è quella che mi ha fatto dire ok no forse c'è qualcosa di più oltre a un rush di trama e a buone idee ma poco sviluppate la quarta puntata mi è piaciuta tantissimo e infatti il c'è la mia canzone preferita loser schifo baby è diventata un meme qui in casa fra me e Emiliano perché siccome lui non guarda hasbin ma non sa le canzoni prima ancora che uscisse di sentire loser io ho visto su youtube schifo baby ho detto ma hanno adattato loser baby con schifo baby e da quel momento ci diciamo schifo baby schifo baby allora loser è la canzone che più di tutte nel momento in cui l'ho ascoltata la prima volta ma ha mosso qualcosa perché mi aspettavo che fosse un momento di forzata positività come il personaggio di Charlie quindi questo tentativo di soverchiare le problematiche degli altri con però ce la devi fare metticela tutta che è una cosa che mi dà molto fastidio infatti Charlie non la supporto quindi quando ho sentito che stava cominciando con quel tono lì a livello proprio musicale di mood ho pensato ok questa sarà l'ennesima volta di dai su tirati su perché tanto comunque qualche modo ce la fai e invece quando gli ho detto fai cacare al cazzo ero tipo eh bravo bravo il mio gatto tra l'altro schifo baby quella quella mi è piaciuta si andava anche a inserire nel contesto di cosa succede a Angel che è il mio personaggio preferito nooo Angel personaggio quindi la quarta puntata è il tuo pick massimo di tutta quanta la stagione assolutamente sì caspita Angel è il mio personaggio preferito e la quarta puntata è anche quella che secondo me ha è l'unica che ha il pacing giusto io credo che avrebbero potuto sviluppare esattamente le stesse cose che ti presentano a livello contenutistico in quegli otto episodi avrebbero potuto svilupparle in quindici senza aggiungere nessuna informazione ma semplicemente lasciando il tempo ai dialoghi alle cose di essere metabolizzati di svolgersi con un con un ritmo giusto invece il grosso di quello che mi è rimasto alla fine cioè ho apprezzato mi ha divertito l'ho guardato volentieri l'ho visto che erano uscite le prime quattro puntate quindi le prime quattro le ho viste di seguito e poi per le altre ho dovuto aspettare quindi comunque appena ho avuto la possibilità le ho guardate subito quindi se fosse stata una cosa che non mi interessava avrei droppato perché io non sto bene dietro alle release settimanali solitamente lascio perdere e aspetto che sia tutto quanto uscito perché altrimenti se devo per forza aspettare x tempo prima di andare avanti poi me lo dimentico certo a meno che non sia qualcosa che comunque riesce a tenermi in interesse attivo quindi comunque giudizio positivo però la sensazione che abbiano veramente corso con un sacco di cose è il difetto più grosso che ci ho trovato senza contare che mi ha personalmente un po' lasciato come dire interdetta il non aver visto il pilot prima ma non aver capito che fosse necessario cioè nel momento in cui c'è per forza bisogno di vedere il pilot ma io non so niente di questa roba io vado a vedere la stagione su prime e inizio da quello che c'è su prime non c'è chiaramente nessun tipo di avviso nel nulla il pilot non è ricaricato su prime no infatti e quindi io il pilot l'ho visto dopo sì e una serie di cose le ho comprese meglio dopo ma comunque alcuni sì alcuni equilibri non mi piace come sono stati trattati non mi piace come è il rapporto fra Charlie e Lucifero ok perché un po' disfunzionale mi aspettavo che ci fosse molto più struggle molta più profondità nel sono passati x anni durante i quali loro hanno avuto zero contatti perché lui era depresso che è un ottimo setting parlami di più di un personaggio che si chiude nella sua depressione a fare delle paperelle voglio esattamente una cosa del genere infatti l'immagine che il profilo che ho preso è vero era lucifero che dice take that depression perché è uno dei miei momenti preferiti e invece questo con questa corsa al ti ho presentato un problema e in 45 secondi è risolto a me da un sacco fastidio grazie Parichi molto gentile benvenuto non mi piace vedere i problemi risolti i problemi emotivi risolti in maniera così veloce nello span di una canzone quando stai parlando di rapporti che si sono deteriorati nel corso di anni quindi rende il momento in cui i personaggi si riappacificano lo rende molto meno incisivo quindi credo che sia il difetto più grosso si può pensare che magari sia una roba dovuta a non sapevano se sarebbero stati rinnovati quindi hanno cercato di infilare quante più cose possibili in una singola stagione per paura di non averne altre ok cioè magari non è non sono capace a scrivere potrebbe essere un'astuta strategia di perché più ci penso raga la prima cosa a cui abbiamo pensato tutti è ah ok noi hanno dato tempo ma più ci penso che questa cosa l'hanno recepita tutti e in realtà io inizio a fare la teoria un po' più in là ossia e se fossero stati talmente scaltri da voler appositamente fare delle puntate talmente compresse che le grandi aziende si sarebbero presi tutta la colpa e quindi avrebbero messo ancora più pressione al loro grande capo che è Prime che a quel punto tutti avrebbero detto Prime se non ci dai almeno 6 stagioni di questa cosa ci incazziamo perché queste puntate sono palesemente risultato di voi che non vi fidate io sto andando oltre con la faccia questi magari sono decini del marketing che l'hanno fatto apposta perché tanto tutti avranno capito che se la sarebbero presa con Prime e non con loro ed è geniale nel momento in cui esiste una puntata come la 4 che è una puntata in cui la trama orizzontale si ferma e tu hai un focus verticale solo su due personaggi fatto bene yes tra l'altro non ho ancora messo a fuoco perché alla fine non ho fatto il rewatch più di oggi tutte le domande che vuoi te le dico io dovrei riguardarlo però non so bene per quale motivo la 4 mi è piaciuta un sacco sarà anche perché tutto quanto il tema di Angel Dust Valentino è il mio tema preferito in tutto quanto Azwin Hotel però la 4 mi è piaciuta molto più della 7 sì cioè nonostante anche nella 7 che mi pare sia la 7 la 7 è Cannibal Town più Out of Love ecco esatto anche nella 7 c'è un focus abbastanza verticale su Veggie e Carmilla non funziona bene come la 4 io non lo so perché ma la 4 gli è venuta meglio di tutto il resto tutte le altre cose anche quando la trama appunto orizzontale quindi i grandi eventi della storia sono in pausa e hai e apri delle parentesi specifiche sui personaggi non lo fa solo nella 4 perché appunto ci sono anche momenti dedicati a altri personaggi singolarmente però gli è venuto davvero bene solo nella 4 io ho una teoria secondo me Veggie è stata scritta male dall'inizio alla fine Veggie è un personaggio che ha un sacco di potenziale ma che è stato ignorato e serve unicamente al plot twist della puntata 6 e per tutto il resto non si indaga niente di lei non si indaga cosa faceva prima cosa faceva dopo come sta anche soltanto quando vuoi sapere come sta Veggie comunque nella puntata 7 è tutto rivolto verso Charlie cioè Veggie non si concentra mai su quello che prova su quello che vuole Veggie nella puntata 7 è devo fare colpo su Charlie quindi comunque tu rindirizzi l'attenzione su di lei e quindi automaticamente lo spettatore non è portato a prestarle più attenzione di così perché è un personaggio così sottile così bidimensionale che fa e dice sono e unicamente una cosa dall'inizio alla fine devo aiutare la mia fidanzata fine regà non dice altro tra l'altro è sempre messa in parallelo con Carmilla perché c'ha anche il duetto della 2 o della 3 whatever it is terribile quella purtroppo è la canzone meno riuscita perché entrambe fanno delle note così alte sempre rimando sulla sceneggiatura ti fanno vedere i loro due personaggi sempre in coppia perché sono entrambi i caregiver da una parte hai la madre dall'altra hai la partner sono entrambi i personaggi che si muovono in funzione di altri personaggi però Carmilla gli è riuscita meglio Carmilla gli è riuscita molto meglio perché quando a Carmilla è andata una mansione un titolo e infatti l'hanno contestualizzata nel mondo un flashback e l'hanno anche definita bene ossia sono una madre che fa queste cose ma di Veggie non sappiamo niente Carmilla è già fatta e finita ed è Carmilla che insegna mentre Veggie non solo ha da imparare ma ha la profondità di un fogliettino di carta e questo mi dispiange perché la doppiatrice di Veggie è stata Stefani Beatriz usata malissimo la voce che senti cantata anche io l'ho riconosciuta subito ed è canta male sì Stefani Beatriz ha portato su tutto in canto raga cantando e incantando e in Sbinotelle è la voce che è piaciuta di meno che mi è piaciuta di meno ma anche quella che l'hanno superata in carisma tutti quanti 10 a 1 e quando è uscito io penso sarebbe stato l'esatto opposto o non ci ha creduto lei in questo progetto e quindi l'ha fatto un po' così come veniva no anche io l'ho sentita l'ho sentita proprio fuori dalla dalla sua comfort zone in maniera negativa però vabbè comunque quindi a livello di sceneggiatura secondo me non è esatto Martino non è buono cioè non è ottimo mi piace che ci siano delle cose degli spunti molto interessanti mi sta infinitamente sul cazzo Charlie non la sopporto non la sopporto non la sopporto no ciao rossa mi dispiace eh vabbè ma io parlo del personaggio chiaramente cioè non non sopporto quel tipo di profilo psicologico lì quello stereotipo di protagonista non mi è mai andato giù e la cosa che ho pensato più spesso mentre guardavo Asbin Hotel è tutto quello che sto vedendo in questo momento è screen time rubato da Alastor ok Alastor suora Alastor per me è il vero protagonista di Asbin Hotel perché è il personaggio più interessante cioè ti dico il mio preferito è Angel Dust perché è quello che mi piace di più a livello emotivo ma se ti dovessi dire quale personaggio merita più di Charlie di essere il protagonista dell'universo di Asbin Hotel è Alastor io voglio sapere tutto voglio vederlo on screen sempre voglio vedere quando gli mettono nel vocoder e quando non glielo mettono voglio vedere in quanti modi la sua ombra si trasforma voglio vedere tutto cioè il modo in cui mi incuriosisce Alastor è impareggiato da tutti quanti gli altri e tutte le cose più interessanti succedono quando c'è Alastor in scena poi a me personalmente piacciono molto di più le scene in cui si allarga un po' la narrativa e ti fa vedere come funziona il mondo quindi cose come è la riunione degli overlord è la mia scena preferita perché mi stai facendo vedere com'è a livello politico questo mondo come funziona come funzionano gli equilibri e esatto quindi alti e bassi sono contenta di averla vista non me ne pento quando uscirà la seconda me la guarderò molto volentieri e watch party tutti insieme assolutamente sì sulle canzoni trovo che siano tutte quante quale più quale meno ovviamente però facendo una media sono tutte quante funzionanti perché sono tendenzialmente estremamente derivative quindi hanno preso un sacco di cose che funzionano da un sacco di altri prodotti e le hanno riutilizzate in chiave cioè riscrivendo poi la host di adzbin nel momento in cui sento una canzone e comincio a pensare ok questa mi fa tornare in mente quella cosa là sento un'altra canzone mi fa tornare in mente quell'altra cosa lì e questo succede per ogni singola canzone della host in totale il valore produttivo delle composizioni non è alto funziona perché è scritto pensando di fare qualcosa che funziona cioè è come si scrive una hit commerciale tu sai quali sono le cose che funzionano e come funziona scrivere una canzone pop per me adzbin è un po' il pop dei musical quindi non è un giudizio negativo perché chiaramente mi viene da canticchiarle sono fatte apposta per restarti in testa funzionano quale più quale meno ma funzionano non ho avuto la sensazione che posso aver avuto avendo visto altri musical o comunque altri prodotti che abbiano delle canzoni dentro che mi hanno fatto dire questa canzone la voglio 25 volte in cuffia perché non c'è davvero qualcosa di tanto guarda che suonano il pianoportino e che carino non c'è qualcosa di veramente originale non c'è qualcosa di non c'è non ci ho sentito un estro artistico nuovo che mi abbia fatto dire ah questo è proprio il character design della host di adzbin hotel questo è semplicemente broadway 101 si questa canzone questa canzone mi fa venire in mente quella del genio di aladin questa canzone mi fa venire in mente quest'altra cosa cioè e quindi questo volendo di dare un voto volendo fare una pagella chiaramente è una cosa negativa dal punto di vista di quanto aggiunge al panorama musicale per me aggiunge zero ok si inserisce perfettamente in un in un sentiero già battuto lo fa bene si si ma non aggiunge niente di nuovo allora sono abbastanza d'accordo nel senso che per me il valore è l'insieme di queste di queste canzoni cioè se tu puoi dire se tu puoi dire magari che di remanesa non su stile emilton non su altro stile eccetera eccetera in nazi in hotel c'è una riunione straordinaria di tanti stili diversi che però il fatto stesso che siano tutti uniti gli dà per me una grande valenza ti faccio un altro esempio la la land ha dentro canzoni sia musical sia swing nel senso proprio di non parlato sia pop per la trama perché a un certo punto c'è il pop contro il jazz e il fatto che nel cd ci sono queste canzoni così diverse fanno la la land e io in As B. No. Tell ci vedo la stessa cosa perché in qualcosa di ognuna di queste canzoni c'è il personaggio che la sta cantando ed è come se fossero tanti stili musicali perché ognuno di queste persone appena canta c'è quelle note che si infilano dentro e infatti in You Didn't Know c'è molto abbozzata la Hamilton Move di tutti che cantano con il loro tema Ritorno all'Inferno ritornano tante cose sì è il non stop è il non stop è verissimo la mia preferita è You Didn't Know anche se immediatamente al secondo posto c'è Sorry perché sono molto affezionata al signor Serpentius quello che ho detto è giustissimo in realtà è proprio accattivante e extra pop quello che vediamo e il bello è che questo essere una cosa molto catchy studiata per essere catchy porta sul tavolo tante cose che possono essere migliorate ma secondo me belle e fresche c'è la gente lo vuole la gente a cui non piace di solito cerca di come appiglio per tirarlo giù dal piedistallo dove tutti l'hanno messo dicendo è qualcosa di già visto è tutto rosso non capiamo niente e invece è proprio l'unione di questi difetti e pregi che mettono sul tavolo intanto un margine di miglioramento infinito quindi si prospettano solo una stagione più bella dell'altra se continuano a dargli quei soldi e quella cosa quindi tutto quello che si può vedere dal migliorare dagli sfondisti le animazioni alle canzoni può andare solo meglio io e Ross stavamo iniziando a pensare che Lilith potrebbe essere fatta da Lady Gaga perché in meta sarebbe troppo incredibile e beh perfetto per come lei chiama i suoi fan che sono Little Monster ma anche perché lei è la regina del pop chiaro scusa in questo contesto narrativo Lady Gaga è la regina del pop forse Britney Spears se dovesse tornare dovrebbe cedere il posto ovviamente cioè deve andare Britney Spears però Lady Gaga ce la vedo bene con quella bella voce per Lilith ma detto ciò c'è tante anche queerness ci sono tante inclinazioni sessuali ci sono tanti argomenti tabù che vengono buttati lì come il bondage la tipa che dice a me piace quando mi fanno del male ma sono con una naturalezza che che toccano tanti punti a me piace molto quando si va un po' a sdoganare la repressione sessuale innanzitutto perché noi siamo schiavi italiani della repressione sessuale perché ci avevamo il Vaticano in casa e quindi di rimando ci arrivano le radiazioni da non si parla di sesso ma sei pazzo che si parla di sesso masturbazione ma siamo fuori poi eteronormativa non credo di aver visto mezza relazione etero che non è un problema così almeno ci abituiamo a vedere altro Zestia e Lecarmina non stanno insieme perché nella canzone dice cosa ti bodera my old friend ho mai pensato che stessero insieme in realtà io pensavo che fossero padre e madre invece no trorezza che dovrebbe esserci sempre sabacu sesso sesso vi dico no no chiaro Lilith che canta Judas santissimo iddio ma io ci tengo tra l'altro a fare una parentesi il fatto che io ti dica è il pop dei musical non è un giudizio negativo in senso stretto perché io non ho niente contro il pop ah niente io che però è una cosa che va sempre va sempre messa in in chiaro perché di solito quando si parla di gusti sulle opere di infattenimento c'è questo sotto su sottotono di in base ai tuoi gusti allora il tuo valore come persona è più o è meno se ti piace una cosa mainstream allora vali meno perché il mainstream è apprezzato dalla massa la massa è incolta e quindi se ti piacciono le cose che piacciono alla massa automaticamente sei poco colto c'è tutta quanta una matrice classista dietro questo tipo di ragionamento io sono molto contro avete la parola giusta il fare considerazioni di questo tipo banalmente perché non penso che le cose che mi possono piacere o che i gusti che posso avere in ambiti come le canzoni i film le serie eccetera eccetera possano definire il mio livello di istruzione o la mia capacità di analisi o in generale che tipo di interessi ho cioè nel momento in cui mi piace una cosa pop questo non esclude che mi possa piacere anche una cosa più ricercata che mi richieda più riflessione mentale più analisi più ragionamento fermo restando che comunque l'intrattenimento deve per forza essere impegnato questa è un'altra parentesi gigantesca però siccome nel mio caso specifico io so che le cose possono coincidere nello specifico nella musica a me piacciono cose commercialissime cose totalmente oscure sì mi piacciono tutte e due e mi è sempre andato molto di traverso il se ti piace una cosa pop se ti piace una cosa commerciale allora sei stupido per farla breve quindi nel momento in cui ti dico è una roba pop non ci vedo valore artistico non è una cosa di per sé negativa semplicemente se ti devo dire reputo quest'opera rivoluzionaria la risposta è no reputo quest'opera in grado di essere un caposaldo da cui possa nascere qualcosa di ulteriormente nuovo no perché in primis non è niente di nuovo quindi non vedo quest'opera come un tassello che fa evolvere il genere vedo quest'opera come qualcosa che si inserisce in un genere che ha già delle produzioni questo però non significa che valga di meno però su questo mi sa che non sono d'accordo sai nonostante sia la somma di tante cose derivative comunque ai miei occhi il modo sovvertivo super anche polemico con cui si abbattono anche tanti sterati perché ci ho visto tanta polemica nel sì sì vabbè l'inferno è il paradiso ma Adam è un coglione già lì mi sembra molto tipo facciamo cadere gli altarini l'hanno mischiato in un modo che io non avevo mai visto prima per farlo diventare pop perché i messaggi che ci sono al suo interno sono molto importanti che di solito il modo in cui vengono proposti sono dei pipponi e quindi non diventano pop i pipponi l'educazione alla non eteronormativa lo scardinare questo tipo di cose nei cartoni io di solito ce l'avevo ce l'avevo uno molto mascherata alla Steven Universe che comunque si è preso la bella merda Steven Universe si è preso la bella merda perché voleva piano piano insegnare ai bambini la teoria del gender così non ti spoilerò niente la situazione che si è creata è che hanno iniziato ad allontanare Steven Universe a marginalizzarlo perché ha i periquir e quindi ha avuto quell'effetto del sì sì ma alla fine ti vuole soltanto è pieno di filler giustamente ma Steven Universe non ha avuto l'effetto di Azmin perché la gente dopo un po' diceva vabbè ma i periquir sta roba no come se fosse una cosa ricercata per pochi Azmin ha fatto talmente rumore che quote però non è sei quasi uno sfigato se non lo guardi perché non sai di cosa parla la gente e il guardarlo in qualche modo ti fa entrare quei argomenti te li insegna bene cioè quello che c'è di insegnamento lì dentro non è nuovo ma il modo in cui l'hanno messo crea un movimento rivoluzionario che rende pop il pippone è poppone e io adoro sta cosa adoro questa cosa che Adam in paradiso è uno stronzo è pop ed è mainstream sucate perché adesso vi potete finalmente e demograficamente ricevere una risposta contraria al dove i buoni vanno in paradiso esiste un solo dio bla 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 il cristianesimo c'è una risposta contraria pop divertente che ti invita a ridere sul fatto che potresti anche considerare altre opzioni se tu volessi avere una libertà di pensiero è molto divertente avere un'opinione contraria e io questo lo trovo rivoluzionario perché il mix che ha reso quest'opera pop che la mette in un filistallo nel quale ci sono stati pochi prodotti soprattutto animati soprattutto ora che l'animazione è per bambini nonostante l'animazione sia per bambini gli adulti se lo vogliono guardare e non si guarderanno Steven Universe allora il popone specifico che il discorso che ti ho fatto per me rimane assolutamente valido se stiamo parlando di cosa aggiungere panorama musicale ok e grazie che valore ha come qualità di sceneggiatura ok cioè io continuo a pensare che sia un ok non un'eccellenza perché nel panorama musicale secondo me non aggiunge niente ok e come qualità di sceneggiatura item a livello di contenuti a me manca il contesto quindi non posso rendermi conto di quale sia il resto del panorama dell'animazione per tutti ah eeeh come dire cioè se tu mi dici che così per i godomens è vero è vero anche godomens secondo me è un buon un buon un buon contraltare me lo si ferà fatto cagarissimo non ho visto però godomens sono un buon contrattare ma non è animazione quindi eeeh qui non lo so cioè no Price non dico che è il primo è il come posso dire adesso va di moda mh pensarla in quel modo cioè hanno reso pop il pensiero non so come dire quando la massa si omologa di solito eeeh l'opinione comune su cui si omologa è molto pigra non è un'opinione dove c'è tanto retropensiero altrimenti sarebbe il pippone cioè se io devo pensare bene quando una persona ti dico guarda adesso ti spiego che cos'è l'eteronormativa e ti spiego come mai i prodotti ti stanno portando a farti credere che se vedi un etero è normale se vedi un gay no già lì ti si sono alzate le difese oh mio dio femminista cioè capisci qual è la barriera che adesso si deve superare a parte che è sempre molto più difficile ma la paura che una cosa del genere molto importante da sentire non venga ascoltata è sempre più alta e questo io per quello dico che è rivoluzionario beh oddio non è Casmin sia la prima creativa che ha sofferto le regole del cristianesimo non è quello è stato Tobia e lo Stencio e grazie mille dei 42 mesi bentornato no allora sì sono d'accordo che sia un un misunderstanding non hai detto che sia la prima opera che lo fa stavamo parlando di risonanza in in contesto pop sì su quanto funzioni dobbiamo dobbiamo vedere cioè su quanto effettivamente le cose che butta lì a livello contenutistico possano attecchire vedremo io rimango con delle riserve perché comunque se da una parte apprezzo la naturalezza con cui ti mettono giù cose come tutto quanto il discorso sulla sessualità o la depressione dall'altra la quarta puntata e basta anche solo quella la quarta puntata è l'unica che sta da questo punto però il fatto che lo facciano con una superficialità e una velocità e una tranne la quarta puntata cioè se fosse stato fatto tutto con il ritmo della quarta puntata allora ti avrei detto che è un'opera rivoluzionaria perché è scritta da dio e con il successo che sta avendo può fare la differenza il fatto che non ti possa dire sinceramente è scritta da dio perché non lo penso mi lascia avere il non lo so se può fare la differenza non lo so se può essere rivoluzionaria perché è vero che è mainstream tanto quanto può bastare per fare la differenza ma non so se i messaggi che vuole far passare riescano a passare perché trovo che siano espressi male ah male addirittura non bene cioè trovo che ci siano non stiamo giocando male ma nemmeno bene cioè non trovo che ci siano delle sufficiente spessore a livello di sceneggiatura per far passare bene alcuni messaggi se non la quarta puntata se non la quarta puntata dimostra che volendo lo possono fare quello vediamo quello vediamo c'è già confermata la seconda season vediamo io spero che nella seconda season mettano un terzo di quello che avevano previsto di metterci e che duri comunque uguale quindi spero che se la prendano più con calma perché se avessero trattato i personaggi con la stessa cura con cui hanno trattato Angel Dust e Ask saremmo parlando di una serie diversa però non l'hanno fatto cioè è la quarta puntata appunto dimostra che lo possono fare ma dimostra anche che non l'hanno fatto io credo che al momento allora ti rispondo una cosa alla volta quanto è stato sovvertivo cioè quanto è stato Game Changer questo cartone è una delle pochissime serie se non credo l'unica che a un certo punto nel mondo intero era al primo posto ok su Amazon Prime ok contemporaneamente non credo si sia mai registrato una cosa del genere se non sarebbe meritato Gli ma quella è un'altra storia quindi sì l'impatto è stato enorme e per Amazon Prime è un big deal adesso Admin cioè Admin che fa questi numeri vuol dire che tutte le altre piattaforme di streaming si stanno mangiando le mani e probabilmente vorranno scavare nell'internet per trovare altri contenuti simili e non li troveranno se non credo Digital Circus è un'altra piccola cosina molto carina non ho idea di come descrivertela ma quando la guardo io vedo Five Nights at Freddy's ma non come stile come mascot horror ok questo termine me l'ha passato Poldo tra l'altro non è assolutamente mio quindi ci vedo anche del capitalismo che va a cercare delle teste nuove da internet alla quale non hanno dato un culo di euro mai un culo di reputazione nonostante il pilot è arrivato a 93 milioni di visualizzazioni prima di essere cacato neanche ti dico le visualizzazioni di Alluvaboss quindi anche questo cambia un po' le carte in tavola quindi rilevanza ce l'ho di base poi sulle puntate io ti dico mi viene da pensare che se hanno scritto la quarta e hanno la fede internetiana che noi conosciamo bene di stare molto attenti a guardarsi intorno e sentire i feedback le faranno tutte con la quarta ma io ve lo auguro non credo che non gli sia arrivato il messaggio si ma raga andate piano credo che ogni singola anima viva che ha parlato con Vivienne gli abbia detto avete feedback negativi sì sono troppo veloci è uscito da qualsiasi bocca quindi secondo me qualsiasi persona ha detto la quarta è magnifica fatevi tutte così per quello sono ottimista per quello penso proprio ma guarda a parte che gli auguro di riuscire effettivamente a sfruttare l'onda di successo che hanno avuto per far attecchire i messaggi che ci sono mi riservo del dubbio perché se avessi percepito una comunicazione più efficace avrei avuto mei dubbi però vediamo rimane cioè più un rammarico certo il vedere ah ma allora le sai fare a questo livello le cose però le hai fatte in una puntata su otto mi sedio male il puff ciao il puff grazie del tier 2 il puff è bacetto il puff è pazzo è pazzissimo è pazzissimo una volta è entrata in chat ha detto sulle mani mi ha mozzato tutte le mani e poi non ha fatto niente pazzissimo e quindi chiara all'all the head del ring cosa pensi madonna la storia è instagram che ridere la metrana ha detto che sarà molto esplorativa per quanto riguarda i background dei personaggi mono mono no vabbè ma si lo spero anche perché in realtà l'avrà capito che se si prende abbastanza tempo cioè la prima stagione è quella che ti fa decidere se poi dar retta tutto il resto no ora le aspettative sono altissime ma raga sono tantissimi anche i soldi cioè i soldi non è che mo deve arrivare amazon prime a dargli i soldi i soldi se li sono fatti punto cioè essere primi nel mondo contemporaneamente non solo un record ma c'è un sacco di gente che vorrà pagarli per invitarli da qualche parte pagarli il merchandise pagare i diritti per fare collaborazioni per magliette ci presti asbin perché vogliamo fare una serie di bershka con scritto asbin hotel ragazzi i soldi adesso arrivano e loro sono a posto quindi penso che se non scazzano quindi non si va a scendere penso che scazzino perché l'uva boss è assolutamente migliorato quindi sono stati in grado con un progetto gratis su internet di far vedere con stagioni più lunghe che cazzo è è l'uva boss la seconda stagione è un capolavoro allora ho cominciato a guardarlo e non ho continuato a guardarlo all'inizio è molto alla fantagenitore moltissimo sono arrivata la terza puntata credo guardando i titoli ti so dire da quale inizia a fare bene io te lo dico le prime le ho viste perché era molto divertente perché io amo il doppiatore di blitz perché è un youtuber comedian che si chiama Brandon si fa morire da ridere lui è bravissimo alzano molto il tiro dopo ma perché all'inizio era tanti anni fa e non sapevano quanto sarebbero andate avanti quanto è che hai gratis cioè io non so come fanno a pagarsi Hello Boss non ho idea con che diritti non mi aveva tirato i primi episodi però davvero animazioni spettacolari vi consiglio di tenerle in sottofondo e di arrivare a un certo punto in cui la finite perché potreste perdervi delle perle ma ci sta se non vi cioè non penso vi piacerà più della stagione di Azvin Hotel perché si parla di altri soldi con Azvin Hotel e soprattutto altre canzoni altri tempi altri tempi hanno un carisma diverso quelli di Hello Boss hai conosciuto Stolas? sì è già nelle prime puntate Stolas e Plizzo sono molto che arrivano molto poi arriverà Fizzarolli poi arriverà Asmodius Fizzarolli continua a venirmi fuori una canzone qual è? qual è il circo eh sì è una fan made Fizzarolli Ball se la conosco anch'io boh quando parte il direct sì no colpo grosso il direct era ieri in termini di tempistiche non c'era niente di fanno un remake di Epic Mickey Mouse Brushes Experience Futures Pizza Wars beh interessa solo a me il gioco di Topolino a me è piaciuto tanto quando ci gioco da piccola vorrei vederla tutti insieme ci vorrei molto a finire la seconda stagione secondo voi Marta non te lo consiglio il mio consiglio è vederla tutta non solo è molto divertente e stimolante parlarne con gli altri di questa di questa serie ti perdi tanto secondo me ma perché la seconda di El Lovapost sta uscendo adesso o parliamo della seconda di Asvin Hotel o parliamo della seconda di Asvin Hotel no e ragazzi le puntate di El Lovapost non hanno un'uscita fissa a volte escono una ogni tre mesi a volte una ogni sei tipo adesso non esce da un po' perché c'è Advin quindi sono tutti lavorando ad Asvin ogni tanto domani puntata esce la puntata capito per Asvin Hotel no ma che ma devi aspettare 2.25 ma perché ti vuoi fare del male no parlava di El Lovapost parla di El Lovapost guardatela tutta non lo so capisco il volersi vedere le cose tutte insieme lo comprendo però alla fine finisce che c'è altro e non te la vedi quindi a questo punto comunque me la vedrei ogni tanto ti metti che ne so fai tweet e dici oh eccola lì Fizzarolli ha la storia miglior design del El Lovapost Fizzarolli è incredibile ha un backstory eccezionale che poi Fizz e Serpentius beh Alex Brightman è fantastico detto ciò mi sa che chiudiamo così vai a dormire fino alle 6 noi invece siamo rimasti un'altra oretta perché abbiamo visto del Mario Kart Pupa è stato un piacere anche per me grazie mille vi è piaciuta Chiara la volete di nuovo in live molto più spesso potrebbe accadere ci faremo delle fiere assieme la tv dov'è la tv si sa probabilmente l'hanno rubata era qua sotto in strada speriamo ci sia ancora non lo so non l'abbiamo appoggiata lì in caso si Chiara mi manchi Chiara manchi a tutti carini grazie Pigo questi sono tuoi questi appena ci sei su Twitch e te li regalo a te te li rimando l'altro Pigo che finisce per regalare una Sabba Sigma c'è qualcuno che si chiama Sigma come Sigma Ruben c'è Ruben in chat e non mi saluta come devo dilurcare Ruben grazie Pigo dei 5 paramenti dove è Vox dove è Vox non è finito Vox grazie mille dove è eccolo eccolo Sigma certo che vorremmo Chiara ci vorrei più Chiara nel mondo nel mondo aspettateci ragazzi perché torneremo ovviamente guarda come ho cambiato immediatamente tono per non far sembrare questo torneremo in qualsiasi altra maniera Chiara torna ti preghiamo si tornerò verrò a raccontarvi delle canzoni ho trovato una serie di canzoni che hanno come titolo solo cioè hanno il titolo in codice morso madonna voi siete pazzi e quindi all'inizio di ogni canzone c'è il titolo fatto in codice morso e anche il nome della band è in codice morso e si chiama tipo erased tapes qualcosa del genere c'è tipo tracci perduto una cosa simile e sono andata a cercarmi info e si trovano solo su reddit fai conto quindi che che robe da roba particolare roba carina io queste cose le paragono mi viene solo una cosa in mente quelli che studiano moda allo IED di Milano fine o alla Naba non lo so perché è quel tipo che ascoltano solo gazzelle basta io ascolto un sacco di roba fra cui anche questa e quindi quando volete dei consigli di musica corsa dire che è una sabanca quarti per far condizio ti direi che Yusa mi ha detto che mi ne devo andare devo lasciare solo te ma guarda se potessi dormire durante la settimana io ringrazierei Dio sono sicura per impegno potrei seguire perché Dio ci tiene a farmi sapere che ok Lisi ma come dispiace hai fatto qualcosa di male mi sa sei veramente dolcissimo ma Pigo è la prima volta che scrivi in chat e mi hai regalato 5 sub ma che carino sei carinissimo sono tornato come si è fatto presente che c'era un siciliano ripenendo San Re e tu sei totalmente dissociata ma perché non ho mai detto in vita mia sta funcia di minchia quindi non posso definirmi siciliana se non parlo un po' di siciliano io studio moda ma non ascolto Cazzal e meno male perché è veramente noiosissima la canzone di San Re ma non se dovessimo avere a che fare un giorno ed essere amici in quel caso sarebbe fantastico perché mi rimangerei tutto odio dare delle opinioni in questo caso e lei mi manca Giordano se mi tocchiano belle ore durante la settimana ciao Giordano come va la schiena hai la schiena rotta bro chiara puoi dire devi leggerlo tu puoi dire a Roberta che deve segnarsi sul notion di avvisarmi quando mi dovrebbe chiamare che sono tipo due mesi che sto aspettando col telefono in mano e adesso non fai altro cosa ne devo fare chiamo aiuto ok va bene ti intervisti solo quelli che non sono ancora andati in Sanremo quindi bene è vero tutti quelli che ho intervistato ad un certo punto sono andati a Sanremo ho fatto Amazon Music 13 puntate sono andati a Sanremo Alfa il 3 vabbè Anna Lisa vabbè la Micheline a Luca ho intervistato i pinguini dattici nucleani nel 2019 un anno prima che andassi da Sanremo e poi e poi il Ricky mi sembra fosse un altro e li ho tutti mandati io a Sanremo intervista a Giulietta allora va bene quando vuole è la batterista di cui mi sono innamorata il mese scorso eh ma mi sa che i batteristi se non cantano non li fanno andare che buono mi stai dicendo che il mio KV in realtà lo odiavi ma non me l'hai detto capisco il tuo KV sta per curriculum cos'è il KV o no il mio KV se la nuova Pippo Baudo eh sì e Popponi l'ho inventato io no no l'indio ovviamente no scherzo scherzo Gazzella è un gran simpatico schieratottissimo domani esami di sangue tra settimane in visita per capire che finalmente che fare nel frattempo i teologici sono i migliori amici anche se che diventano dipendenti no no vieni nelle live di Twitch così almeno ti facciamo un po' di compagnia le KV visual scusami no no non dico le bugie dai non dirò mai più la verità questo non saprete mai qual è la verità e qual è la voglia mai più un bricello di onestà in questa live tornerà tutto non vi preoccupate tante cose in ballo mi sono arrivate 4 mail mentre parlavo con voi vi dico solo questo ti intervisto ma certo quando vuoi vi faccio tutti quelli che intervisto o passano l'esame o vanno a Sanremo quindi dipende cosa volete Chiara tornerà e nel caso in cui volesse avere uno spazio e avere compagnia è sempre la benvenuta qui mandami la quinta dai non ti preoccupare scrivimi qualcosa noi andiamo lei deve andare in bagno poi anche andare a cenare a godersi la tua nuova tipo ma in bagno e mettiamo la tua canzone preferita siiii che è schifo baby yeah let's go un ultimo saluto a Chiara grazie è stato divertentissimo soprattutto al The Ring no soprattutto nel momento Aswin e video di Wario no mi ha divertito guardarmi frame per frame al The Ring è stato divertente ma se vuoi farlo è stato più divertente di guardare la Nintendo Direct dirò la verità beh sì guarda quante persone anche i lurcherini salutati adesso che poi domani mi dite ma c'era Chiara oh ma porca miseria era mercoledì salutate ora ciao carini cambio schermata eh io la cambio io la cambio ragazzi 3 2 basta aah aah